il terzo anello ad alta voce memorie di adriano di margheriti ursenar introduzione di giorgio ficara buongiorno sono giorgio ficara parliamo oggi di margheriti ursenar le memorie di adriano e la prima cosa che in effetti mi colpisce leggendo anzi meglio rileggendo questo strano oggetto che non si sa bene che cosa sia romanzo romanzo saggio non romanzo saggio filosofico teoria del romanzo eccetera è una piccolissima dichiarazione che la ursenar pospone immediatamente dopo il 51 quando ha pubblicato il libro nei suoi tacquini proprio in riferimento a questa nozione di genere romanzesco dice oggi il romanzo divora tutte le forme poco a poco si è costretti a passarci questo studio cioè le memorie di adriano sul destino di un uomo che sia che si chiamò adriano nel diciassettesimo secolo sarebbe stata una tragedia all'epoca del rinascimento un saggio ecco questa idea di della ursenar cioè come dire della costrizione di un genere mi è sembrata piuttosto acuta a proposito di questa narrazione che contiene diverse diverse cose alla rinfusa come come una oglia podrida spagnola cioè contiene tante cose saggio ripeto avventura filosofia narrazione pura fisiologia eccetera eccetera e esprime però una cogenza una specie di coazione direi che nelle quali c'è molta aria del novecento c'è molto ortega e gassette nella idea sopra la novella c'è molto adorno c'è molto beniammi c'è molta teoria del romanzo dell'antiromanzo che in questo caso vengono assolutamente prese in considerazione cioè il romanzo in qualche modo è una specie di strettoia nella quale la ursenar si vede costritta a passare per fare come dire per introdurre i suoi argomenti il romanzo è in una strettoia ma è anche una possibilità una prescrizione conoscitiva cioè come diceva ortega in quel vecchio saggio del 25 che probabilmente la ursenar in mente cioè idea sopra la novella idea sul romanzo e in effetti il romanzo proprio in questo momento di quasi agonia preagonico che sarà la seconda metà del novecento e al massimo delle sue possibilità conoscitive ecco proprio al massimo di queste possibilità conoscitive noi situiamo la storia di questo strano imperatore Adriano con tutto quello che questa cosa che noi chiamiamo così romanzo sulla scia di questa indicazione da ursenar contiene cioè contiene fisiologia queste osservazioni mirabili che fa la ursenar per esempio sul sonno attraverso sempre per bocca di Adriano che scrive a Marco Aurelio nella finzione di questo essè romanzesco il sonno che ha una specie di tuffo in un oceano in cui ci vengono incontro i morti e poi la narrazione che è i parenti per esempio il vecchio avo marullino che è una specie di astrologo e mago e poi le avventure vere e proprie c'è quella bellissima pagina sulla caccia al leone nell'oasi di Ammona che è vicino Alessandria d'Egitto che è degna veramente di un grande romanzo dell'ottocento c'è ci sono poi le sentenze questo tono apoftegmatico proprio che spesso è di questo imperatore che ogni tanto ne dice una insomma è per esempio quella sul luogo natio ma il vero luogo natio dice cito a memoria è quello in cui noi per la prima volta conosciamo noi stessi non è dove siamo nato eccetera e poi quello che la maggior parte degli uomini compie il bene il male indifferentemente eccetera c'è questo tono continuamente sentenzioso un po' gnomico che percorre tutto questo romanzo e poi anche le osservazioni filosofiche per esempio l'immortalità dell'anima l'anima sarà veramente immortale come ci insegnano gli stoici oppure no oppure ci sono già qualche c'è qualche piccolo germe di razionalismo materialistico che in qualche modo si fa strada nella cognizione del mondo e dell'uomo di questo straordinario personaggio mio caro marco sono andato stamattina dal mio medico ermogene recentemente rientrato in villa da un lungo viaggio in asia bisognava che mi visitasse a digiuno ed eravamo d'accordo per incontrarci di primo mattino ho deposto mantello e tunica mi sono adagiato sul letto ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te quanto lo sono per me e la descrizione del corpo di un uomo che si inoltra negli anni ed è vicino a morire di un'idropisia del cuore diciamo solo che ho tossito, respirato, trattenuto il fiato secondo le indicazioni di ermogene allarmato suo malgrado per la rapidità dei progressi del male pronto ad attribuirne la colpa al giovane giolla che mi ha curato in sua assenza è difficile rimanere imperatore in presenza di un medico difficile anche conservare la propria essenza umana l'occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori povero amalgama di linfa e di sangue e per la prima volta stamane mi è venuto in mente che il mio corpo compagno fedele, amico sicuro e a me noto più dell'anima è solo un mostro subdolo che finirà per divorare il padrone basta il mio corpo mi è caro mi ha servito bene e in tutti i modi e non starò a lesinargli le cure necessarie ma ormai non credo più come finge ancora ermogene nelle virtù prodigiose delle piante nella dosatura precisa di quei sali minerali che ha andato a procurarsi in oriente è un uomo fine eppure mi ha propinato formule vaghe di conforto troppo ovvie per poterci credere sa bene quanto detesto questo genere di impostura ma non si esercita impunemente più di trent'anni la medicina perdono a questo mio fedele il suo tentativo di nascondermi la mia morte ermogene è dotto è persino saggio la sua probità è di gran lunga superiore a quella di un qualunque medico di corte avrò in sorte d'essere il più curato dei malati ma nessuno può oltrepassare i limiti prescritti dalla natura le gambe gonfie non mi sostengono più nelle lunghe cerimonie di Roma mi sento soffocare e ho sessant'anni sono giunto a quell'età in cui la vita è per ogni uomo una sconfitta accettata dire che ho i giorni contati non significa nulla è stato sempre così è così per noi tutti ma l'incertezza del luogo del tempo e del modo che ci impedisce di distinguere chiaramente quel fine verso il quale procediamo senza tregua diminuisce per me col progredire della mia malattia mortale chiunque può morire da un momento all'altro ma chi è malato sa che tra dieci anni non ci sarà più il mio margine d'incertezza non si estende più su anni ma su mesi le probabilità che io finisca per una pugnalata al cuore o per una caduta da cavallo diventano quanto mai remote la peste pare improbabile la lebra e il cancro sembrano definitivamente allontanati non corro più il rischio di cadere ai confini colpito da un'ascia caledonia o trafitto da una freccia partica le tempeste non hanno saputo profittare delle occasioni loro offerte e sembra avesse ragione quel mago a predirmi che non sarei annegato morirò a Tivoli o a Roma tutt'al più a Napoli e una crisi di asfissia sbrigherà la bisogna sarà la decima crisi a portarmi via o la centesima il problema è tutto qui come il viaggiatore che naviga tra le isole dell'arcipelago vede levarsi a sera i vapori luminosi e scopre a poco a poco la linea della costa così io comincio a scorgere il profilo della mia morte non vado più a caccia se non ci fosse altri che io a disturbarli mentre ruminano e giocano i caprioli dei monti d'etruria potrebbero vivere tranquilli con la diana delle foreste ho avuto sempre i rapporti mutevoli e appassionati d'un uomo con l'oggetto amato adolescente la caccia al cinghiale mi ha offerto le prime occasioni di conoscere l'autorità e il pericolo mi ci dedicavo con passione i miei eccessi in questo esercizio mi attirarono le rampogne di Traiano la spartizione della preda in una radura della Spagna è stata la mia prima esperienza della morte del coraggio della pietà per le creature e del piacere tragico di vederle soffrire uomo fatto la caccia mi rilassava da tante lotte segrete contro avversari di volta in volta troppo sottili o troppo ottusi troppo deboli o troppo forti per me è una lotta pari tra l'intelligenza umana e l'astuzia delle fiere e sembrava stranamente pulita in paragone con gli agguati degli uomini imperatore le cacce in Etruria mi sono servite per giudicare il coraggio o le capacità dei miei alti funzionari ivi ho scartato o prescelto più d'un uomo di stato più tardi in Bitinia in Cappadocia le grandi battute di caccia mi fornirono un pretesto di feste di trionfi autunnali nei boschi dell'Asia ma il compagno delle mie ultime cacce è morto giovane e il desiderio di questi piaceri violenti è molto scemato in me dopo la sua dipartita pure persino qui a Tivoli basta l'improvviso sbuffare di un cervo sotto le fronde perché trasalisca in me un istinto più antico di tutti gli altri grazie al quale mi sento gatto pardo quanto imperatore chissà forse sono stato così parco di sangue umano perché ho versato tanto quello delle fiere benché talvolta segretamente le preferissi agli uomini la loro immagine comunque mi torna alla memoria più spesso è difficile non abbandonarmi ogni sera a interminabili racconti di caccia che mettono a dura prova la pazienza dei miei invitati certo il ricordo del giorno della mia adozione mi è dolce ma quello dei leoni uccisi in mauritania lo vale il mio cavallo surrogava i mille concetti inerenti al titolo alla funzione al nome che complicano le amicizie umane con la sola conoscenza del mio peso esatto i miei slanci erano per metà suoi conosceva con precisione e forse meglio di me il momento in cui la mia volontà divergeva dalle mie forze ma non infliggo più al successore di Boristene il peso d'un malato dai muscoli afflosciati troppo debole per rissarsi in groppa da solo in questo momento il mio aiutante di campo Celere lo sta addestrando sulla strada di Preneste tutte le mie esperienze di velocità mi consentono di condividere il piacere del cavaliere e quello dell'animale di valutare le sensazioni di un uomo lanciato a briga sciolta in una giornata di sole e di vento quando Celere balza da cavallo io riprendo contatto col suolo insieme a lui lo stesso accade col nuoto io vi ho rinunciato ma partecipo ancora alla delizia del nuotatore carezzato dall'acqua correre perfino sul più breve dei percorsi oggi mi sarebbe impossibile quanto lo sarebbe a una statua massiccia a un cesare di pietra ma ricordo le mie corse di fanciullo sulle arse colline della Spagna il gioco che si fa con se stesso allorché trafelati sino ai limiti della resistenza si sa che il cuore saldo i polmoni intatti ristabiliranno l'equilibrio e provo con il più oscuro tra gli atleti che si allenano alla corsa di fondo nello stadio un'intesa che l'intelletto da solo non saprebbe darmi così da ciascuna delle arti che praticai a suo tempo traggo una conoscenza che mi compensa in parte dei piaceri perduti ho creduto e nei miei momenti migliori lo credo ancora che in tal modo si potrebbe partecipare all'esistenza di tutti e questa simpatia essere uno degli aspetti meno revocabili dell'immortalità ho avuto momenti in cui questa comprensione ha tentato di oltrepassare la sfera dell'umano si è rivolta dal nuotatore all'onda ma poiché in questo campo non c'è nulla di preciso a rendermi edotto entro nella sfera delle metamorfosi che appartengono al sogno mangiare troppo è un vizio romano io sono stato sobrio con volutà ermogene non ha dovuto modificar nulla del mio regime se non forse frenare l'impazienza che mi ha sempre fatto divorare ovunque in qualsiasi ora un cibo qualsiasi come per troncare d'un colpo le esigenze della fame un uomo ricco che non ha mai conosciuto altre privazioni che quelle volontarie o non ne ha sperimentate se non a titolo provvisorio come uno degli incidenti più o meno eccitanti della guerra e dei viaggi dimostrerebbe cattivo gusto se si vantasse di non satollarsi in pinzarsi i giorni di festa è stata sempre l'ambizione la gioia e l'orgoglio naturale dei poveri a Roma durante i lunghi pranzi ufficiali mi è accaduto di pensare alle origini relativamente recenti del nostro lusso a questo popolo di coloni parsimoniosi e di soldati frugali satolli d'aglio e di orzo improvvisamente immersi dalla conquista nelle delizie della cucina asiatica che ingozza manicaretti con la voracità rustica dei contadini i nostri romani si rimpinzano di cacciagione si inondano di salse e si intossicano di spezie in grecia se ne intendono di più quel vino che sa di resina quel pane al sesamo quei pesci girati sulla griglia in riva al mare anneriti irregolarmente dal fuoco insaporiti qua e là da un granello di sabbia che scricchiola sotto i denti si limitavano a placare l'appetito senza sovraccaricare di complicazioni il più elementare dei piaceri ho assaporato in qualche betola di egina o al falero cibi così freschi che restavano divinamente puliti a onta delle dita sudice dello sguatero che mi serviva così sovri ma al tempo stesso così sostanziosi che pareva contenessero nella forma più condensata possibile un'essenza di immortalità anche la carne arrostita la sera dopo la caccia conteneva questa qualità direi quasi di sacramento ci riportava indietro alle origini selvagge delle razze così il vino ci inizia ai misteri vulcanici del suolo ai suoi misteriosi tesori bere una coppa di vino di samo a mezzogiorno col sole alto o piuttosto sorseggiarlo una sera d'inverno quando si è in quello stato di fatica che consente di sentirlo immediatamente colare caldo nella cavità del diaframma e diffondersi nelle vene ardente e sicuro ah sono sensazioni quasi sacre persino troppo violente per la mente umana non le ritrovo altrettanto genuine quando esco dalle cantine numerate di Roma e mi spazientisce la pedanteria dei conoscitori di vigneti così con un gesto ancora più devoto bere l'acqua nel cavo delle mani o direttamente alla sorgente fa sì che penetri in noi il sale più segreto della terra e la pioggia del cielo ma oggi anche l'acqua è una volutà che un malato come me deve concedersi con misura non importa anche nell'agonia mescolata all'amaro delle ultime pozioni mi sforzerò di sentirne sulle labbra la freschezza in sapore nelle scuole di filosofia dove è di prammatica provare una volta per tutte ogni regola di condotta ho sperimentato per breve tempo il regime vegetariano e più tardi in Asia ho visto i ginnosofisti indiani volgere il capo alla vista degli agnelli fumanti e dei quarti di gazzella serviti sotto la tenda di Osroe ma questa astinenza nella quale si compiace la tua austerità giovanile esige attenzioni complicate più della golosità trattandosi di una funzione che si svolge quasi sempre in pubblico il più delle volte sotto il segno della pompa o dell'amicizia finirebbe per distinguerci troppo dagli altri ma preferisco nutrirmi tutta la vita di oca ingrassate e di galline faraone anziché farmi accusare dai commensali a ogni pasto di un'ostentazione di ascetismo confesso che la ragione si smarrisce di fronte al prodigio dell'amore strana ossessione che fa sì che questa stessa carne della quale ci curiamo tanto poco quando costituisce il nostro corpo preoccupandoci unicamente di lavarla di nutrirla e fin dove è possibile di impedirle che soffra possa ispirarci una così travolgente sete di carezze sol perché è animata da una individualità diversa dalla nostra e perché è dotata più o meno di certi attributi di bellezza sui quali del resto anche i giudici migliori sono discordi di fronte all'amore la logica umana è impotente come in presenza delle rivelazioni dei misteri ha vinto al corpo amato come un crocifisso alla sua croce ho appreso sulla vita segreti che ormai si dileguano nei ricordi per opera di quella stessa legge che impone al convalescente guarito di dimenticare le verità misteriose del suo male al prigioniero una volta libero di obliare la tortura e al trionfatore la gloria quando l'ebbrezza del trionfo è svanita a volte ho sognato di elaborare un sistema di conoscenza umana basato sull'erotica una teoria del contatto nella quale il mistero e la dignità altrui consisterebbero appunto nell'offrire al nostro io questo punto di riferimento di un mondo diverso in questa filosofia la volutà rappresenterebbe una forma più completa ma anche più caratterizzata dei contatti con l'altro una tecnica in più messa al servizio della conoscenza del non io anche nei rapporti più alieni dai sensi l'emozione sorge o si attua proprio nel contatto la mano ripugnante di quella vecchia che mi sottopone una supplica la fronte madida di mio padre nei suoi ultimi istanti la piaga detersa di un ferito persino i rapporti più intellettuali o più anudini si istituiscono attraverso questo sistema di segnali del corpo se un essere solo anziché ispirarci tutt'al più irritazione piacere o noia ci insegue come una musica e ci tormenta come un problema se trascorre dagli estremi confini al centro del nostro universo e infine ci diviene più indispensabile che noi stessi ecco verificarsi il prodigio sorprendente nel quale ravviso ben più uno sconfinamento dello spirito nella carne che un mero divertimento di quest'ultima opinioni come queste sull'amore possono indurre a una carriera di seduttore se non l'ho seguita senza dubbio dipende dal fatto che mi son dedicato a cose diverse se non migliori una carriera del genere in mancanza destro richiede una serie di attenzioni persino di stratagemmi per i quali non mi sentivo portato tendere insidie sempre uguali percorrere la solita strada che si limita a perpetui approcci e alla quale la conquista segna il traguardo sono cose che mi hanno tediato la tecnica del vero seduttore esige nel passaggio da un soggetto a un altro una disinvoltura un'indifferenza che io non provo e che comunque perdevo prima di abbandonarle intenzionalmente non ho mai compreso come si possa essere sazio di un essere umano la molteplicità delle conquiste contrasta con il desiderio di enumerare esattamente le ricchezze che ogni nuovo amore ci reca di osservarlo mentre si trasforma forse anche mentre invecchia di tutti i piaceri che lentamente mi abbandonano uno dei più preziosi e più comuni al tempo stesso è il sonno chi dorme poco o male sostenuto da molti guanciali ha tutto l'agio per meditare su questa voluta particolare ammetto che il sonno perfetto è quasi necessariamente un appendice dell'amore come un riposo riverberato riflesso in due corpi ma qui mi interessa quel particolare mistero del sonno goduto per se stesso quel tuffo inevitabile nel quale l'uomo ignodo solo inerme s'avventura ogni sera in un oceano nel quale ogni cosa muta i colori la densità delle cose persino il ritmo del respiro un oceano nel quale ci vengono incontro i morti nel sonno una cosa ci rassicura ed è il fatto di uscirne e di uscirne immutati dato che una proibizione bizzarra ci impedisce di riportare con noi il residuo esatto dei nostri sogni ci rassicura altresì il fatto che il sonno ci guarisce dalla stanchezza ma ce ne guarisce temporaneamente e mediante il procedimento più radicale riuscendo a fare che non siamo più evoco i sonni repentini sulla nuda terra nella foresta dopo estenuanti battute di caccia mi destava l'abbaiare dei cani o le loro zamperrite sul mio petto era un eclissi così totale che ogni volta avrei potuto ridestarmi diverso e mi sorprendevo mi dolevo a volte della disposizione rigorosa che mi riconduceva da così lontano nell'angusta particella di umanità che è la mia in che cosa consistono le caratteristiche alle quali torniamo di più se contano così poco per chi dorme e se per un istante prima di rientrare di mala voglia nel mio guscio di Adriano giungevo ad assaporare quasi coscientemente quell'uomo vuoto di sé quell'esistenza senza passato ma ci occupiamo tanto poco di un fenomeno che assorbe almeno un terzo dell'esistenza di ognuno di noi perché è necessaria una certa dose di modestia per apprezzarne i doni caio caligola e aristide il giusto si equivalgono nel sonno io depongo i miei vani e pomposi privilegi non mi distingo più dal guardiano negro che dorme di traverso davanti alla mia porta che cos'è l'insonnia se non la maniaca ostinazione della nostra mente a fabbricare pensieri ragionamenti sillogismi e definizioni tutte sue il suo rifiuto di abdicare di fronte alla divina incoscienza degli occhi chiusi o alla saggia follia dei sogni l'uomo che non dorme da qualche mese a questa parte offre in troppe occasioni di constatarlo su me stesso si rifiuta più o meno consapevolmente di affidarsi al flusso delle cose fratello della morte si ingannava esocrate e la sua frase non è altro che l'iperbole d'un retore comincio a conoscerla la morte essa cela altri segreti ben più estranei alla nostra attuale condizione di uomini e tuttavia questi misteri di assenza di oblio parziale sono così intricati e profondi che avvertiamo distintamente la sorgente chiara e quella oscura confluire chissà dove non mi è mai piaciuto guardare le persone che amavo mentre dormivano si riposavano di me lo so bene mi sfuggivano anche e non c'è uomo che non provi vergogna del proprio viso guasto dal sonno quante volte levandomi alle prime ore del mattino per studiare o per leggere ho riordinato con le mie mani quei guanciali spiegazzati quelle coperte in disordine testimonianze quasi turpi dei nostri incontri con il nulla prove che ogni notte non siamo già più poco a poco questa lettera cominciata per informarti dei progressi del mio male è diventata lo sfogo d'un uomo che non ha più l'energia necessaria per applicarsi a lungo agli affari dello stato la meditazione scritta ad un malato che dà udienza ai ricordi ora mi propongo ancor più ho concepito il progetto di raccontarti la mia vita come chiunque altro io non dispongo che di tre mezzi per valutare l'esistenza umana lo studio di se stessi è il metodo più difficile il più insidioso ma anche il più fecondo l'osservazione degli uomini i quali nella maggior parte dei casi si adoperano per nasconderci i loro segreti o per farci credere di averne e i libri con i caratteristici errori di prospettiva che sorgono tra le righe ho letto più o meno tutto quel che è stato scritto dai nostri storici dai nostri poeti persino dai favolisti benché questi ultimi siano considerati frivoli e son loro debitore di un numero di informazioni forse maggiore di quante ne abbia raccolte nelle esperienze purtanto varie della mia stessa vita la parola scritta ma insegnata ad ascoltare la voce umana pressa poco come gli atteggiamenti maestosi e immoti delle statue ma hanno insegnato ad apprezzare i gesti degli uomini viceversa con l'andar del tempo la vita ma chiarito i libri mi troverei molto male in un mondo senza libri ma non è lì che si trova la realtà dato che non vi è per intero l'osservazione diretta degli uomini è una norma ancora meno completa limitata com'è nella maggior parte dei casi alle constatazioni piuttosto grette di cui la maldicenza umana si pasce quel che sappiamo sul conto degli altri è quasi tutto di seconda mano se per caso qualcuno si confida non fa che perorare la sua causa la sua apologia è già pronta se lo osserviamo non è solo mi è stato rimproverato di leggere con piacere i rapporti della polizia di Roma vi scopro continuamente di che stupire amici o sospetti sconosciuti o familiari questa gente mi sorprende le loro follie mi servono di scusante alle mie non mi stanco mai di paragonare la persona tutta vestita all'uomo tutto nudo ma questi rapporti ingenuamente circostanziati aumentano il fascio dei miei documenti e non mi danno l'ombra di un aiuto per emettere un verdetto quanto all'osservazione di me stesso mi ci costringo non fosse altro che per entrare a far parte di questo individuo in compagnia del quale mi toccherà vivere fino all'ultimo giorno ma una familiarità che dura da quasi sessant'anni comporta ancora parecchie probabilità di errore nel profondo la mia conoscenza di me stesso è oscura interiore inespressa segreta come una complicità dal punto di vista più impersonale e gelida tanto quanto le teorie che posso elaborare sui numeri mi valgo di quel po' di intelligenza che ho per esaminare più dall'alto da lontano la mia vita che in tal modo diventa la vita di un altro ma questi due procedimenti della conoscenza di sé sono difficili ed esigono l'uno che ci si cali entro se stessi l'altro che ci si ponga all'esterno per inerzia tendo come tutti a sostituirvi mezzi meramente consuetudinari un'idea della mia vita parzialmente modificata dall'idea che se ne forma il pubblico giudizi bellefatti cioè a dire malfatti come un modello già preparato sul quale un sarto maldestro adatti a fatica la nostra stoffa strumenti di valore ineguale utensili più o meno logori ma non ne possiedo altri me ne servo per foggiarmi alla meglio un'idea del mio destino d'uomo quando prendo in esame la mia vita mi spaventa di trovarla informe l'esistenza degli eroi quella che ci raccontano è semplice va diritta al suo scopo come una freccia e gli uomini per lo più si compiacciono di riassumere la propria esistenza in una formula talvolta un'ostentazione talvolta una lamentela quasi sempre una recriminazione la memoria compiacente compone loro un'esistenza chiara spiegabile la mia vita ha contorni meno netti come spesso accade la definisce con maggiore esattezza proprio quello che non sono stato buon soldato non grande uomo di guerra amatore d'arte non artista come credette d'essere Nerone alla sua morte capace di delitti ma non carico di delitti si direbbe che il quadro dei miei giorni come le regioni di montagna si componga di materiali diversi agglomerati alla rinfusa vi ravviso la mia natura già di per se stessa composita formata in parti uguali di cultura e distinto affiorano qua e là i graniti dell'inevitabile dappertutto le frane del caso mi studio di ripercorrere la mia esistenza per ravvisarvi un piano per individuare una vena di piombo o d'oro il fluire di un corso d'acqua sotterraneo ma questo schema fittizio non è che un miraggio della memoria di tanto in tanto credo di riconoscere la fatalità di un incontro in un presagio in un determinato susseguirsi di avvenimenti ma vi sono troppe vie che non conducono in alcun luogo troppe cifre che a sommarle non danno alcun totale in questa difformità in questo disordine percepisco la presenza di un individuo ma si direbbe che sia stata sempre la forza delle circostanze a tracciarne il profilo e le sue fattezze si confondono come quelle di un'immagine che si riflette nell'acqua io non sono di quelli che dicono che le loro azioni non gli assomigliano bisogna bene che le mie mi assomiglino dato che esse costituiscono la sola misura dell'essere mio il solo mezzo di cui dispongo per affidare me stesso alla memoria degli uomini e persino alla mia per esempio nel momento in cui scrivo mi sembra a malapena essenziale d'essere stato imperatore d'altronde i tre quarti della mia vita sfuggono a una definizione fornita dalle azioni il complesso delle mie velleità dei miei desideri persino dei miei progetti resta vago ed evanescente quanto un fantasma il resto la parte tangibile più o meno autenticata dai fatti si distingue poco più nettamente e gli avvenimenti si susseguono nel modo confuso dei sogni talora la mia vita mi appare banale al punto da non meritare non dico di scriverla ma neppure di ripensarvi a lungo e non è affatto più importante neppure ai miei occhi di quella del primo che capita talora mi sembra unica e perciò appunto senza valore inutile perché è impossibile adeguarla all'esperienza comune nulla vale a spiegarmela i miei vizi le mie virtù sono assolutamente insufficienti vi riesce di più la mia gioia ma a intervalli senza continuità e soprattutto senza un serio motivo quando tutti i calcoli astrusi si dimostrano falsi quando persino i filosofi non hanno più nulla da dirci è scusabile volgersi verso il cicaleccio fortuito degli uccelli o verso il contrappeso remoto degli astri il mio avo marullino credeva negli astri aveva molte nozioni per metà scientifiche per metà contadine quel misto di pregiudizi gretti e di antica saggezza che furono la caratteristica del vecchio catone ma catone fu per tutta la vita l'uomo del senato romano e della guerra contro cartagine l'autentico rappresentante della dura Roma repubblicana la rigidezza quasi impenetrabile di marullino traeva da più lontano da epoche più remote egli era l'uomo della tribù l'incarnazione d'un mondo ancestrale quasi pauroso di cui più tardi addia a ritrovarle vestigia presso i nostri necromanti etruschi aveva ricostruito dal giorno della nascita il mio destino una notte venne da me mi scosse per destarmi e mi preannunciò l'impero del mondo con quella stessa brusca laconicità con la quale avrebbe predetto un buon raccolto ai contadini della fattoria poi colto da diffidenza andò a prendere un fuscello incandescente dal focherello di sarmenti che alimentava per riscaldarci nelle ore fredde me lo avvicinò alla mano e lesse in quel rozzo palmo di undicenne non so quale conferma alle linee tracciate nel cielo il mondo per lui era un blocco unico una mano confermava gli astri tale annuncio mi stupì assai meno di quel che si potrebbe supporre qualsiasi bambino s'aspetta di tutto mio padre Elio Afro Adeliano era un uomo sopraffatto dalla virtù la sua vita era trascorsa in amministrazioni senza gloria in senato la sua voce non aveva contato mai contrariamente a quel che avviene di solito la carica di governatore d'Africa non l'aveva arricchito da noi nel municipio spagnolo di Italica si esoriva a comporre dissidi locali immune da ambizioni privo di gioie come avviene a tante che a questa maniera finiscono per contare sempre meno si era ridotto a dedicare un'attenzione maniaca alle piccole cose alle quali limitava i suoi interessi avevo dodici anni quando quest'uomo logorato ci lasciò e mia madre si chiuse in una vedovanza austera per il resto dei suoi giorni dal giorno in cui partì per Roma chiamatovi dal mio tutore non l'ho più rivista serbo intatto il ricordo rinverdito dal busto di cera sulla parete degli avi del suo viso allungato di spagnola soffuso ad una dolcezza malinconica aveva delle fanciulle di cadice i piccoli piedi calzati da sandali stretti e quella giovane matrona irreprensibile aveva il molle ancheggiare delle danzatrici della regione ho riflettuto spesso sull'errore che commettiamo nel supporre che un uomo una famiglia necessariamente partecipino alle idee o agli avvenimenti del secolo nel quale si trovano a vivere l'eco degli intrighi di Roma giungeva a malapena ai miei genitori in quell'angolo di Spagna benché all'epoca della rivolta contro Nerone per una notte mio nonno abbia offerto ospitalità a Galba mia sorella Paolina era seria taciturna quasi arcigna ed era andata sposa ancora giovane a un uomo vecchio la loro rettitudine era rigorosa ma si trattavano duramente gli schiavi non si avevano curiosità di nessun genere si badava ad avere su qualsiasi cosa l'opinione che si conviene a un cittadino romano tutte virtù se sono effettivamente tali che sarebbe toccato a me dissipare la convenzione ufficiale vuole che un imperatore romano sia nato a Roma ma io sono nato a Italica a quel paese arido e tuttavia fertile ho sovrapposto in seguito tante regioni del mondo la convenzione ha del buono dimostra che le decisioni dello spirito e della volontà hanno la meglio sulle circostanze il vero luogo natio è quello dove per la prima volta si è posato uno sguardo consapevole su se stessi la mia prima patria sono stati i libri in minor misura le scuole i metodi dei grammatici e dei retori forse sono meno assurdi di quel che mi apparissero allorché vi ero sottoposto la grammatica con quella sua mescolanza di regole logiche e di usi arbitrari fa pregustare ai giovani quel che gli offriranno in seguito le dottrine riguardanti la condotta umana il diritto o la morale tutti i sistemi nei quali l'uomo ha codificato la sua esperienza istintiva quanto alle esercitazioni di retorica nelle quali impersonavamo volta a volta Cersei e Temistocle Ottaviano e Marcantonio mi inebriarono mi sentii proteo imparai a penetrare volta a volta nel pensiero di ciascuno a comprendere che ciascuno si determina vive e muore secondo le proprie leggi la lettura dei poeti produsse in me effetti ancor più conturbanti non sono del tutto certo che conoscere l'amore sia più inebriante che scoprire la poesia quest'ultima mi trasformò l'iniziazione alla morte non mi inoltrerà in un mondo diverso più di quanto abbia fatto un crepuscolo virgiliano fino alla fine dei miei giorni sarò riconoscente a scauro per avermi costretto a studiare il greco per tempo ero ancora bambino quando tentai per la prima volta di tracciare con lo stilo quei caratteri di un alfabeto a me ignoto cominciava per me la grande migrazione i lunghi viaggi e il senso di una scelta deliberata e involontaria quanto quella dell'amore ho amato quella lingua per la sua flessibilità di corpo allenato la ricchezza del vocabolario nel quale a ogni parola si afferma il contatto diretto e vario della realtà l'ho amata perché quasi tutto quel che gli uomini hanno detto di meglio è stato detto in greco vi sono altre lingue lo so bene alcune sono pietrificate altre dovranno nascere ancora alcuni sacerdoti egiziani mi hanno mostrato i loro antichi simboli segni più che parole antichissimi conati di classificazione del mondo e delle cose idioma sepolcrale di una razza morta durante la guerra ebraica il rabbino Giosuè mi ha decifrato lettera per lettera alcuni testi di quella lingua di fanatici tanto invasati del loro dio da trascurare l'umano la bellezza di un'iscrizione latina votiva o funeraria non ha pari quelle poche parole incise sulla pietra riassumono con maestà impersonale tutto quel che il mondo ha bisogno di sapere sul conto nostro l'impero l'ho governato in latino in latino sarà inciso il mio epitaffio sulle mura del mio mausoleo in Rivaltevere ma in greco ho pensato in greco ho vissuto avevo sedici anni tornavo da un periodo di addestramento nella settima legione a Cilio Attiano il mio tutore ritenne opportuno farmi alternare con un periodo di studio quei mesi di vita rude e di aspre cacce ebbe il buon senso di lasciarsi persuadere da scauro a mandarmi ad Atene presso il sofista Iseo un uomo brillante dotato soprattutto di una rara capacità di improvvisazione Atene mi affascinò immediatamente lo studentello un po' goffo che io ero l'adolescente dall'animo schivo si trovò ad assaporare per la prima volta quell'aria viva quelle conversazioni rapide quell'andare a zonzo nelle lunghe sere rosate quella disinvoltura senza pari nella discussione e nella volutà ad onta delle leggende che vanno in giro sul mio conto ho amato assai poco la giovinezza e la mia meno di qualsiasi altra considerata in se stessa questa giovinezza tanto vantata il più delle volte mi appare come un'epoca ancora rozza della nostra esistenza un'età opaca informe malsicura e fuggevole va da sé che conosco un certo numero di eccezioni incantevoli a questa regola due o tre perfino ammirevoli delle quali tu Marco sei certo la più pura per quel che mi riguarda a vent'anni ero presso a poco come sono ora ma lo ero senza consistenza non tutto era cattivo in me ma tutto poteva esserlo il buono o il meglio respingevano il peggio non posso ripensare senza rossore alla mia ignoranza del mondo che pure credevo di conoscere alla mia impazienza a una sorta di frivola ambizione di avidità grossolana dovrò confessarlo nel bel mezzo dei mie studi ad Atene dove tutti i piaceri trovavano posto con misura rimpiangevo non già Roma in se stessa ma l'atmosfera del luogo dove si fanno e si disfanno continuamente le vicende del mondo il cigolio stesso degli organi della macchina del potere il regno di Domiziano volgeva la fine mio cugino Traiano che si era coperto di gloria sulle frontiere del Reno si atteggiava a grand'uomo del popolo la tribù spagnola si stabiliva a Roma non tutto era bello in quell'avvento di una classe media laboriosa che si affermava a sostegno di un cambiamento di regime imminente l'onestà politica vinceva la partita ma si serviva di stratagemmi alquanto loschi il senato affidando poco a poco tutte le cariche nelle mani di uomini suoi portava a termine l'esautoramento di Domiziano che ormai era agli ultimi aneliti gli uomini nuovi ai quali mi legavano vincoli di famiglia forse non erano poi tanto diversi da quelli che si accingevano a soppiantare erano più che altro meno insudiciati dal potere i cugini e i nipoti di provincia sospettavano solo qualche carica secondaria e si esigeva ancora che la occupassero con integrità ne toccò una anche a me fu innominato giudice del tribunale a cui erano demandate le questioni ereditarie da quella posizione modesta assistetti alle ultime fasi del duello a morte tra Domiziano e Roma in città l'imperatore aveva perduto autorità non si reggeva se non a colpi di esecuzioni e queste ne affrettavano la fine l'esercito al completo tramava la sua morte non compresi granché di quel duello ancor più mortale di quelli dell'arena mi contentavo di assistervi col disprezzo arrogante di un alunno dei filosofi verso il tiranno agli estremi e obbediente ai buoni consigli di Attiano feci il mio mestiere senza occuparmi troppo di politica non ero molto amato ma del resto che motivo c'era perché mi amassero alcuni tratti del mio carattere per esempio l'amore per l'arte passavano inosservati in uno studente di Atene e sarebbero stati più o meno generalmente ammessi nell'imperatore urtavano però in un funzionario in un magistrato ai primi passi della carriera il mio ellenismo faceva sorridere tanto più che secondo i casi me ne compiacevo e lo dissimulavo goffamente in senato mi chiamavano lo studente greco cominciava a crearsi la mia leggenda quel riflesso luccicante bizzarro fatto per metà dalle nostre azioni per metà di quel che di esse pensa il volgo non ch'io disprezzi gli uomini se lo facessi non avrei alcun diritto né alcuna ragione di adoperarmi a governarli so bene che sono vanitosi ignoranti avidi irrequieti capaci quasi di tutto pur di arrivare pur di farsi valere anche solo ai propri occhi o anche soltanto per evitare di soffrire lo so bene sono fatto anch'io come loro almeno in alcuni momenti o avrei potuto esserlo sono troppo tenue le differenze che scorgo tra gli altri e me perché continuo nel totale perciò faccio del mio meglio affinché il mio atteggiamento si discosti tanto dalla fredda albagia del filosofo quanto dall'arroganza del Cesare nella maggior parte degli uomini ho riscontrato scarsa fermezza nell'operare il bene ma altrettanta nel compiere il male la loro diffidenza la loro indifferenza più o meno ostile cedeva quasi troppo presto quasi in modo abietto e con eccessiva facilità si mutava in gratitudine in rispetto sentimenti del resto altrettanto effimeri persino il loro egoismo avrebbe potuto essere indirizzato a fini utili tuttora mi meraviglia che siano stati così pochi a odiarmi nemici accaniti ne avrò avuti due o tre e come sempre avviene in parte per colpa mia alcuni mi hanno amato e mi hanno dato molto più di quel che io non avessi diritto di esigere neppure di sperare da loro la loro morte a volte la loro vita e il dio che portano in sé spesso si rivela al momento della morte quasi tutti ignorano del pari in che cosa consista la loro autentica libertà e il loro vero servaggio imprecano alle loro catene a volte si direbbe che se ne vantino d'altro canto trascorrono il tempo in trasgressioni vane non sanno imporre a se stessi il gioco più lieve quanto a me ho cercato la libertà più che la potenza e quest'ultima soltanto perché in parte secondava la libertà quel che mi interessava non era una filosofia dell'uomo libero mi hanno sempre tediato tutti quelli che vi si provano ma bensì una tecnica volevo trovare la cerniera dove la nostra volontà si articola al destino dove la disciplina anziché frenarla a seconda la natura dato che in fin dei conti tutto consiste in un atto volitivo interiore lento insensibile tale da implicare anche l'adesione del corpo mi studiavo di raggiungere gradualmente questa condizione di libertà o di sottomissione quasi allo stato puro ma la conquista nella quale ho impegnato tutto me stesso la più ardua è stata quella della libertà di assentire io volevo lo stato in cui ero durante gli anni in cui dipesi dagli altri la mia sottomissione perdeva il suo contenuto amaro e persino indegno se mi adattavo a considerarla un esercizio utile ciò che avevo ero stato io a sceglierlo costringendomi soltanto a possederlo totalmente e ad assaporarlo quanto più possibile i lavori più aridi li eseguivo agevolmente solo che mi sforzassi a prenderci gusto se un soggetto mi ripugnava ne facevo argomento di studio avevo l'accortezza di ricavarne motivo di gioia di fronte a un caso imprevisto o disperato un imboscato un fortunale una volta prese tutte le misure concernenti gli altri facevo del mio meglio per rallegrarmi del caso per godere dell'imprevisto che mi si offriva e l'imboscata o la tempesta si inserivano senza fatica nei miei progetti o nei miei sogni persino immerso nella sciagura più tremenda ho percepito l'istante in cui lo sfinimento le sottraeva un poco del suo orrore in cui la facevo mia accettando di accettarla se mi capiterà mai di subire la tortura e si incaricherà la malattia senza dubbio di impormela non sono assolutamente certo di ottenere da me stesso a lungo l'impassibilità d'un trasea ma avrò almeno la risorsa di rassegnarmi ai miei lamenti e in questo modo con un misto di riserva e di audacia di sottomissione e di rivolta ben concertate di esigenze estreme e di concessioni prudenti ho finito per accettare me stesso se fosse durata troppo a lungo la vita di Roma mi avrebbe inasprito corrotto o logorato tornare alle armi mi salvò la vita militare comporta anch'essa qualche compromesso ma meno impegnativo partire per l'esercito significava viaggiare partii folle di gioia ero stato promosso tribuno alla seconda legione la diutrice trascorsi qualche mese ed un autunno piovoso sulle sponde dell'alto Danubio senz'altra compagnia che l'ultima opera di Plutarco in novembre fui trasferito alla quinta legione macedone a quartierata a quei tempi come tuttora alle foci di quello stesso fiume sulle frontiere della Mesia Inferiore la notizia dell'assassinio di Domiziano annunciata pochi giorni dopo il mio arrivo al campo non meravigliò nessuno e rallegrò tutti ben presto Traiano fu adottato da Nerva l'età avanzata del nuovo principe rendeva questa successione una faccenda di mesi al più tardi la politica di conquiste nella quale si sapeva che mio cugino si proponeva di impegnare i concentramenti di truppe che cominciavano a effettuarsi e il progressivo irrigidirsi della disciplina tenevano l'esercito in uno stato di fervore e di attesa il patriottismo romano la fede incrollabile nei benefici della nostra autorità su tutte le genti nella missione di Roma di governarle in quegli uomini del mestiere assumevano forme brutali alle quali non ero ancora a suo effatto alle frontiere proprio là dove sarebbe stato saggio usare diplomazia almeno sul momento per conciliarci alcuni capi nomadi i militari eclissavano completamente i politici le prestazioni obbligatorie e le requisizioni in natura davano luogo ad abusi di cui nessuno si sorprendeva più grazie alle discordie perpetue tra barbari la situazione a nord-est a conti fatti era la più favorevole che si potesse sperare dubito persino che le guerre ulteriori l'abbiano migliorata in qualche modo gli incidenti di frontiera ci provocavano scarse perdite preoccupanti solo perché reiterate riconosco però che quello stato di allarme permanente serviva almeno a tenere desto lo spirito di corpo tuttavia ero persuaso che si sarebbe riusciti con un dispendio minore ma esercitando maggiore e perspicacia a soggiogare alcuni capi ad attirarci le simpatie degli altri e stabilì di consacrarmi in particolar modo a quest'ultimo compito che tutti trascuravano mi ci spingeva la mia inclinazione verso tutto ciò che è esotico frequentare i barbari mi piaceva il vasto paese che si estende tra le bocche del Danubio e quelle del Boristene un triangolo del quale ho percorso almeno due lati vanta alcune tra le regioni più sorprendenti del mondo almeno per noi nati sulle rive del mare interno avvezzi ai paesaggi nitidi e aridi del sud alle colline alle penisole laggiù mi è accaduto di adorare la dea terra come qui adoriamo la dea Roma e non parlo tanto di cerere quanto di una divinità più antica anteriore persino alla scoperta delle messi il nostro suolo greco o latino sostenuto ovunque dall'ossatura delle rocce all'eleganza schietta d'un corpo virile la terra scita aveva l'opulenza un po' greve d'un corpo riverso di donna la pianura si confondeva con il cielo non finivo mai di stupirmi di fronte al miracolo dei fiumi quella vasta terra vuota rappresentava soltanto un declivio e un alveo i corsi d'acqua da noi sono brevi non ci si sente mai lontano dalle sorgenti ma quel flusso enorme che sfociava i nestuari intricati trascinava il fango di un continente sconosciuto i ghiacci di regioni inabitabili non c'è freddo più intenso di quello di un altipiano di Spagna ma laggiù mi trovavo faccia a faccia per la prima volta con l'inverno autentico nei nostri paesi esso non fa che apparizioni più o meno fugaci ma laggiù si insedia per periodi interminabili di mesi e più a settentrione si indovina immutabile senza inizio e senza fine traiano si trovava alla testa delle truppe nella Germania inferiore l'armata del Danubio mi inviò a recare i suoi rallegramenti al nuovo erede dell'impero mi trovavo a tre giorni di marcia da Colonia in piena Gallia quando durante la tappa della sera ci fu annunciata la morte di Nerva fui tentato di precedere il corriere imperiale e di recare io stesso la notizia del suo avvento a mio cugino partì al galoppo e viaggiai senza fermarmi in nessun luogo salvo a Treviri ove risiedeva mio cognato Serviano in qualità di governatore cenammo insieme la mente vacua di Serviano era piena di fumi imperiali quell'uomo tortuoso cercava di nuocermi o almeno di impedirmi di aver successo e almanacò di prevenirmi inviando un suo messo a Traiano due ore dopo al guado di un corso d'acqua subì un'aggressione i sicari ferirono la mia ordinanza e uccisero i nostri cavalli riuscimmo tuttavia a catturare uno dei nostri aggressori un antico schiavo di mio cognato e costui confessò ogni cosa Serviano avrebbe dovuto rendersi conto che non si ferma tanto facilmente un uomo risoluto di proseguire il suo cammino a men di non giungere fino al delitto davanti al quale la sua viltà indietreggiava mi toccò fare a piedi circa dodici miglia prima di incontrare un contadino che mi vendette il suo cavallo giunsi a colonia la sera stessa precedendo di poche lunghezze il messo di mio cognato questa singolare avventura ebbe successo e le accoglienze nell'armata furono ancora migliori l'imperatore mi trattenne presso di sé in qualità di tribuno della seconda legione la fedele aveva appreso la notizia del suo avvento con disinvoltura ammirevole se l'aspettava da tempo i suoi progetti non ne venivano modificati affatto restava quello che era stato sempre quel che sarebbe stato fino alla morte un capo delle forze armate ma la sua virtù consisteva nell'avere acquisito grazie a una concezione tutta militare della disciplina un'idea di quel che è l'ordine nello stato tutto si disponeva attorno a questa idea per lo meno agli inizi persino i suoi piani di guerra e i suoi progetti di conquista imperatore soldato sì ma non soldato imperatore non mutò nulla della sua vita la sua modestia non aveva bisogno né di affettazione né di boria mentre l'esercito faceva festa egli accettava le responsabilità nuove come una parte del suo lavoro quotidiano e mostrava la sua contentezza agli intimi con semplicità gli ispiravo scarsissima fiducia era mio cugino di ventiquattro anni più vecchio di me e dopo la morte di mio padre mio cotutore adempiva i suoi doveri verso la famiglia con la serietà che si usa in provincia pronto a far di tutto per promuovermi se ne ero degno ma a trattarmi con maggior rigore di chiunque altro se mi mostravo incompetente per le mie follie giovanili aveva mostrato un'indignazione non del tutto ingiustificata ma di quelle che si hanno solo tra parenti i miei debiti del resto lo scandalizzavano più delle mie sregolatezze altri aspetti della mia natura lo impensierivano uomo di scarsa cultura nutriva un rispetto commovente verso i filosofi e i letterati ma altro è ammirarli alla lontana altro avere al proprio fianco un giovane luogotenente invasato di letteratura ignorando dove si trovassero i miei principi i miei freni riteneva che ne fossi sprovvisto e alla merce degli istinti però non avevo commesso mai l'errore di trascurare il servizio la mia reputazione di ufficiale lo rassicurava ma per lui non ero che un giovane tribuno promettente da sorvegliare da vicino la prima spedizione contro i daci fu lanciata l'anno seguente io mi sono sempre opposto sia per inclinazione che per politica a tutte le guerre ma sarebbe stato troppo al di sopra o al di sotto dell'umano non inebriarsi per quelle grandiose imprese di Traiano visti nell'insieme a distanza quegli anni di guerra posso annovelarli tra quelli felici gli inizi furono duri o almeno tali mi parvero sulle prime occupai posti subalterni non avevo ancora guadagnato interamente la benevolenza di Traiano ma conoscevo bene il paese sapevo d'essere utile quasi a mia insaputa un inverno dopo l'altro un accampamento dopo l'altro una battaglia dopo l'altra sentivo crescere in me le obiezioni alla politica dell'imperatore obiezioni che in quell'epoca non avevo né il diritto né il dovere di esprimere ad alta voce e del resto nessuno mi avrebbe dato retta quanto più ero messo in disparte al quinto grado o addirittura al decimo tanto meglio conoscevo le truppe e partecipavo alla loro vita possedevo ancora una certa libertà d'azione o piuttosto consideravo con un certo distacco l'azione in se stessa cose che ci si permettono difficilmente una volta giunti al potere e varcati i trent'anni e avevo qualche vantaggio al mio attivo la simpatia per quel paese inclemente la passione per tutte le forme volontarie e del resto intermittenti di privazioni e di austerità ero forse il solo tra gli ufficiali giovani a non avere nostalgia di Roma più si prolungavano gli anni nel fango e nella neve più si mettevano in evidenza le mie qualità vissi laggiù tutta un'epoca di esaltazione straordinaria dovuta in parte all'influenza di un gruppo di luogotenenti che avevo intorno essi dalle più remote guarnigioni d'Asia erano venuti a conoscenza di strane divinità il culto di Mitra che allora era meno diffuso di quel che non sia divenuto dopo le nostre spedizioni contro i parti mi attirò qualche tempo con le esigenze di quell'arduo ascetismo che tendeva duramente l'arco della volontà con l'ossessione della morte del ferro e del sangue che elevava a livello di spiegazione del mondo i banali disagi della nostra esistenza di soldati nulla poteva contrastare di più con le opinioni che cominciavo a formarmi sulla guerra ma quei riti barbari che creano tra gli affiliati legami di vita e di morte lusingavano le fantasticherie più recondite di un giovane impaziente del presente incerto dell'avvenire e proprio per questo accessibile agli dèi fu iniziato in una torre di legno e di canna in riva al Danubio fu mio padrino Marcio Turbo un compagno d'armi ricordo che il peso del toro agonizzante fu lì per far crollare il pavimento a graticci sotto cui stavo per ricevere l'aspersione del sangue in seguito ho riflettuto ai pericoli che possono rappresentare per lo stato sotto un principe debole si fatte società segrete e ho finito per infierire contro di esse ma confesso che quando si è in presenza del nemico esse conferiscono agli adepti una forza quasi sovrumana ciascuno di noi era convinto di sfuggire ai limiti della propria umana condizione si sentiva se stesso e l'avversario simultaneamente simile al Dio di cui non sa più se muore nelle spoglie di bestia o se uccide sotto forma umana quei sogni bizzarri che a volte oggi mi sgomentano non differivano poi profondamente dalle teorie di Eraclito sull'identità dell'arco e del bersaglio allora mi aiutavano a tollerare la vita la vittoria e la sconfitta si mescolavano si confondevano erano raggi diversi d'una stessa luce solare quei fantidaci che calpestavo sotto gli zoccoli del cavallo quei cavalieri sarmati abbattuti in seguito nei corpo a corpo dove i nostri cavalli impennati si mordevano al petto ma era tanto più facile colpirli in quanto mi identificavo con loro se fosse rimasto abbandonato sul campo di battaglia il mio corpo spoglio delle vesti non sarebbe stato tanto diverso dal loro identico sarebbe stato l'urto dell'ultimo colpo di spada ti confesso qui pensieri singolari fra i più segreti della mia vita e un'ebbrezza strana che non ho mai più ritrovato esattamente sotto quella forma un certo numero di azioni brillanti che forse compiute da un semplice soldato non si sarebbero nemmeno notate mi procurarono una reputazione a Roma e una certa notorietà nell'armata la maggior parte delle mie sedicenti prudezze d'altro canto non erano che bravate inutili oggi vi scopro non senza vergogna la mia bassa voglia di successo a qualunque prezzo e di emergere insieme a quell'esaltazione quasi sacra di cui ti parlavo poc'anzi fu così che un giorno d'autunno traversai a cavallo il Danubio gonfiato dalle piogge avendo indosso l'armatura pesante dei militi batavi di questo fatto d'arme se tale si può chiamare il mio cavallo ebbe maggior merito di me ma quel periodo di eroiche follie mi ha insegnato a distinguere tra i diversi aspetti del coraggio quello che mi piacerebbe possedere sempre dovrebbe essere gelido indifferente scevro da qualsiasi esaltazione fisica impassibile come l'equanimità d'un dio non mi lusingo di averlo raggiunto mai in seguito mi sono servito d'una contraffazione di esso ma questa nei miei giorni peggiori non era che cinica non curanza della vita e in quelli migliori senso del dovere al quale mi aggrappavo ma ben presto per poco che durasse il pericolo l'uno o l'altro sentimento cedevano il posto a un delirio di intrepidità specie di strano orgasmo dell'uomo unito al suo destino all'età che avevo questo coraggio insensato persisteva incessante un essere ebbro di vita non pensa alla morte la morte non esiste ciascuno dei suoi gesti la nega se ne è colpito probabilmente non se ne accorge per lui essa non è che un colpo uno spasimo sorrido amaramente nel ripetermi che oggi su due pensieri uno lo dedico alla fine come se si dovessero far tante storie per convincere all'inevitabile questo nostro corpo logorato a quei tempi invece un giovane che avrebbe perduto molto a non vivere qualche anno di più rischiava il suo avvenire allegramente ogni giorno sarebbe facile mostrare quel che ti ho raccontato finora come la storia di un soldato troppo letterato che vuol farsi perdonare le sue letture ma semplificare così la prospettiva è falso regnavano in me di volta in volta personaggi diversi nessuno dei quali molto a lungo ma presto quello esautorato riconquistava il potere l'ufficiale meticoloso fanatico della disciplina pronto a dividere con gioia le privazioni della guerra con i suoi uomini il malinconico sognatore di dei l'amante pronto a tutto per un istante di ebrezza il giovane luogotenente altero che si ritira sotto la tenda studia le sue carte alla luce d'un lume e non fa mistero agli amici del suo disprezzo per come va il mondo fin anche il futuro statista ma non dimentichiamo neppure il cortigiano ignobile che per non dispiacere accetta di ubriacarsi alla tavola imperiale il giovincello che sentenzia dall'alto su ogni questione consicumera ridicola il parlatore frivolo capace di perdere un amico per una battuta il soldato che compie con precisione meccanica i suoi bassi compiti da gladiatore e ricordiamo pure quel personaggio vacuo senza nome senza posto nella storia ma che è me stesso tanto quanto tutti gli altri semplice zinvello delle cose non l'altro che un corpo disteso sul letto da campo distratto da un profumo preoccupato ad un soffio vagamente attento al ronzio incessante di un'ape poco a poco entrava in funzione un nuovo venuto un direttore di compagnia un regista conoscevo i nomi dei miei attori regolavo loro entrate e uscite plausibili tagliavo le risposte inutili evitavo con cura gli effetti volgari imparavo infine a non abusare del monologo poco a poco le mie azioni mi formavano i successi militari avrebbero potuto attirarmi l'invidia ad un uomo che fosse stato meno grande di Traiano ma il coraggio era la sola lingua che egli comprendesse immediatamente le cui parole gli parlassero al cuore finì per vedere in me un secondo se stesso quasi un figlio e nulla di ciò che avvenne in seguito potei mai separarci completamente da parte mia alcune riserve alle sue opinioni che nascevano in me furono messe in disparte per il momento almeno obliate al cospetto del suo mirabile genio militare mi è piaciuto sempre vedere un grande specialista al lavoro l'imperatore nel suo campo era di un'abilità ad una sicurezza senza pari messo alla testa della regione minervina la più gloriosa di tutte fui comandato a distruggere le ultime trincee del nemico nella regione delle porte di ferro accerchiata la cittadella di Sarmizzaghetusa entrai al seguito dell'imperatore nella sala sotterranea dove i consiglieri del re Decebalo si erano appena avvelenati durante l'ultimo banchetto ed ebbi dall'imperatore l'incarico di dar fuoco a quel singolare coacervo di morti la sera stessa tra i dirupi del campo di battaglia Traiano mi infilò al dito l'anello di diamanti che aveva ricevuto da Nerva e che era rimasto quasi il pegno della successione al potere quella notte mi addormentai contento la mia fama nascente diffuse sul mio secondo soggiorno a Roma quel sentimento d'euforia che avrei ritrovato più tardi molto più intenso durante i miei anni felici Traiano mi aveva dato due milioni di sesterzi da elargire al popolo erano naturalmente insufficienti ma ormai amministravo la mia fortuna piuttosto considerevole e le preoccupazioni finanziarie non mi angustiavano più avevo perduto in gran parte la mia bassa paura di dispiacere una cicatrice al mento mi fornì il pretesto per portare la barba corta dei filosofi greci nel vestire adottai una semplicità che accentuai all'epoca imperiale era passato per me il tempo dei braccialetti e dei profumi poco importa che quella sobrietà fosse ancora un atteggiamento mi abituavo lentamente alla privazione per se stessa e al contrasto che mi colpì poi tra una collezione di pietre preziose e le mani nude del collezionista per parlare ancora dei miei abiti durante l'anno in cui ebbi la carica di tribuno della plebe mi capitò un incidente dal quale furono tratti presagi un giorno in cui dovevo parlare al pubblico e pioveva a dirotto perdetti il mantello da pioggia di grossa lana gallica costretto a pronunciare il discorso con una toga nelle cui pieghe l'acqua si raccoglieva come in una grondaia mi passavo senza posa la mano sulla fronte per scacciare la pioggia che mi riempiva gli occhi raffreddarsi a Roma è un privilegio da imperatore dato che con qualsiasi tempo gli è interdetto di coprirsi eccetto che con la toga da quel giorno la rivenditrice dell'angolo e il mercante di cocomeri giurarono sulla mia assunzione al trono si parla spesso dei sogni della giovinezza si dimenticano troppo i suoi calcoli sono sogni anch'essi e non meno folli degli altri non ero il solo a farne durante quel periodo delle feste romane tutto l'esercito si avventava sulle onorificenze assunzi con sufficiente buon umore la parte dell'ambizioso una parte che non ho mai recitato a lungo con convinzione né senza aver bisogno dei servigi costanti di un suggeritore accettai di adempiere con lo scrupolo più onesto la funzione noiosa di segretario del senato seppi rendere tutti i servigi utili lo stile laconico dell'imperatore mirabile al fronte era insufficiente a Roma l'imperatrice i cui gusti letterari si avvicinavano ai miei lo convinse a lasciare a me il compito di scrivergli i discorsi fu quello il primo dei buoni uffici che Plotina mi rese ci riuscì benissimo dato che avevo l'abitudine a quel genere di cortigianerie al tempo dei miei difficili inizi avevo redatto spesso per qualche senatore accorto di idee o di frasi tornite orazioni di cui finivano per credersi autori a lavorare allo stesso modo per Traiano provavo un piacere esattamente identico a quello che mi avevano dato adolescente gli esercizi di retorica solo nella mia camera mentre ne provavo gli effetti allo specchio mi sentivo imperatore se vogliamo imparavo a esserlo audace di cui non mi sarei creduto capace diventavano agevoli quando avrebbe dovuto addossarsele un altro presi familiarità col pensiero dell'imperatore semplice ma disarticolato e perciò oscuro mi ludevo di conoscerlo meglio di quel che non si conoscesse lui stesso mi piaceva scimmiottare lo stile militare del capo udirlo in senato pronunciare frasi che sembravano tipicamente sue e di cui ero io il solo responsabile altre volte se Traiano restava in camera ebbi l'incarico di leggere io stesso quei discorsi dei quali egli non prendeva nemmeno più visione e il mio modo di pronunciarli impeccabile ormai faceva onore alle lezioni dell'attore tragico olimpio queste funzioni quasi segrete mi valsero l'intimità dell'imperatore persino la sua fiducia ma l'antica antipatia perdurava essa aveva ceduto momentaneamente al piacere che prova un principe ormai avanti negli anni a vedere un giovane del suo stesso sangue iniziare una carriera che egli immagina con qualche ingenuità destinata a continuare la sua l'imperatore detestava distinto i subalterni indispensabili sarebbe stato più disposto a comprendere da parte mia un misto di zelo e di irregolarità nel servizio a fuori ad essere irreprensibile gli apparivo quasi sospetto lo si poté constatare quando l'imperatrice credette di giovare alla mia carriera combinandomi un matrimonio con la nipote di Traiano a quell'età sabina non era completamente sprovvista di fascino ma questo matrimonio benché temperato da una lontananza quasi continua in seguito ha rappresentato per me una tale fonte di irritazioni e di fastidi che mi costa uno sforzo ricordare che fu un trionfo per un ambizioso ventottenne qual ero ero più che mai di famiglia fui costretto più o meno a viverci ma tutto mi spiaceva in quell'ambiente salvo il bel viso di plotina le comparse spagnole i cugini di provincia abbondavano alla mensa imperiale così come li ritrovai più tardi ai pranzi di mia moglie durante i miei rari soggiorni a Roma e non dirò neppure che li ritrovai invecchiati perché sembravano centenari già a quei tempi esalava da costoro una saggezza ottusa una specie di prudenza irrancidita la vita dell'imperatore era trascorsa quasi tutta alle armi conosceva Roma infinitamente meno bene di me metteva un lodevole impegno a circondarsi di tutto ciò che l'urbe gli offriva di meglio o che gli veniva presentato per tale il gruppo ufficiale degli intimi si componeva di uomini rispettabili per dignità e onorabilità ma di cultura un po' goffa di filosofia senza consistenza che non si spingeva al fondo delle cose non mi è andata mai molto a genio l'amabilità affettata di Plinio e l'inflessibilità sublime di Tacito mi pareva racchiudere una visione del mondo dal repubblicano reazionario fermo all'epoca della morte di Cesare i veri intimi erano d'una volgarità disgustosa il che per il momento mi evitò di correre ancora dei rischi usavo però la cortesia indispensabile verso tutte quelle persone tanto diverse deferente verso gli uni compiacente verso gli altri triviale quando occorreva abile ma non troppo la versatilità mi era necessaria ero multiforme per calcolo incostante per gioco camminavo su di un filo i corsi che avrei dovuto seguire non erano quelli di un attore ma di un acrobata in quell'epoca mi si rimproverò qualche adulterio con le patrizie due o tre di questi legami tanto biasimati durarono più o meno sino agli inizi del mio principato Roma incline alla dissolutezza non ha mai approvato l'amore in coloro che governano ne hanno saputo qualcosa Marcantonio e Tito le mie avventure erano più modeste ma dati i costumi che abbiamo non vedo come avrebbe fatto altrimenti a entrare in intimità con le donne un uomo che le cortigiane hanno disgustato sempre e che già era seccato a morte del matrimonio i miei nemici primo tra tutti quel detestabile serviano il mio vecchio cognato al quale l'aver trent'anni più di me consentiva di usarmi le sollecitudini del pedagogo unitamente a quelle della spia pretendevano che in quegli amori centrassero ambizione e curiosità più della passione vera e propria che l'intimità con le mogli mi introduceva a poco a poco nei segreti politici dei mariti e che le confidenze delle amanti equivalevano per me ai rapporti di pulizia di cui mi dilettai in seguito è ben vero che ogni legame di qualche durata finiva per procurarmi quasi inevitabilmente l'amicizia di un marito gracile o corpulento pretenzioso o timido quasi sempre cieco ma per solito ne cavavo scarso diletto e meno ancora profitto anzi devo pur confessare che certi racconti indiscreti che le mie amanti mi sussurravano nel talamo finivano per destare in me una simpatia per quei mariti tanto derisi e così incompresi quei legami piacevoli secondo donne esperte diventavano conturbanti se erano belle studiavo le arti mi familiarizzavo con le statue imparavo a conoscere meglio la venere di cnido e la leda tremante sotto il peso del cigno era il mondo di tibullo e di properzio malinconia ardori un po' manierati ma che stordivano come una melodia frigia baci furtivi sulle scale sciarpe fluttuanti sui seni commiate all'alba e certi di fiori lasciati sulle soglie la notizia delle incursioni sarmate giunse a Roma durante la celebrazione del trionfo di Traiano sui Daci questa festa differita per tanto tempo durava da otto giorni c'era voluto quasi un anno per far venire dall'Africa e dall'Asia gli animali selvatici che si volevano uccidere in massa nell'arena la strage di dodici mila velve lo sgozzamento metodico di diecimila gladiatori rendevano Roma un tetro luogo di morte quella sera mi trovavo sulla terrazza in casa di Attiano in compagnia di Marcio Turbo e del nostro ospite la città illuminata era orrenda nel suo giubilo fragoroso quella dura guerra alla quale Marcio e io avevamo consacrato quattro anni della nostra giovinezza diventava per la plebaglia un pretesto di vagordi avvinazzati un brutale trionfo di seconda mano non era opportuno far sapere al popolo che quelle vittorie tanto vantate non erano definitive e che un nuovo nemico calava sui nostri confini l'imperatore già tutto rivolto ai suoi progetti d'Asia si disinteressava quasi del tutto della situazione a nord-est e preferiva considerarla appianata una volta per sempre quella prima guerra assarmata fu presentata come una semplice spedizione punitiva io vi fui inviato con la carica di governatore della Pannonia e i poteri di generale in capo la guerra durò undici mesi e fu atroce ritengo tuttora che l'annientamento dei daci sia stato quasi giustificato non v'è capo di stato che tolleri di buon grado l'esistenza di un nemico organizzato alle porte ma il crollo del regno di Decebalo aveva creato in quelle regioni un vuoto nel quale si precipitarono i sarmati bande scaturite da chissà dove infestarono un paese devastato da anni di guerra arso e riarso dalle nostre truppe nel quale i nostri effettivi insufficienti mancavano di punti d'appoggio pollularono come vermi sul cadavere delle nostre vittorie sui daci i successi recenti avevano minato la nostra disciplina agli avamposti ritrovavo un po' la non curanza triviale delle feste romane alcuni tribuni mostravano una sicumera idiota di fronte al pericolo rischiosamente isolati in una regione di cui la sola parte di cui fossimo esperti era il nostro antico confine per seguitare a vincere facevano affidamento sul nostro armamento che vedevo scemare di giorno in giorno per effetto delle perdite e dell'usura e su rinforzi che non m'aspettavo di vedere arrivare ben sapendo che ormai tutte le nostre risorse sarebbero state concentrate contro l'Asia un altro pericolo cominciava a profilarsi quattro anni di requisizioni ufficiali avevano rovinato i villaggi dietro le linee sin dalle prime campagne daciche per ogni mandria di montoni o di buoi solennemente sottratti al nemico avevo visto sfilate innumerevoli di bestiame strappato ai civili se quello stato di cose perdurava si avvicinava il momento in cui le popolazioni contadine stanche di sopportare la nostra gravosa macchina militare avrebbero finito per preferire i barbari a noi le rapine delle soldatesche ponevano un problema forse meno essenziale ma più vistoso ero però abbastanza popolare per imporre senza timori le più rigide restrizioni alle truppe lanciai la moda ad un'austerità che praticai per primo inventai il culto della disciplina augusta che più tardi mi riuscì di estendere a tutto l'esercito rimandai a Roma gli imprudenti e gli ambiziosi che mi intralciavano il lavoro e in cambio feci venire qualche esperto di cui difettavamo fu necessario restaurare le opere difensive che l'orgoglio delle recenti vittorie ci aveva fatto stranamente trascurare abbandonai una volta per tutte quelle che sarebbe stato troppo costoso mantenere gli amministratori civili insediati solidamente nel disordine che segue ogni guerra passavano gradualmente al rango di capi semi-indipendenti capaci di qualsiasi esazione nei confronti dei nostri sudditi e di qualunque tradimento nei confronti nostri anche qui vedevo prepararsi in un avvenire più o meno prossimo le rivolte lo spezzettamento futuro non credo che eviteremo questi disastri così come non eviteremo la morte ma dipende da noi ritardarli di qualche secolo cacciai i funzionari incapaci feci giustiziari peggiori scoprì d'essere spietato il mio primo consolato fu anch'esso un anno di guerra una lotta segreta ma continua in favore della pace ma non la combattevo da solo prima del mio ritorno si era verificato nell'atteggiamento di Licinio Sura di Attiano di Turbo un cambiamento analogo a quello che si era prodotto in me come se a onta della severa censura che praticavo sulle mie lettere i miei amici mi avessero già compreso preceduto o seguito in altri tempi gli alti e bassi della mia sorte mi impacciavano soprattutto riguardo a essi paure impazienze che da solo avrei sopportato a cuor leggero si facevano opprimenti se mi vedevo costretto a celarle alla loro sollecitudine o infliggerne loro la confidenza mi risentivo di quell'affetto che li angustiava per me più di me stesso e che mai riportava a scoprire sotto le agitazioni esteriori l'essere tranquillo al quale nulla importa davvero e che per conseguenza può sopravvivere a tutto ma ormai mi mancava il tempo per interessarmi a me stesso come del resto per disinteressarmene calava nell'ombra la mia persona proprio perché il mio punto di vista cominciava a contare ciò che importava era che qualcuno si opponesse alla politica di conquiste ne valutasse le conseguenze e la fine e si preparasse se possibile a ripararne gli errori il mio posto alla frontiera mi aveva svelato un aspetto della vittoria che non figura sulla colonna traiana tornare all'amministrazione civile mi consentì di raccogliere contro i guerra fondai una documentazione ancor più decisiva di tutte le prove accumulate in guerra i quadri delle legioni e la guardia pretoriana per intero sono formati esclusivamente da elementi italiani quelle guerre lontane esaurivano le riserve di un paese già povero d'uomini quelli che non morivano erano perduti quanto gli altri per la patria vera e propria dato che venivano dislocati da autorità nelle terre di recente conquista anche in provincia verso quell'epoca il sistema di reclutamento provocò gravi rivolte un viaggio in Spagna che intrapresi qualche tempo dopo per sorvegliare lo sfruttamento delle miniere di rame appartenenti alla mia famiglia mi provò il disordine che la guerra aveva condotto in tutti i rami dell'economia mi convinse pienamente al fine la fondatezza delle proteste degli uomini d'affari che frequentavo a Roma non avevo l'ingenuità di credere che dipendesse solo e sempre da noi evitare qualsiasi guerra ma volevo che si combattessero solo quelle difensive sognavo un esercito addestrato a conservare l'ordine sulle frontiere ero pronto a rettificarle purché fossero sicure qualsiasi ingrandimento nel già vasto organismo dell'impero mi faceva l'effetto di una escrescenza malsana un cancro un'idropisia che avrebbe finito per ucciderci nessuna di queste opinioni avrebbe potuto essere prospettata all'imperatore era giunto in quella fase dell'esistenza variabile per ciascuno in cui l'essere umano si abbandona al suo demone o al suo genio segue una legge misteriosa che gli ingiunge di distruggere o superare se stesso nell'insieme il suo principato era stato ammirevole ma le opere della pace alle quali lo avevano saggiamente indotto i suoi consiglieri migliori i progetti grandiosi dei legislatori e degli architetti avevano sempre contato meno di una sola vittoria la follia dello sperpero si era impadronita di quell'uomo che era ad una parsimonia lodevole quando si trattava delle sue esigenze personali l'oro dei barbari ripescato sotto il letto del Danubio i 500.000 lingotti del re Decebalo erano stati sufficienti a risarcire le elargizioni concesse al popolo le donazioni militari di cui avevo ricevuto la mia parte anch'io il lusso insensato dei giochi le spese iniziali dei grandiosi progetti militari in Asia queste ricchezze malefiche diffondevano una illusoria euforia sullo stato reale delle finanze quella fortuna che proveniva dalla guerra tornava a essere inghiottita dalla guerra in questo frattempo morì Licini Usura tra i consiglieri privati dell'imperatore era il più moderato la sua morte fu per noi una battaglia perduta per me Sura aveva mostrato sempre una sollecitudine paterna da qualche anno ormai le deboli forze che gli lasciava il male non gli consentivano più la diuturna fatica dell'ambizione personale ma gli furono sempre sufficienti a servire un uomo di cui condivideva le opinioni la conquista della rabbia era stata intrapresa contro i suoi consigli lui solo se avesse vissuto avrebbe potuto evitare allo stato le tribolazioni gli sperperi in mani della campagna contro i parti divorato già dalla febbre dedicava le sue ore insonni a discutere con me progetti che lo sfibravano ma il cui esito gli stava a cuore più che qualche briciola ancora di vita al suo capezzale ho vissuto in anticipo sino al più minuto particolare amministrativo alcune delle fasi future del mio regno le critiche di quell'agonizzante risparmiavano l'imperatore ma egli sentiva che quel po' di saggezza che restava al regime moriva con lui se avesse vissuto due o tre anni di più forse mi sarebbero state evitate certe vie traverse di cui fu improntata la mia scalata al potere sarebbe riuscito a persuadere l'imperatore a compiere l'adozione più presto allo scoperto ma le parole estreme di quell'uomo di stato che mi lasciava in eredità il suo compito arduo sono state per me un'investitura imperiale se aumentava il gruppo dei miei sostenitori altrettanto accadeva a quello dei miei nemici il più pericoloso dei miei avversari era l'usio quieto nelle cui vene scorreva sangue romano e arabo i suoi squadroni inumidi avevano avuto una parte considerevole nella seconda campagna dacica era un fautore esagitato della guerra in Asia tutto mi era detestabile in quell'individuo il lusso esotico gli svolazzi pretenziosi dei suoi veli bianchi orlati d'un cordone d'oro quei suoi occhi sfuggenti e insieme arroganti la sua crudeltà indicibile verso i popoli vinti e assoggettati quei capi del partito militare si decimavano tra loro nelle lotte intestine ma coloro che restavano non facevano che cementare sempre più il loro potere e io ero esposto sempre più alla diffidenza di Palma e all'odio di Celso la mia posizione personale per fortuna era quasi inespugnabile l'amministrazione civile era sempre più nelle mie mani da quando l'imperatore attendeva esclusivamente ai suoi progetti di guerra i miei amici i quali soltanto avrebbero potuto soppiantarmi per la loro capacità e la conoscenza degli affari dimostravano una modestia nobilissima preferendomi a se stessi Nerazio Prisco nel quale l'imperatore riponeva una grande fiducia si limitava ogni giorno di più deliberatamente alla sua attività legale Attiano organizzava la sua esistenza nella finalità di servirmi avevo la cauta approvazione di Plotina un anno prima della guerra fui promosso alla carica di governatore della Siria alla quale in seguito si aggiunse quella di legato presso l'esercito incaricato di controllare e di organizzare le nostre basi divenne così una delle leve di comando di un'impresa che giudicavo insensata esitai qualche tempo poi accettai rifiutare significava precludersi la strada maestra per il potere proprio in un momento in cui il potere mi stava a cuore più che mai e significava altresì privarsi dell'unica possibilità di rappresentare la mia parte di moderatore durante quei pochi anni che precedettero la grande crisi avevo preso una decisione che mi fece giudicare definitivamente frivolo dai miei nemici e che in parte aveva proprio lo scopo di suscitare tale giudizio e parare così ogni attacco ero andato a passare qualche mese in Grecia la politica almeno in apparenza non entrava per nulla in questo viaggio fu un'escursione di piacere e di studi ne riportai qualche coppa incisa e alcuni libri che divisi con plotina laggiù ricevetti tra tutti i miei onori ufficiali quello che accettai con gioia più viva fui nominato arconte di Atene mi concessi qualche mese di operosità e di svaghi facili di passeggiate in primavera sulle colline disseminate di anemoni di contatti amichevoli col marmo nudo occupavo da un anno la carica di governatore in Siria quando Traiano mi raggiunse ad Antiochia veniva a ispezionare gli ultimi preparativi della spedizione d'Armenia che nei suoi disegni preludeva all'attacco contro i parti l'accompagnavano come sempre Plotina e la nipote Matidia la mia indulgente suocera che da anni lo seguiva al campo in qualità di intendente Celso Palma Nigrino i miei vecchi nemici sedevano ancora nel consiglio e dominavano lo stato maggiore tutti costoro si accomodarono alla meglio nel palazzo in attesa che la campagna avesse inizio e ripresero con rinnovato vigore gli intrighi di corte ciascuno faceva il suo gioco in attesa che la guerra gettasse i suoi dadi l'esercito mosse quasi subito verso il nord e io vidi allontanarsi con esso la fitta calca di alti funzionari di ambiziosi e di inutili l'imperatore e il suo seguito fecero a Commagena una sosta di pochi giorni in occasione di feste già trionfali i piccoli re d'Oriente riuniti a Satala fecero a gara per protestargli una lealtà sulla quale al posto di Traiano non avrei fatto troppo affidamento per l'avvenire Lusio Quieto il mio rivale più pericoloso alla testa degli avamposti nel corso di una vasta incursione militare occupò le sponde del lago di Van la parte settentrionale della Mesopotamia evacuata dai parti fu annessa senza difficoltà Avgar il re d'Osroene fece atto di sottomissione a Edessa l'imperatore tornò ad Antiochia a occupare i suoi quartieri d'inverno rinviando a primavera l'invasione vera e propria dell'impero partico ma già deciso a non accettare alcuna proposta di pace tutto si era svolto secondo i suoi piani la gioia di tuffarsi finalmente in quell'avventura differita per tanto tempo restituiva quasi una nuova giovinezza a quell'uomo di 64 anni le mie previsioni però restavano cupe l'elemento ebreo e quello arabo erano sempre più ostili alla guerra i grandi proprietari delle province si irritavano di dover indennizzare le spese provocate dal passaggio delle truppe le città mal tolleravano l'imposizione di nuovi tributi sin dal ritorno dell'imperatore si verificò una prima sciagura preludio di tutte le altre un terremoto nel cuore di una notte di dicembre distrusse in pochi istanti quasi una metà di Antiochia Traiano contuso per la caduta d'un trave continuò eroicamente a occuparsi dei feriti e tra le persone più intime attorno a lui vi furono dei morti la plevaglia siriana subito andò a caccia dei responsabili del sinistro l'imperatore derogando per una volta dai suoi principi di tolleranza commise l'errore di lasciar massacrare un gruppo di cristiani personalmente ho pochissima simpatia verso quella setta ma lo spettacolo di quei vecchi frustati con le verghe e dei bambini torturati contribuì all'inasprimento degli spiriti e rese ancor più tetro quel sinistro inverno mancava il denaro per sanare immediatamente gli effetti della sciagura la notte si accampavano sulle piazze migliaia di persone senza tetto i miei giri di spezione mi rivelavano l'esistenza di un sordo malcontento di un odio segreto e insospettato dagli alti dignitari che ingombravano il palazzo e tra quelle rovine l'imperatore proseguiva i preparativi per la campagna imminente fu adoperata una foresta intera per la costruzione di ponti mobili e di pontoni per traversare il tigri l'imperatore aveva ricevuto con gioia tutta una serie di titoli nuovi decretati dal senato non vedeva l'ora di finirla con l'oriente per tornare a Roma da trionfatore il minimo indugio scatenava in lui furori che lo squassavano come attacchi persino le sue qualità erano invecchiate quella giovialità un po' goffa che in altri tempi mascherava un'autentica bontà ormai non era più che un vezzo triviale la sua fermezza si era mutata in ostinazione le sue attitudini per le decisioni immediate e pratiche in un totale rifiuto di pensare da secoli ci preoccupava il problema dell'oriente sembrava naturale risolverlo una volta per tutte i nostri scambi di derrate con l'India e con il misterioso paese della seta erano interamente alla merce dei mercanti ebrei e degli esportatori arabi i quali godevano la franchigia nei porti e sulle strade dei parti una volta annientato l'impero vasto e fluttuante dei cavalieri ersacidi avremmo avuto contatti diretti con quei ricchi confini del mondo l'Asia unificata finalmente sarebbe stata per Roma nient'altro che una provincia di più il porto di Alessandria d'Egitto era l'unico dei nostri spocchi verso l'India che non dipendesse dalla compiacenza dei parti anche lì ci trovavamo continuamente in urto con le esigenze e le rivolte delle comunità ebraiche il successo della spedizione di Traiano ci avrebbe consentito di ignorare quella città insicura ma tutte queste ragioni non mi avevano persuaso mai del tutto mi avrebbe soddisfatto di più qualche abile trattato commerciale e intravedevo già la possibilità di ridurre la funzione di Alessandria creando una seconda metropoli greca nelle vicinanze del Mar Rosso ciò che feci in seguito quando fondai Antinopoli l'Asia quel mondo tanto complesso cominciava ormai a conoscerlo i piani semplici di sterminio totale che erano riusciti in Dacia non erano attuabili in questo paese brulicante di una vita più molteplice dalle radici più profonde da essa dipendeva inoltre la ricchezza del mondo al di là delle offrate cominciava per noi il paese dei rischi e dei miraggi le sabbie ove si affonda le strade che finiscono senza metter capo in nessun luogo il minimo rovescio avrebbe prodotto come risultato una scossa al nostro prestigio tale che qualsiasi catastrofe avrebbe potuto derivarne non si trattava soltanto di vincere ma di vincere sempre e in questa impresa si sarebbero logorate le nostre forze aveva ragione Cesare a preferire di essere il primo in un villaggio che il secondo a Roma non per ambizione o per vanagloria ma perché chi occupa un ruolo secondario non ha altra scelta se non tra i pericoli dell'obbedienza quelli della rivolta e quelli ancor più gravi del compromesso e io non ero neppure il secondo a Roma l'imperatore in procinto di partire per una spedizione irta di pericoli non aveva ancora disegnato il suo successore ogni passo in avanti offriva un'occasione propizia ai capi di stato maggiore quell'uomo quasi ingenuo in quel momento mi sembrava più complicato di me stesso solo le sue asprezze mi rassicuravano l'imperatore mi trattava rudemente come un figlio in altri momenti mi aspettavo di essere soppiantato da palma o soppresso da quieto non appena fosse possibile fare a meno dell'opera mia ero privo d'ogni potere non mi riuscì neppure ad ottenere un'udienza per i membri influenti del sinedrio di Antiochia i quali temevano quanto noi i colpi di forza degli agitatori giudei ed erano in grado di illuminare Traiano sui maneggi dei loro correligionari non ottenne ascolto neppure latinio Alessandro un amico mio che discendeva da una delle più antiche famiglie reali dell'Asia minore e godeva di grandissimo prestigio sia per il nome sia per la fortuna Plinio inviato in Bitini a quattro anni prima vi era morto senza aver avuto il tempo di informare l'imperatore sullo stato esatto degli animi e delle finanze ammesso che il suo ottimismo incurabile glielo avrebbe concesso i liberti profittavano dei giorni di malessere che seguivano le serate di ubriachezza dell'imperatore per escludermi dalla sua camera mentre il consolare Celso un mio nemico una sera si chiuse con Traiano in un conciliavolo che durò per ore in seguito al quale mi credetti perduto mi cercai alleati dove potei corruppi a prezzo d'oro antichi schiavi che volentieri avrei mandato alle galere blandii ripulsive teste arricciate il diamante di nerva non sprizzava più nessuna luce fu allora che mi apparve il più saggio dei miei geni tutelari Plotina conoscevo l'imperatrice da quasi vent'anni appartenevamo allo stesso ambiente avevamo più o meno la stessa età l'avevo vista vivere senza scomporsi un'esistenza fatta di costrizioni quasi quanto la mia e più spoglia di avvenire nei momenti difficili mi aveva appoggiato senza avere l'area di accorgersene e la stessa ma in quelle giornate amare d'Antiochia la sua presenza mi divenne indispensabile come poi mi restò sempre la sua stima e la ebbi sino alla sua morte mi abituai a quella figura dalle candide vesti semplici quanto possono esserlo quelle di una donna ai suoi silenzi alle sue parole misurate che erano soltanto risposte le più precise che sia possibile in quel palazzo più antico degli splendori di Roma non era fuor di posto la sua figura quella donna d'estrazione recente era ben degna dei seleucidi eravamo d'accordo quasi su ogni cosa avevamo entrambi la passione di abbellire indi denudare le nostre anime di mettere il nostro spirito a prove d'ogni genere e la era incline alla filosofia di Epicuro quel giaciglio angusto ma pulito sul quale a volte ho disteso il mio pensiero anch'io il mistero degli dèi che per me costituiva un tormento non era motivo di inquietudine per lei e non provava neppure la mia attrazione appassionata per la carne era casta per disdegno delle cose facili generosa per elezione più che per natura saggiamente diffidente ma pronta ad accettare tutto da un amico persino gli errori inevitabili l'amicizia era un fatto elettivo per lei e vi si impegnava tutta intera vi si abbandonava totalmente come a me è accaduto solo con l'amore nessuno mi ha conosciuto quanto lei ho lasciato che vedesse cose che ho accuratamente dissimulate a chiunque altro per esempio qualche viltà segreta mi piace credere che anch'essa per parte sua non mi abbia taciuto quasi nulla l'intimità dei corpi che non è mai esistita tra noi è stata compensata da questo contatto di due spiriti intimamente fusi l'un con l'altro la nostra intesa non ebbe bisogno di confessioni di spiegazioni di reticenze i fatti bastavano da soli ed ella li osservava meglio di me sotto le trecce pesanti che la moda le imponeva la sua fronte pura era quella di un giudice la sua memoria servava un'immagine esatta degli oggetti più trascurabili non le capitava mai come a me di esitare troppo a lungo o di decidersi troppo presto le bastava un'occhiata per scoprire le piste dei miei avversari più nascosti e valutava i sostenitori con saggia freddezza a dire il vero eravamo complici ma chiunque avrebbe stentato a riconoscere tra noi gli indizi di un accordo segreto non commise mai l'errore grossolano di lamentarsi dell'imperatore con me né quello più sottile di scusarlo o di farne gli elogi da parte mia la mia lealtà non era messa in questione Attiano appena arrivato da Roma prendeva parte a quei colloqui che a volte duravano tutta la notte ma pareva che nulla stancasse quella donna fragile e imperturbabile era riuscita a far nominare consigliere privato il mio antico tutore eliminando così Celso mio nemico la campagna contro i parti si iniziava davvero le prime notizie furono lusinghiere Babilonia conquistata il Tigri traversato Ctesifonte caduta come sempre tutto cedeva alla maestria sorprendente dell'imperatore il principe dell'Arabia Caracena dichiarò la sua sottomissione aprendo così l'intero corso del Tigri alle flotte romane l'imperatore si imbarcò per il porto di Caraci in fondo al golfo persico approdava ai lidi favolosi le mie inquietudini perduravano ma le dissimulavo come delitti aver ragione troppo presto equivale ad aver torto peggio ancora dubitavo di me stesso ma ero macchiato di quella bassa incredulità che ci impedisce di individuare la grandezza in quelli che conosciamo troppo da vicino avevo dimenticato che certi esseri spostano i limiti del destino e mutano il corso della storia avevo bestemmiato contro il genio dell'imperatore là nel mio posto mi rodevo se per caso si fosse verificato l'impossibile poteva darsi che io ne fossi escluso dato che tutto era sempre più agevole della saggezza mi veniva voglia di tornare a indossare la cotta di maglia delle guerre sarmate di utilizzare l'influenza di plotina per farmi richiamare alle armi invidiavo al più umile soldato la polvere delle strade asiatiche l'urto con le falangi corazzate persiane questa volta il senato decretò per l'imperatore il diritto di celebrare non già un trionfo ma una serie intera di trionfi che sarebbero durati quanto la sua vita feci io stesso quel che si doveva fare ordinai feste e salì sulla vetta del monte Cassio a compiere sacrifici improvvisamente l'incendio che covava in quella terra d'oriente divampò dappertutto nello stesso istante qualche mercante ebreo si rifiutò di pagare l'imposta a Seleucia immediatamente Cirene si ribellò e l'elemento orientale massacrò i greci le strade che portavano il grano egiziano fino alle nostre truppe furono interrotte da una banda di zeloti di Gerusalemme a Cipro i residenti greci e i romani furono catturati dalla plevaglia ebrea che li costrinse a trucidarsi a vicenda combattendo da gladiatori in Siria riuscì a mantenere l'ordine ma scorgevo una fiamma nell'occhio dei mendicanti accasciati alla soglia delle sinagoge un ghigno sommesso sulle labbra tumide dei camellieri un odio che in fin dei conti non meritavamo sin dall'inizio giudei e arabi avevano fatto causa comune contro una guerra che minacciava di rovinare i loro traffici ma Israele ne profittava per scagliarsi contro un mondo dal quale lo escludevano i suoi furori religiosi la sua liturgia singolare l'intransigenza del suo dio l'imperatore rientrato in fretta a Babilonia ordinò a quieto di punire le città ribelli Cirene ed essa Seleucia le grandi metropoli elleniche dell'Oriente furono abbandonate alle fiamme in punizione dei tradimenti meditati durante le soste delle carovane o macchinati nei quartieri ebrei più tardi visitando città da riedificare ho camminato sotto colonnati cadenti tra lunghe file di statue infrante l'imperatore Osroe che aveva sobillato quelle rivolte prese immediatamente l'offensiva Abgarin sorse e rientrò ed essa ormai in cenere i nostri alleati armeni sui quali Traiano aveva creduto di poter contare prestarono manforte ai satrapi l'imperatore si trovò bruscamente al centro di un immenso campo di battaglia nel quale bisognava far fronte al nemico da ogni lato perdette l'inverno nell'assedio di Atra un nido d'aquile pressoché inespugnabile situato in pieno deserto che costò migliaia di morti al nostro esercito la sua ostinazione assumeva sempre più la forma di coraggio personale quell'uomo malato si rifiutava di lasciare la presa da Plutina sapevo che Traiano benché avvertito da una leggera paralisi si rifiutava di nominare il suo erede se questo imitatore di Alessandro fosse morto a sua volta di febbri o di intemperanze in qualche angolo malsano dell'Asia la guerra contro lo straniero si sarebbe aggravata di una guerra civile fra i miei partigiani e quelli di Celso o di Palma sarebbe scoppiata una lotta cruenta improvvisamente le notizie cessarono quasi del tutto ero prossimo ai 40 anni se fossi morto a quel momento di me non sarebbe rimasto null'altro che un nome tra una serie di alti funzionari e un'iscrizione in greco in onore dell'arconte di Atene in seguito tutte le volte che ho visto sparire un uomo giunto a metà della sua vita del quale il pubblico ritiene di poter valutare esattamente i successi e le sconfitte mi sono ricordato che a quell'età io non esistevo ancora se non per me e per pochissimi amici i quali certamente in qualche momento dubitavano di me come ne dubitavo io stesso ho compreso che ben pochi realizzano se stessi prima di morire e ho giudicato con maggior pietà le loro opere interrotte quell'ossessione di una vita mancata concentrava i miei pensieri su di un punto li fissava come un ascesso la mia sete di potere agiva come quella dell'amore che impedisce all'innamorato di mangiare di dormire di pensare di amare persino sino a che non siano stati compiuti certi riti sembravano vani i compiti più urgenti dal momento che mi era vietato assumere da supremo moderatore le decisioni riguardanti l'avvenire avevo bisogno di essere certo che avrei regnato per ritrovare il gusto d'essere utile quel palazzo d'antiochia dove pochi anni dopo avrei vissuto momenti di ebbrezza non era che un carcere per me forse il carcere d'un condannato a morte inviai messaggi segreti agli oracoli a giove a mone a castalia al giove d'olicheno feci venire dei maghi giunsi fino a far prelevare nelle celle di antiochia un criminale destinato alla crocifissione al quale uno stregone tagliò la gola in mia presenza nella speranza che la sua anima sospesa un istante tra la vita e la morte mi avrebbe svelato l'avvenire quel miserabile ci guadagnò di sfuggire a un'agonia più lunga ma le domande rimasero senza risposta la notte mi trascinavo da una finestra all'altra da un balcone all'altro attraverso le sale di quel palazzo dalle mura ancora screpolate dal terremoto tracciando calcoli astrologici sulle lastre di marmo interrogando le tremule stelle ma i segni dell'avvenire andavano cercati sulla terra finalmente finalmente l'imperatore tolse l'assedio ad atra e si decise a ritraversare le ufrate che non si sarebbe dovuto attraversare mai il caldo già torrido e le scorerie degli arcieri parti resero ancora più disastroso quell'amaro ritorno una torrida sera di maggio andai fuori le porte della città in riva all'oronte a incontrare quell'esiguo gruppo provato dalle febbri dall'angoscia dalla stanchezza l'imperatore malato a Tiano e le donne Traiano volle percorrere a cavallo il tragitto sino alla soglia del palazzo si sosteneva appena quell'uomo così pieno di vita sembrava un altro per l'approssimarsi della morte Crito e Matidia lo sostennero su per le scale lo condussero a distendersi presero posto al suo capezzale a Tiano e Plotina mi raccontarono alcuni incidenti della guerra di cui non avevano potuto farmi cenno nei loro brevi messaggi uno di questi racconti mi commosse tanto da iscriversi per sempre tra i miei ricordi più intimi i miei simboli personali non appena giunto a Caraci l'imperatore stremato era andato a sedersi sulla ghiaia a contemplare le torbide acque del golfo persico si era ancora all'epoca in cui non dubitava della vittoria eppure per la prima volta fu sopraffatto dall'immensità del mondo dal terrore della vecchiaia da quello dei limiti che ci rinserrano tutti grosse lacrime rigarono il volto di quell'uomo che si credeva incapace di piangere l'imperatore che aveva portato le aquile romane sull'idi inesplorati fino a quel giorno comprese che non si sarebbe imbarcato mai su quel mare tanto vagheggiato l'India la Batriana tutto l'Oriente scuro di cui si era inebriato a distanza sarebbe restato per lui un nome una visione l'indomani notizie funeste lo costrinsero a ripartire tutte le volte che il destino mi ha detto no ho ricordato quelle lacrime versate una sera su una sponda lontana da un vecchio che forse per la prima volta guardava in faccia la sua vita il giorno seguente salì dall'imperatore mi sentivo filiale fraterno verso di lui quell'uomo che si era sempre fatto una gloria di vivere e di pensare come un qualsiasi soldato del suo esercito finiva i suoi giorni in solitudine completa disteso sul letto seguitava a congetturare piani grandiosi ai quali non si interessava più nessuno come sempre il suo linguaggio arido e tagliente deformava il suo pensiero stentando enormemente a pronunciare le parole mi parlò del trionfo che gli si preparava a Roma negava la sconfitta così come negava la morte due giorni dopo ebbe un secondo attacco i miei conciliaboli ansiosi con Plotina con Attiano ricominciarono l'imperatrice nella sua previdenza aveva fatto elevare recentemente il mio vecchio amico alla posizione potentissima di prefetto del pretorio ponendo così la guardia imperiale ai nostri ordini per fortuna Matidia che non lasciava la camera del malato era tutta per noi del resto quella donna era semplice e molle come cera nelle mani di Plotina ma nessuno di noi osava rammentare all'imperatore che la questione della successione era tuttora insoluta forse come Alessandro aveva stabilito di non nominare da sé il proprio successore forse aveva assunto verso il partito di quieto impegni noti a lui solo o più semplicemente si rifiutava di prendere in considerazione la propria fine allo stesso modo in alcune famiglie si vedono vecchi ostinati morire senza aver fatto testamento non si tratta per loro di servare fino all'ultimo i loro tesori o il loro impero dal quale le dita intorpidite si vanno già staccando quanto piuttosto di non collocarsi troppo presto nella posizione di chi non ha più decisioni da prendere sorprese da suscitare minacce o promesse da fare ai vivi lo compiangevo eravamo troppo diversi perché potesse trovare in me quel continuatore docile vincolato in anticipo agli stessi metodi persino agli stessi errori che quasi sempre cerca disperatamente al letto di morte chi ha esercitato un'autorità assoluta ma il mondo attorno a lui era privo di uomini di stato io ero il solo che egli potesse prendere senza venir meno ai suoi doveri di buon funzionario e di grande sovrano quel capo abituato a esaminare attentamente lo stato di servizio dei suoi dipendenti era quasi costretto ad accettarmi e questa del resto era un'ottima ragione per odiarmi poco a poco la sua salute si ristabilì quanto bastava per consentirgli di uscire dalla camera parlava di intraprendere una nuova campagna ma non ci credeva nemmeno lui crito il medico che temeva per lui il caldo eccessivo riuscì finalmente a persuaderlo a imbarcarsi per Roma la sera che precedette la sua partenza mi fece chiamare a bordo della nave che doveva riportarlo in Italia e mi nominò comandante in capo in sua vece si impegnò fino a tanto ma non era l'essenziale contrariamente agli ordini ricevuti iniziai immediatamente in tutta segretezza trattative di pace con Osroe puntavo sul fatto che probabilmente non avrei avuto più da rendere conto all'imperatore non erano trascorsi dieci giorni che fui destato nel cuore della notte da un messaggero riconobbi subito un uomo di fiducia di Plotina mi recava due missive con una ufficiale mi si informava che Traiano non essendo in grado di sopportare il mare era stato sbarcato a Selinunte in Cilicia dove giaceva gravemente infermo in casa ad un mercante una seconda lettera segreta ma annunciava la sua morte che Plotina mi garantiva di tener nascosta il più a lungo possibile offrendomi così il vantaggio di essere avvertito per primo partì immediatamente per Selinunte dopo aver preso tutte le misure necessarie per esser sicuro delle guarnigioni siriache appena in cammino un nuovo messo mi annunciò ufficialmente il decesso dell'imperatore il suo testamento che mi designava a successore era stato appena allora inviato a Roma in mani sicure tutto quel che da dieci anni era stato febbrilmente bramato vagheggiato discusso o taciuto si riduceva ormai a un messaggio di due righe vergato in greco con mano ferma dalla scrittura minuta di una donna Attiano che era ad attendermi al mollo di Selinunte fu il primo ad apostrofarmi con il titolo di imperatore e qui nell'intervallo tra lo sbarco del vecchio imperatore malato e la sua morte si inserisce una di quelle successioni di avvenimenti che mi sarà sempre impossibile ricostruire e sulle quali tuttavia è fondato il mio destino quei pochi giorni trascorsi da Attiano e dalle donne in casa di quel mercante hanno deciso per sempre della mia esistenza ma di essi ne sarà in eterno lo stesso che d'un certo pomeriggio sul Nilo cioè non ne saprò mai nulla precisamente perché mi sarebbe stato a cuore saperne tutto l'ultimo dei pettegoli a Roma ha la sua opinione su questi episodi della mia vita e io al riguardo sono il meno informato degli uomini i miei nemici hanno accusato Plotina di aver profittato dell'agonia dell'imperatore per far vergare dal morente le poche parole che mi lasciavano il potere denigratori ancor più grossolani hanno descritto un letto chiuso da cortine alla luce incerta ad un lume e il medico Crito che dettava le ultime volontà di Traiano con una voce che imitava quella del morto si è sottolineato il fatto che la sua ordinanza fedima che mi odiava e il cui silenzio i miei amici non avrebbero a nessun prezzo potuto comprare molto opportunamente sia perito di febbri maligne l'indomani del decesso dell'imperatore in questi aspetti di violenza e di intrigo vi è qualcosa che colpisce l'immaginazione popolare e persino la mia non mi dispiacerebbe affatto che pochi uomini onesti siano stati capaci di giungere sino al delitto per me né che l'imperatrice sia stata trascinata a quel punto dalla sua dedizione ella conosceva i pericoli che comportava per lo stato una decisione mancata la onora abbastanza per credere che abbia consentito davvero a perpetrare una frode necessaria qualora ve l'abbiano spinta la saggezza il buonsenso l'interesse pubblico e l'amicizia in seguito ho avuto tra le mani quel documento contestato dai miei avversari con tanto furore non sono in grado di pronunciarmi pro o contro l'autenticità di quelle ultime parole di un malato certo preferisco supporre che Traiano in persona sacrificando i propri pregiudizi personali prima di morire abbia di sua volontà lasciato l'impero a colui che dopo tutto giudicava il più degno ma bisogna pur confessare che in questo caso importava più il fine che i mezzi l'essenziale è che l'uomo giunto comunque al potere in seguito abbia dimostrato che meritava di esercitarlo il corpo di Traiano fu cremato sulla spiaggia poco dopo il mio arrivo in attesa delle esegue trionfali che sarebbero state celebrate a Roma quasi nessuno presenziò a quella cerimonia estremamente semplice che ebbe luogo all'alba e fu solo l'estremo episodio delle lunghe cure domestiche rese dalle donne alla persona di Traiano ma Tidia piangeva calde lacrime la vibrazione dell'aria attorno al rugo confondeva i tratti di plotina calma distante leggermente consunta dalla febbre e la restava come sempre visibilmente impenetrabile a Tiano e Crito vigilavano affinché tutto fosse consunto per bene la piccola nube di fumo si dissolse nell'aria pallida di quel mattino senza ombre nessuno dei miei amici riandò agli incidenti dei pochi giorni che avevano preceduto la morte dell'imperatore evidentemente la loro parola d'ordine era tacere e la mia fu di non rivolgere domande pericolose quel giorno stesso l'imperatrice vedova e i familiari si imbarcarono per Roma io rientrai ad Antiochia accompagnato lungo il cammino dalle acclamazioni delle mie legioni una calma straordinaria era scesa su di me l'ambizione e la paura sembravano un incubo dileguato qualunque cosa avvenisse ero stato sempre deciso a difendere fino all'ultimo le mie probabilità di diventare imperatore ma l'adozione semplificava ogni cosa la mia vita non mi preoccupava più potevo nuovamente pensare al resto degli uomini la mia vita era rientrata nell'ordine non l'impero il mondo che avevo ereditato somigliava a un uomo nel fiore degli anni ancora robusto nel quale però l'occhio del medico scorge indizi impercettibili di logorio come chi è appena uscito dagli spasimi di una malattia grave si intavolarono nuovi negoziati di pace ormai alla luce del sole feci diffondere per ogni dove la voce che Traiano stesso me ne avesse affidato l'incarico prima di morire cancellai con un tratto di penna le annessioni pericolose non soltanto la Mesopotamia dove in ogni caso non avremmo potuto restare ma anche l'Armenia troppo eccentrica e lontana che serbai solo al rango di stato vassallo due o tre difficoltà un po' spinose che avrebbero fatto durare per anni una conferenza della pace se i principali interessati avessero avuto interesse a tirarla per le lunghe furono appianate grazie all'abilità del mercante Opramoas il quale godeva la fiducia dei satrapi cercai di infondere nell'avviare i negoziati quell'ardore che altri riserva al campo di battaglia forzai la pace il mio competitore d'altro canto l'anellava quanto me i parti non aspiravano ad altro che a riaprire le loro strade ai grossi traffici tra l'India e noi pochi mesi dopo la grande crisi ebbi la gioia di veder formarsi nuovamente la fila delle carovane in riva all'oronte le oasi si ripopolavano di mercanti che commentavano le notizie alla luce dei bivacchi e che ogni mattina insieme alle loro merci starei per dire caricavano per trasportarle in paesi sconosciuti parole pensieri costumi intimamente nostri che poco a poco avrebbero dilagato nel mondo in modo più sicuro che non le legioni in marcia la circolazione dell'oro il passaggio delle idee sottile come quello del sangue nelle arterie riprendevano nel grande corpo del mondo ricominciava a battere il polso della terra a sua volta la febbre della ribellione cedeva in Egitto era stata così violenta che era stato necessario reclutare in tutta fretta una milizia tra i contadini in attesa delle nostre truppe di rinforzo incaricai immediatamente marcio turbo di ristabilire l'ordine in quelle contrade ed egli lo fece con saggia fermezza ma non mi bastava l'ordine per le strade volevo se possibile ristabilirlo negli animi o meglio farcelo regnare per la prima volta un soggiorno di una settimana a Pelusa fu interamente dedicato a equilibrare i rapporti tra greci e giudei in uno stato di incompatibilità perenne non vidi nulla di quel che avrei desiderato vedere né le sponde del Nilo né il museo di Alessandria né le statue del tempio trovai a malapena il modo di consacrare una notte alle gradevoli orge di Canopo sei giornate interminabili trascorsero in quella specie di tino bollente del tribunale a malapena protetto dal caldo da lunghi tendaggi di canne che frusciavano al vento la notte zanzare enormi ronzavano intorno alle lampade tentai di dimostrare ai greci che non sempre erano i più saggi ai giudei che non erano affatto i più puri le canzoni satiriche con le quali quegli elleni di bassa lega tormentavano gli avversari erano stupide né più nemmeno delle grottesche imprecazioni degli ebrei quelle razze che vivevano porta a porta da secoli non avevano avuto mai né il desiderio di conoscersi né la dignità di sopportarsi a vicenda i difensori che estremati a tarda sera abbandonavano il campo all'alba mi ritrovavano al mio banco ancora intento a districare il groviglio di sudicerie delle false testimonianze i cadaveri pugnalati che mi venivano offerti come prove a carico erano spesso quelli di malati morti nei loro letti e sottratti agli imbalsamatori ma ogni ora di tregua era una vittoria anche se precaria come tutte ogni dissidio sanato creava un precedente un pegno per l'avvenire mi importava assai poco che l'accordo ottenuto fosse esteriore imposto probabilmente temporaneo sapevo che il bene e il male sono una questione d'abitudine che il temporaneo si prolunga che le cose esterne penetrano all'interno e che la maschera a lungo andare diventa il volto dato che l'odio la malafede il delirio hanno effetti durevoli non vedevo perché non ne avrebbero avuti anche la franchezza la giustizia la benevolenza a che valeva l'ordine alle frontiere se non riuscivo a convincere quel rigattiere ebreo e quel macellaio greco a vivere l'uno a fianco all'altro tranquillamente prima di risalire verso il nord per regolare definitivamente i conti con i sarmati rivì di quieto il sanguinario di Cirene era ancora temibile il mio primo provvedimento era stato di sciogliere le sue colonne di esploratori numidi gli restava però il seggio in senato il grado nell'esercito regolare e quell'immenso dominio nelle sabbie occidentali del quale egli poteva farsi a suo talento un trampolino o un asilo mi invitò a una caccia in misia in piena foresta e ingegnosamente macchinò un incidente nel quale se avessi avuto minore fortuna o minore agilità fisica senza alcun dubbio avrei perduto la vita ma era preferibile aver l'aria di non sospettare nulla pazientare attendere poco più tardi nella mesia inferiore quando la capitolazione dei principi sarmati mi consentiva di far progetti per un sollecito ritorno in Italia uno scambio di dispacci cifrati col mio antico tutore mi informò che quieto tornato di precipizio a Roma aveva avuto un abboccamento con palma i nostri nemici barricavano le loro posizioni riformavano le loro truppe non era possibile sentirsi sicuri sino a che quei due uomini tramavano contro di noi scrissi ad Attiano di agire quel vegliardo colpì come la folgore andò oltre i miei ordini e in un colpo solo mi sbarazzò di tutti i nemici dichiarati che mi restavano lo stesso giorno a poche ore di distanza Celso fu giustiziato a Baia palma nella sua villa a Terracina nigrino a Faventia sulla soglia della sua casa di campagna quieto per in viaggio uscendo da un conciliavolo con i suoi complici sul predellino della carrozza che lo riportava in città un'ondata di terrore si riversò su Roma il mio vecchio cognato Serviano che in apparenza si era rassegnato alla mia fortuna ma che avidamente contava sui miei errori futuri dovette provarne un impulso di gioia senza dubbio la volutà più intensa della sua vita tutte le voci sinistre che correvano sul mio conto trovarono nuovo credito mi furono comunicate queste notizie sul ponte della nave che mi riconduceva in Italia rimasi annientato esser liberato dei propri avversari è sempre una soddisfazione ma il mio tutore aveva mostrato l'indifferenza dei vecchi per le conseguenze lontane del suo gesto aveva dimenticato che toccava a me vivere più di vent'anni con le conseguenze di quelle morti pensai alle proscrizioni di Ottaviano che avevano macchiato per sempre la memoria di Augusto ai primi crimini di Nerone ai quali altri crimini erano seguiti riandai con la mente agli ultimi anni di Domiziano quell'uomo mediocre niente affatto peggiore di un altro disumanato quasi dalla paura inflitta e subita e infine morto in pieno palazzo come una fiera accerchiata nei boschi già mi sfuggiva dalle mani la mia vita pubblica la prima riga dell'iscrizione recava profondamente incise parole che non avrei cancellato mai più il senato quel gran corpo tanto debole ma che bastava perseguitare per vederlo diventare potente non avrebbe dimenticato mai che erano stati giustiziati sommariamente per ordine mio quattro uomini usciti dai suoi ranghi così tre odiosi intriganti e un bruto feroce avrebbero fatto la figura di martiri intimai immediatamente ad Attiano di raggiungermi a Brindisi per rispondermi delle sue azioni mi aspettava a due passi dal porto in una delle camere di quella locanda volta a oriente dove un giorno era morto Virgilio venne zoppicando a ricevermi sulla soglia soffriva ad una crisi di gotta non appena solo con lui lo rimproverai aspramente un regno che volevo moderato esemplare si iniziava con quattro esecuzioni sommarie delle quali una soltanto era indispensabile alle quali per di più si era incautamente trascurato di dare una sembianza di legalità quell'abuso di potere mi sarebbe stato tanto più rimproverato quanto più in seguito mi sarei messo di impegno a mostrarmi clemente scrupoloso o giusto se ne sarebbero serviti per provare che le mie cosiddette virtù non erano che una maschera e mi avrebbero fabbricata una banale leggenda di tiranno che forse mi avrebbe seguito sino alla fine della storia confessai la mia paura un vecchio amico la cui lealtà mi era parsa sicura si emancipava già profittava delle debolezze che aveva creduto d'osservare in me sotto l'aspetto di rendermi un servigio aveva fatto in modo di regolare un conto personale con nigrino e con palma comprometteva la mia opera di pacificazione mi preparava infine il più tetro dei ritorni a Roma il vecchio chiese il permesso di mettersi a sedere posò su di uno sgabello la gamba avvolta in bende e io mentre continuava a parlare andavo ricoprendo con una coperta quel piede infermo mi lasciava sfogare con il sorriso di un grammatico che ascolta un alunno cavarsela abbastanza bene in una recitazione difficile quando ebbe finito mi domandò con tono pacato che cosa contavo di fare dei nemici del regime se era necessario si sarebbe potuto fornire prove del fatto che quei quattro uomini avevano tramato la mia morte in ogni caso sarebbe stato loro reale interesse il farlo non c'è cambio della guardia che non comporta le sue epurazioni e sarei incaricato lui di quest'ultima per lasciarmi le mani nette se l'opinione pubblica reclamava una vittima non c'era nulla di più semplice che destituirlo dalla carica di prefetto del pretorio questa misura l'aveva prevista mi consigliava perfino di adottarla e se per conciliarmi il senato bisognava andare oltre mi avrebbe approvato anche qualora mi fossi deciso a relegarlo o esiliarlo Attiano era stato per me il tutore al quale si spillano quattrini il consigliere dei giorni difficili la guida fedele ma era la prima volta che io guardavo con attenzione quel viso molle dalle guance ben rase quelle mani rattrappite tranquillamente incrociate sul pomo d'un bastone devano le diverse componenti di quella prospera esistenza di uomo mi erano sufficientemente note la moglie che gli era cara e la cui salute era tuttora precaria le figlie maritate i loro bambini per i quali egli nutriva ambizioni modeste e tenaci così come erano state le sue il suo gusto per la cucina raffinata la passione per i cammei greci e le danzatrici giovinette eppure aveva dato a me la precedenza su tutte queste cose da oltre trent'anni il suo primo pensiero era stato di proteggermi di servirmi e io finora non avevo dato la precedenza a null'altro che ha progetti ha idee tutt'al più ha una immagine futura di me stesso la devozione comunissima di quell'uomo mi appariva prodigiosa insondabile nessuno ne è degno e tuttora non riesco a spiegarmela seguì il suo consiglio fu destituito dalla carica il suo lieve sorriso mi dimostrò che s'aspettava di essere preso in parola sapeva bene che non c'era al mondo sollecitudine intempestiva verso un vecchio amico che avrebbe potuto trattenermi dall'adottare il provvedimento più saggio quel sottile politico d'altronde non mi avrebbe voluto diverso non va neppure esagerata l'entità della sua disgrazia dopo qualche mese di eclissi riuscì a farlo entrare in senato l'onore supremo che potesse accordare a un uomo dell'ordine equestre ebbe una vecchiaia facile dal ricco cavaliere romano garantito dall'influenza che gli valeva la sua perfetta conoscenza delle famiglie e degli affari spesso sono stato ospitato da lui nella sua villa sui colli albani non importa come Alessandro alla vigilia di una battaglia prima di entrare a Roma avevo sacrificato alla paura e mi accade di contare Attiano nel numero delle mie vittime Attiano aveva visto giusto l'oro puro del rispetto era troppo molle se non si aggiungeva nella lega una dose di paura dell'assassinio dei quattro consolari avvenne come della storia del testamento contraffatto gli spiriti onesti i virtuosi si rifiutarono di credermi implicato i cinici supposero il peggio ma mi ammirarono a maggior ragione Roma si calmò quando si seppe che i miei rancori cessavano di colpo la gioia che ciascuno provava di sentirsi rassicurato fece rapidamente obliare quei morti avevo rifiutato tutti i titoli li fece abolire tutti e respinsi altresì provvisoriamente il titolo di padre della patria che Augusto accettò solo al termine del suo regno e di cui ancora non mi reputavo degno lo stesso avvenne del trionfo sarebbe stato ridicolo accettarlo per una guerra che avevo l'unico merito di aver conchiusa mi si accusa di amare Roma troppo poco era bella tuttavia durante quei due anni in cui lo Stato e io ci misurammo a vicenda la città dalle vie anguste dai fori ingombri dai mattoni che hanno il colore della carne dei vecchi a ritornarci dopo il soggiorno in Oriente e in Grecia Roma si rivestiva ad una specie di esotismo che un romano nato e vissuto sempre nell'urbe non sospetterebbe tornavo ad abituarmi ai suoi inverni umidi e nebbiosi alla sua estate africana temperata dal fresco delle cascate di Tivoli e dei laghi di Alba al suo popolo quasi rustico legato con attaccamento provinciale ai sette colli nel quale tuttavia l'ambizione la lusinga del guadagno i casi delle conquiste e della schiavitù riversano a poco a poco tutte le razze del mondo il negro tatuato il germano villoso il greco smilzo l'orientale corpulento mi sbarazzai di alcune fisime frequentai i bagni pubblici nelle ore popolari imparai a sopportare i ludi del circo nei quali fino ad allora non avevo visto che sperpero feroce la mia opinione in proposito non era mutata detestavo quei massacri in cui le belve non hanno una possibilità di salvezza ma a poco a poco ne scorgevo il valore rituale gli effetti di purificazione tragica sulla folla incolta volevo che lo splendore delle feste eguagliasse quelle di Traiano ma con arte con ordine maggiori mi costringevo ad apprezzare la scherma esatta dei gladiatori ma a condizione che nessuno fosse costretto a esercitare quel mestiere suo malgrado imparavo a conversare con la folla attraverso la voce degli araldi dall'alto della tribuna del circo a imporle silenzio con una deferenza che essa mi rendeva centuplicata a non accordarle se non quello che aveva ragionevolmente diritto di aspettarsi a non rifiutarle nulla senza indicare le ragioni del mio rifiuto interdissi i bagni misti che erano motivo di risse quasi continue feci fondere e riversare nelle casse dello Stato il colossale servizio di vasellame di argento ordinato dall'oltraggiosa avidità di vitellio i nostri primi cesari si sono fatti una reputazione odiosa di braccatori di eredità io mi feci una regola di non accettare né per lo Stato né per me alcun legato al quale qualche erede diretto potesse credere d'aver diritto cercai di sfoltire il numero esorbitante di schiavi della casa imperiale e soprattutto di infrenarne l'audacia che spesso li induce a mettersi alla pari con i cittadini migliori e a volte a terrorizzarli un giorno uno dei miei apostrofò un senatore con impertinenza lo feci schiaffeggiare il mio odio per il disordine giunse fino a far fustigare in pieno circo alcuni dissipatori oberati di debiti per evitare ogni equivoco insistetti affinché in città si portasse toga e laticlavio indumenti ingombranti come del resto tutto ciò che è onorifico e io stesso mi imposi di indossarli solo a Roma mi alzavo per ricevere i miei amici restavo in piedi durante le udienze per reagire alla disinvoltura della posizione distesa o seduta feci ridurre il numero insolente delle vetture a cavalli che ingombravano le nostre strade è il lusso della velocità che si annulla da sé dato che un pedone supera cento vetture quando sono l'una in fila all'altra nelle svolte della via sacra per le mie visite presi l'abitudine di farmi portare in lettiga sin nell'interno delle case private risparmiando così all'ospite la fatica di aspettarmi o di riaccompagnarmi fuori sotto il sole o il vento stizzoso di Roma Humanitas Felicitas Libertas queste belle parole incise sulle monete del mio regno non le ho inventate io qualsiasi filosofo greco qualsiasi romano colto si propone del mondo la stessa immagine che mi propongo io ho sentito Traiano messo di fronte a una legge ingiusta perché troppo rigorosa protestare che la sua applicazione non rispondeva più allo spirito dei tempi ma a questo spirito dei tempi forse sarò stato io il primo a subordinare coscientemente tutte le mie azioni a farne qualcosa di diverso dai sogni nebulosi del filosofo dalle aspirazioni vaghe del buon principe e ringraziavo gli dei per avermi riconcesso di vivere in un'epoca in cui il compito che mi era toccato in sorte consisteva nel riorganizzare prudentemente un mondo già vivo e non nell'estrarre dal caos una materia ancora informe o nel distendermi su di un cadavere per cercare di risuscitarlo mi rallegravo che il nostro passato fosse antico abbastanza per fornirci esempi eccellenti e non tanto pesante da schiacciarci con essi che lo sviluppo della nostra tecnica fosse pervenuto al punto da facilitare l'igiene delle città e la prosperità dei popoli ma non a quell'eccesso in cui rischierebbe di sommergere l'uomo con acquisizioni inutili che le nostre arti alberi un poco esausti per la gran copia dei loro doni fossero ancora capaci di qualche frutto squisito mi rallegravo che le nostre religioni vaghe e venerabili purificate da intransigenze e da riti feroci ci associassero misteriosamente ai sogni più antichi dell'uomo e della terra ma senza inibirci una spiegazione laica dei fatti un'intuizione razionale della condotta umana mi piaceva infine che queste stesse parole umanità felicità libertà non fossero ancora avvilite da tante applicazioni ridicole quando si saranno alleviate sempre più le schiavitù inutili si saranno scongiurate le sventure non necessarie resterà sempre per tenere in esercizio le virtù eroiche dell'uomo la lunga serie dei mali veri e propri la morte la vecchiaia le malattie inguaribili l'amore non corrisposto l'amicizia respinta o tradita la mediocrità ad una vita meno vasta dei nostri progetti e più opaca dei nostri sogni tutte le sciagure provocate dalla natura divina delle cose bisogna che lo confessi credo poco alle leggi se troppo dure si trasgrediscono e con ragione se troppo complicate l'ingegnosità umana riesce facilmente a insinuarsi entro le maglie di questa massa fragile che striscia sul fondo il rispetto delle leggi antiche corrisponde a quel che la pietà umana ha di più profondo e serve come guanciale per l'inerzia dei giudici le leggi più antiche non sono esenti da quella selvatichezza che miravano a correggere le più venerabili rimangono ancora un prodotto della forza la maggior parte delle nostre leggi penali e forse è un bene non raggiungono che un esigua parte dei colpevoli quelle civili non saranno mai tanto duttili da adattarsi all'immensa e fluida varietà dei fatti esse mutano meno rapidamente dei costumi pericolose quando sono in ritardo ancor più quando presumono di anticiparli e tuttavia da questo cumulo di innovazioni pericolose e di consuetudini antiquate emerge qua e là come in medicina qualche formula utile i filosofi greci ci hanno insegnato a conoscere un po' meglio la natura umana i nostri migliori giuristi da qualche generazione rivolgono le loro cure nella direzione del senso comune ho posto in atto anch'io talune di quelle riforme parziali che sono le sole durevoli ogni legge trasgredita troppo spesso è cattiva spetta al legislatore abrogarla o emendarla per impedire che il dispregio in cui è caduta quella stolta ordinanza si estenda ad altre leggi più giuste mi proposi di eliminare cautamente le leggi superflue e di promulgare con fermezza un piccolo numero di saggi decreti sembrava giunta l'ora di riesaminare nell'interesse dell'umanità tutte le prescrizioni antiche in Spagna nei dintorni di Tarragona un giorno in cui visitavo da solo una miniera semiabbandonata uno schiavo la cui intera esistenza era trascorsa in quelle gallerie sotterranee si scagliò su di me con un pugnale non mancava di logica se cercava di vendicarsi sull'imperatore dei suoi 43 anni di servaggio lo disarmai senza fatica lo consegnai al mio medico e il furore cadde di colpo egli si trasformò in quel che era veramente un essere non meno sensato e più fedele di molti altri la legge se crudelmente applicata avrebbe fatto giustizia immediatamente di quello sciagurato e invece egli divenne per me un servo eccellente la maggior parte degli uomini somiglia a quello schiavo troppo sottomessi interrompono lunghi periodi di torpore con rivolte brutali quanto inutili volevo sperimentare se la libertà saggiamente intesa non avrebbe dato migliori frutti e mi stupisco che un'esperienza simile non abbia tentato un maggior numero di principi quel barbaro condannato a lavorare nelle miniere divenne per me l'emblema di tutti i nostri schiavi di tutti i nostri barbari non mi sembrava impossibile trattarli come avevo trattato quell'uomo renderli inoffensivi a forza di bontà purché sapessero anzitutto che la mano che li disarmava era ferma fino a oggi tutti i popoli sono periti per mancanza di generosità Sparta sarebbe sopravvissuta più a lungo se avesse interessato gli iloti alla sua sopravvivenza viene il giorno che Atlante cessa di sostenere il peso del cielo e la sua rivolta squassa la terra avrei voluto allontanare il più possibile evitarlo se si poteva il momento in cui i barbari dall'esterno gli schiavi dall'interno si sarebbero avventati su un mondo che si pretende e si rispettino da lontano o servano dal basso ma i cui benefici sono a loro interdetti tenevo che la più diseredata delle creature lo schiavo che sgombra le cloache delle città il barbaro famelico che si aggira minaccioso alle frontiere avessero interesse a veder durare Roma non credo che alcun sistema filosofico riuscirà mai a sopprimere la schiavitù tutt'al più ne muterà il nome si possono immaginare forme di schiavitù peggiori delle nostre perché più insidiose sia che si riesca a trasformare gli uomini in macchine stupide e appagate che si credono libere mentre sono asservite sia che si imprima in loro una passione forse nata per il lavoro divorante quanto quella della guerra presso le razze barbare tale da escludere gli svaghi i piaceri umani a questa schiavitù dello spirito o dell'immaginazione umana preferisco ancora la nostra schiavitù di fatto qualunque cosa avvenga la condizione orribile che mette l'uomo alla merced di un altro uomo esige un'attenta regolamentazione giuridica ho provveduto affinché lo schiavo non sia più una mercanzia anonima che si vende senza tener conto dei legami di famiglia che si è creati un oggetto spregevole la cui testimonianza non viene accolta dal giudice se non dopo averlo sottoposto alla tortura invece di accettarla sotto giuramento ho proibito che lo si obbligasse a mestieri disonoranti o rischiosi che lo si vendesse ai tenutari di postriboli o alle scuole per gladiatori coloro che si compiacciano di queste professioni le esercitino pure le eserciteranno meglio nelle fattorie dove gli amministratori abusano delle sue forze spesso ho rimpiazzato lo schiavo con coloni liberi le nostre raccolte di aneddoti rigurgitano di storie di crapuloni che gettano i domestici alle murene ma i crimini scandalosi facilmente punibili sono poca cosa di fronte alle mille e mille angherie oscure perpetrate ogni giorno da persone cosiddette per bene ma dal cuore arido che nessuno si sogna di molestare si è protestato quando bandì da Roma una patrizia facoltosa e stimata perché maltrattava i suoi vecchi schiavi qualsiasi ingrato che trascura i genitori infermi scuote di più la coscienza pubblica ma io non vedo molta differenza tra queste due forme di crudeltà inumana troppo spesso per l'esercito la pace non è che un periodo di disoccupazione turbolenta tra due battaglie l'alternativa all'inazione o al disordine è la preparazione in vista ad una guerra determinata e poi la guerra ho rotto con queste consuetudini le mie visite insistenti agli avamposti non erano che un mezzo tra tanti per tenere in una sana attività quell'esercito pacifico dappertutto in pianura tra i monti a limitare delle foreste in pieno deserto la legione estende o concentra le sue costruzioni sempre le stesse crea i campi per le manovre i baraccamenti destinati a colonia a resistere alla neve all'ambesia a fronteggiare le tempeste di sabbia i magazzini dei quali avevo fatto vendere il materiale inutile il circolo degli ufficiali al quale presiede una statua del principe ma questa uniformità è solo apparente questi alloggiamenti interscambiabili contengono la folla delle truppe ausiliarie diverse ogni volta tutte le razze apportano all'esercito le loro virtù le loro armi particolari la loro specie di fanti di cavalieri di arcieri vi ritrovavo allo stato brutto quella varietà nell'unità che fu il mio fine imperiale ho permesso ai soldati di usare il loro grido di guerra nazionale di impartire e ricevere ordini nelle loro lingue ho sanzionato le unioni dei veterani con donne barbare ho legittimato i loro figli ho fatto di tutto anche per attenuare la durezza della vita al campo per trattare quegli uomini semplici da uomini a rischio di renderli meno mobili vogli che si affezionassero a quell'angolo di terra che erano destinati a difendere non esitai a regionalizzare l'esercito speravo di ristabilire su scala imperiale l'equivalente delle milizie della giovane repubblica quando ogni uomo difendeva il suo campo la sua fattoria ho inteso soprattutto sviluppare l'efficienza tecnica delle legioni volevo servirmi di quei centri militari come d'una molla di civilizzazione d'un cuneo tanto solido da penetrare a poco a poco laddove gli strumenti più delicati della vita civile si sarebbero spuntati l'esercito diveniva così un tramite tra le popolazioni delle selve delle steppe delle paludi e i raffinati abitatori delle città una scuola elementare per barbari scuola di resistenza e di responsabilità per il greco letterato o per il giovane cavaliere avvezzo agli agi di Roma conoscevo di persona gli aspetti penosi di quella vita nonché le sue facilitazioni i suoi sotterfugi avoli i privilegi interdissi i congedi troppo frequenti accordati agli ufficiali feci sbarazzare gli accampamenti delle sale di banchetti dei padiglioni di piacere dei costosissimi giardini quegli edifici inutili divennero infermerie ospizi per i veterani noi reclutavamo i nostri soldati in età troppo acerba e li trattenevamo in servizio per troppi anni e questo era allo stesso tempo antieconomico e crudele ho cambiato tutto ciò la disciplina augusta deve a se stessa di partecipare all'umanità del mio secolo noi siamo funzionari dello Stato non siamo Cesari aveva ragione quella postulante che m'ero rifiutato un giorno di ascoltare fino alla fine quando esclamò che se mi mancava il tempo per darle retta mi mancava il tempo per regnare le scuse che le feci non erano solo formali e tuttavia il tempo mi manca più l'impero si estende più i vari aspetti dell'autorità tendono a concentrarsi nelle mani del funzionario in capo quest'uomo oberato necessariamente deve scaricare su altre persone una parte dei suoi compiti il suo genio consisterà sempre più nel circondarsi di gente fidata il peggior crimine di Claudio e di Nerone fu di lasciare pigramente che i loro liberti o i loro schiavi si impadronissero di queste funzioni di agenti consiglieri delegati del capo supremo ho trascorso una parte della mia vita e dei miei viaggi a scegliere i capi di una burocrazia nuova a esercitarli e adeguare con il maggior fiuto possibile le capacità alle mansioni a creare utili possibilità di impiego per questa classe media dalla quale dipende lo Stato il pericolo che si cela in questi eserciti civili non mi sfugge lo si può definire in una parola la mentalità burocratica su venti anni di potere dodici li ho trascorsi senza fissa dimora ho abitato di volta in volta i palazzi dei mercanti in Asia le oneste case greche le belle ville munite di bagni e stufe dei residenti romani in Gallia i tuguri le fattorie la tenda quella leggera architettura di tela e di corde era ancora l'abitazione che preferivo non meno varie le navi delle abitazioni ebbi la mia provvista di un ginnasio ed una biblioteca ma diffidavo troppo di qualsiasi forma di stabilità per legarmi a una dimora anche se mobile la varca di piacere di un ricco siriano i vascelli d'alto bordo della nostra flotta o il caicco di un pescatore greco andavano per me ugualmente bene l'unica mia esigenza era la velocità e tutto ciò che la seconda i cavalli migliori le vetture più molleggiate i bagagli meno ingombranti gli abiti le suppellettili più adatte al clima ma la grande risorsa era innanzitutto lo stato perfetto del corpo una marcia forzata di ventileghe non era niente una notte insonne la consideravo null'altro che un invito a pensare sono pochi gli uomini che amano viaggiare a lungo è una frattura continua di tutte le abitudini una smentita inflitta incessantemente a tutti i pregiudizi ma io facevo di tutto per non avere alcun pregiudizio e pochissime abitudini apprezzavo la delizia di un letto soffice ma anche il contatto l'odore stesso della terra nuda le disuguaglianze di ogni segmento della circonferenza del mondo mi era noto ogni miglio delle nostre strade forse sono il più bel dono che Roma abbia fatto alla terra ma il momento più indimenticabile era quello in cui la strada cessava sul fianco di una montagna e di crepaccio in crepaccio di roccia in roccia ci si merpicava per assistere all'aurora dall'alto di una cima dei Pirenei o delle Alpi già altri uomini prima di me avevano percorso la terra Pitagora Platone una dozzina di saggi e un buon numero di avventurieri per la prima volta però quel viaggiatore era al tempo stesso il padrone libero al tempo stesso di vedere e di riformare libero di creare era la mia sorte e mi rendevo conto che forse sarebbero trascorsi secoli prima che si ristabilisse quel felice accordo di una funzione di un temperamento di un mondo e mi accorsi quanto sia vantaggioso essere un uomo nuovo solo quasi esente da vincoli matrimoniali senza figli quasi senza avi un Ulisse senza altra Itaca che quella interiore conviene che io faccia qui una confessione che non ho fatto a nessuno non ho mai avuto la sensazione di appartenere completamente a nessun luogo neppure alla mia dilettissima Atene neppure a Roma straniero dappertutto non mi sentivo particolarmente isolato in nessun luogo cammin facendo esercitavo le diverse professioni di cui si compone il mestiere di imperatore indossavo la vita militare come un vestito che è diventato comodo a furi ad essere portato senza sforzo ritrovavo tra le mie labbra il gergo degli accampamenti quel latino deformato dall'incalzare delle lingue barbare punteggiato di bestemmie rituali o di facezze scontate mi riavituavo all'equipaggiamento ingombrante delle manovre a quella tensione d'equilibrio che imprime su tutto il corpo il carico dello scudo massiccio al braccio sinistro del mestiere di giudice ho già parlato mi si affacciavano alla mente analogie con altre attività pensavo al medico ambulante che visita le persone di porta in porta all'operaio chiamato a riparare un argine o rinsaldare una conduttura d'acqua al sorvegliante che percorre avanti e indietro il ponte della nave incitando i rematori ma servendosi il meno possibile della sferza e oggi sulle terrazze della villa mentre osservo gli schiavi potare i rami o sfrondare le siepi penso soprattutto all'onesto andirivieni del giardiniere costruire costruire significa collaborare con la terra imprimere il segno dell'uomo su un paesaggio che ne resterà modificato per sempre contribuire inoltre a quella lenta trasformazione che è la vita stessa delle città quanta cura per escogitare la collocazione esatta ad un ponte ed una fontana per dare a una strada di montagna la curva più economica che è al tempo stesso la più pura elevare fortificazioni in fin dei conti equivale a costruire dighe equivale a trovare la linea sulla quale si può difendere una sponda o un impero il punto dove sarà contenuto arrestato infranto l'assalto delle onde o quello dei barbari costruire un porto significa fecondare la bellezza ad un golfo fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi mio malgrado vedo venire ho ricostruito molto e ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di passato coglierne nello spirito o modificarlo protenderlo quasi verso un più lungo avvenire significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti la nostra vita è breve parliamo continuamente dei secoli che han preceduto il nostro o di quelli che lo seguiranno come se ci fossero totalmente estranei li sfioravo tuttavia nei miei giochi di pietra le mura che faccio puntellare sono ancora calde del contatto di corpi scomparsi mani che non esistono ancora carezzeranno i fusti di queste colonne più ho meditato sulla mia morte e specialmente su quella di un altro più ho cercato di aggiungere alle nostre esistenze questi appendici quasi indistruttibili a Roma ho adottato di preferenza il mattone eterno che assai lentamente torna alla terra donde deriva e il cui cedimento lo sbriciolamento impercettibile avviene in tal guisa che l'edificio resta a una mole anche quando ha cessato d'essere una fortezza un circo una tomba in Grecia e in Asia ho adoperato il marmonatio la bella sostanza che una volta tagliata resta fedele alla misura umana tanto che la pianta del tempio intero resta contenuta in ogni frammento di tamburo spezzato l'architettura è ricca di possibilità più varie di quel che non farebbero supporre i quattro ordini di Vitruvio i blocchi come i toni musicali sono suscettibili di infinite variazioni per il Pantheon sono risalito ai monumenti dell'antica Etruria degli indovini e degli aruspici il santuario di Venere al contrario innalza al sole forme ioniche una profusione di colonne bianche o rosate attorno alla dea di carne da cui discende la progenie di Cesare l'Olimpia Ion di Atene non poteva non rappresentare il contrappeso esatto del Partenone adagiato nella pianura come l'altro si erge sulla collina immenso dove l'altro è perfetto l'ardore ai piedi della calma lo splendore ai piedi della bellezza le cappelle di Antino i suoi templi stanze magiche monumenti di un misterioso passaggio tra la vita e la morte oratori di un dolore e di una felicità indicibili erano il luogo della preghiera e della riapparizione lì mi abbandonai al mio lutto la mia tomba in riva al Tevere riproduce su scala gigantesca gli antichi sepolcri della via Appia ma le sue stesse proporzioni la trasformano fanno pensare a Ctesifone a Babilonia alle terrazze e alle torri attraverso le quali l'uomo si avvicina agli astri la villa era la tomba dei viaggi l'ultimo accampamento del nomade l'equivalente in marmo delle tende da campo e dei padiglioni dei principi asiatici quasi tutto ciò che il nostro gusto consente di tentare giallo fu nel mondo delle forme io vogli provare quello del colore il diaspro verde come i fondi marini il porfido poroso come le carni il basalto l'ossidiana opaca il rosso denso dei tendaggi si ornava di ricami sempre più raffinati i mosaici delle mura e degli impiantiti non erano mai abbastanza dorati bianchi o cupi a sufficienza ogni pietra rappresentava il singolare conglomerato d'una volontà d'una memoria a volte d'una sfida ogni edificio sorgeva sulla pianta d'un sogno siamo ingombri di statue rimpinzate di capolavori della pittura e della scultura ma questa abbondanza è illusoria non facciamo che riprodurre all'infinito poche decine di capolavori che non saremmo più in grado di inventare io stesso ho fatto copiare per la mia villa l'ermafrodito e il centauro la niobide e la venere ansioso di vivere il più possibile tra queste melodie della forma la nostra arte è perfetta cioè a dire raffinata ma la sua perfezione è suscettibile di modulazioni varie quanto quelle d'una voce pura dipende da noi questo gioco abile che consiste nell'accostarsi e nell'allontanarsi perpetuamente da soluzioni trovate una volta per tutte di spingerci sino al fondo del rigorismo o della ridondanza e racchiudere un numero sconfinato di creazioni entro la stessa sfera i mille termini di paragone alle nostre spalle tornano tutti a nostro vantaggio ci consentono di continuare intelligentemente scopas o contraddire volutuosamente prassitele i miei contatti con le arti barbare mi hanno indotto a ritenere che ogni razza si limita a determinati soggetti a determinate esperienze tra tutte quelle possibili ogni epoca per di più opera una cernita tra le possibilità offerte a ogni razza in Egitto ho visto dei e re colossali al polso dei prigionieri sarmati ho trovato bracciali che ripetono all'infinito lo stesso cavallo al galoppo o gli stessi serpenti che si divorano l'un l'altro ma la nostra arte quella dei greci voglio dire ha preferito attenersi all'uomo noi soli abbiamo saputo mostrare in un corpo immobile la forza e l'agilità che esso cela noi soli abbiamo fatto ad una fronte levigata all'equivalente ed un pensiero io sono come i nostri scultori l'umano mi appaga vi trovo tutto persino l'eternità non gettavo più di uno sguardo alla mia propria immagine il marmo candido snatura il mio volto abbronzato dagli occhi ben aperti la bocca sottile e carnosa controllata sino a tremare ma il volto di un altro mi ha sempre interessato molto di più non appena egli cominciò a contare nella mia vita l'arte ha smesso d'essere un lusso è diventata una risorsa una forma di soccorso ho imposto al mondo questa immagine oggi esistono più copie dei ritratti di quel fanciullo che non di qualsiasi uomo illustre di qualsiasi regina sulle prime mi stava a cuore far registrare dalle statue la bellezza successiva ad una forma nel suo mutare in seguito l'arte divenne una specie di magia capace di evocare un volto perduto vi sono statue e ritratti del giovinetto da vivo quelle che riflettono il paesaggio immenso e mutevole che va dai 15 anni ai 20 anni il profilo compunto del bambino buono e quella statua in cui uno scultore di corinto ha osato cogliere l'abbandono del fanciullo che il ventre in avanti e le spalle cascanti la mano al fianco sembra sostare all'angolo di una strada a sorvegliare una partita ai dadi e c'è quel marmo di papias nel quale è tracciato un corpo assai più che nudo inerme d'una freschezza fragile di narciso e aristea ha scolpito sotto i miei ordini in una pietra lievemente rugosa quella piccola testa imperiosa e fiera poi vi sono i ritratti dopo la morte ivi la morte è passata sono grandi volti dalle labbra sapienti dense di segreti che non sono più i miei poiché non sono più quelli della vita c'è quel basso rilievo nel quale Antoniano Cario ha dotato d'una grazia che non è di questa terra il vendemmiatore vestito di seta grezza il muso del cane che gli si accosta amichevolmente alla gamba nuda e quella maschera quasi tragica d'uno scultore di cirene nella quale piacere e dolore si fondono e si combattono a vicenda sullo stesso volto come due onde sulla stessa roccia e quelle statuette d'argilla da un soldo che sono servite alla propaganda imperiale Tellus stabilita il genio della terra pacificata con l'aspetto di un giovinetto disteso che regge frutta e fiori in Germania mi trattennero quasi un anno le fortificazioni e gli accampamenti da costruire e da restaurare le strade da aprire o da riparare nuovi bastioni eretti per un percorso di settanta leghe lungo il Reno rafforzarono le nostre frontiere quel paese di scialvi vigneti e di corsi d'acqua spumeggianti non mi offriva nulla di imprevisto vi ritrovavo le orme del giovane tribuno che recò a Traiano la notizia del suo avvento al trono vi ritrovavo pure oltre il nostro fortilizio estremo fatto di tronchetti da bete lo stesso orizzonte monotono e cupo lo stesso mondo che ci è precluso dopo il cuneo imprudente che vi insinuarono le legioni di Augusto l'oceano di alberi l'immensa riserva d'uomini bianchi e biondi una volta compiuta quell'opera di riorganizzazione ridiscesi sino alla foce del Reno lungo le pianure belghe e batave dune desolate componevano quel paesaggio nordico tagliato da erbe sibilanti le case del porto di Novio Magus innalzate su palafitte si affiancavano alle nave ormeggiate quasi alla loro soglia sul tetto si appollaiavano gli uccelli marini amavo la malinconia di quei luoghi che apparivano detestabili ai miei aiutanti di campo quel cielo imbronciato quei fiumi fangosi che si scavano il letto in una terra informe senza una luce senza un dio che ne abbia modellato il limo una barca dal fondo quasi piatto ci trasportò nell'isola di Britannia più volte il vento ci respinse verso la costa che avevamo lasciata e quella traversata contrastata mi concesse qualche straordinaria ora vuota nubi gigantesche sorgevano dal mare tempestoso intorbidito dalle sabbie incessantemente smosse nel suo fondo come un tempo presso i daci e i sarmati avevo contemplato religiosamente la terra qui scorgevo per la prima volta un Nettuno più caotico del nostro un infinito mondo liquido avevo letto in Plutarco una leggenda di naviganti riguardante un'isola situata in quei mari prossimi al mare tenebroso da secoli gli dei vittoriosi dell'Olimpo vi avrebbero relegato i titani vinti quei grandi prigionieri delle rocce e delle onde eternamente flagellati dall'oceano insonne votati anch'essi a un'insonnia perenne ma intenti senza posa a sognare continuerebbero a opporre all'ordine olimpico la loro violenza la loro angoscia il loro desiderio perpetuamente frustrato ritrovavo in quel mito ambientato ai confini del mondo le teorie dei filosofi di cui mero nutrito ogni uomo nel corso della sua breve esistenza deve scegliere eternamente tra la speranza insonne e la saggia rinuncia a ogni speranza tra i piaceri dell'anarchia e quelli dell'ordine tra il titano e l'olimpico scegliere tra essi o riuscire a comporre tra essi l'armonia le riforme civili poste in atto in britannia fanno parte della mia opera amministrativa della quale t'ho parlato altrove quello che importa qui è che io fui il primo tra gli imperatori che si sia insediato pacificamente in quell'isola situata ai confini del mondo conosciuto dove il solo Claudio si era azzardato a sostare per qualche giorno in qualità di comandante in capo per un inverno intero Londinium divenne per mia elezione quel centro effettivo del mondo che Antiochia era stata durante la guerra partica così ogni viaggio spostava il centro di gravità del potere lo collocava per un periodo di tempo in Rivalreno o lungo le prode del Tamigi mi permetteva di valutare la convenienza o gli svantaggi di una simile sede imperiale quel soggiorno in Britannia mi fece prendere in considerazione l'ipotesi di uno stato accentrato in occidente di un mondo atlantico intuizioni dello spirito prive di qualsiasi valore pratico ma cessano ad essere assurde non appena chi le ipotizza si concede un volger danni abbastanza esteso per i suoi piani solo tre mesi prima del mio arrivo la sesta legione vittoriosa era stata trasferita in territorio britannico veniva a sostituirvi la sventurata nona legione che i caledoni avevano decimato durante i disordini in Britannia orrendo contraccolpo della nostra spedizione contro i parti per impedire che un disastro simile si replicasse due misure si imponevano che le nostre truppe venissero rinforzate mediante la creazione di un corpo ausiliario indigeno a Eboracum dall'alto di una collina verde ho visto manovrare per la prima volta quell'armata britannica di formazione recente nello stesso tempo feci erigere una muraglia che tagliava l'isola in due nel punto più stretto a proteggere le regioni fertili e civilizzate del sud contro gli attacchi delle tribù del nord ho ispezionato di persona buona parte dei lavori iniziatisi simultaneamente lungo un crinale di 80 leghe fu per me un'occasione per sperimentare lungo quello spazio ben limitato che si estende da una costa all'altra un sistema difensivo che in seguito si potrebbe applicare ovunque ma già quell'opera puramente militare secondava la pace incrementava la prosperità di quella regione della britannia si creavano villaggi si produceva un moto di afflusso verso le nostre frontiere gli sterratori della legione erano secondati da squadre indigene nel loro compito per molti di quei montanari ieri ancora in domi quel muro rappresentava la prima prova irrefutabile della potenza tutelatrice di Roma il soldo della paga la prima moneta romana che passava per le loro mani quel baluardo divenne l'emblema della mia rinuncia alla politica di conquista ai piedi del bastione più avanzato feci irrigere un tempio al dio termine tutto mi piacque in quella terra piovosa le frange di bruma sui fianchi delle colline i laghi votati a ninfe ancor più estrose delle nostre quella razza malinconica dagli occhi grigi avevo per guida un giovane tribuno del corpo ausiliario britannico quel dio biondo aveva imparato il latino balbettava in greco e si ingegnava timidamente a comporre versi d'amore in quella lingua una fredda notte d'autunno ne feci il mio interprete presso una sibilla sedevamo nella capanna affumicata ad un carbonaio celta a riscaldarci le gambe ravvolte in grosse pezze di lana ruvida quando vedemmo strisciare verso di noi una vecchia fradicia di pioggia scarmigliata dal vento selvatica e furtiva come un animale della foresta si avventò su piccoli pani di avena che si cuocevano al focolare la mia guida riuscì a blandire quella profetessa ed ella consentì a interrogare per me le volute del fumo le scintille che scoppiettavano improvvise le fragili architetture degli arbusti in fiamme e della cenere vide le città che si edificavano le folle plaudenti ma anche città in fiamme cupe sfilate di vinti che smentivano i miei progetti di pace e un viso giovane e dolce che prese per un volto di donna e al quale mi rifiutai di credere si trattava probabilmente di uno spettro bianco forse una statua oggetto più misterioso ancora di un fantasma per quella abitatrice di boschi e di lande e a distanza di un numero imprecisato di anni la mia morte che avrei prevista ugualmente anche senza di lei la prospera gallia l'opulenta spagna mi trattennero meno a lungo della britannia nella gallia narbonese ritrovai la grecia che ha sciamato fin là le splendide scuole d'eloquenza i bei portici sotto un limpido cielo sostai a Nîm per ordinare la fondazione di una basilica dedicata a Plotina e destinata a divenire un giorno il suo tempio l'imperatrice era legata a quella città da ricordi di famiglia che me ne rendevano più caro il paesaggio asciutto e dorato ma la rivolta in Mauretania ancora divampava abbreviai la traversata della Spagna trascurando persino tra Cordova e il mare di fermarmi un istante a Italica la città della mia infanzia e dei miei avi a Gades mi imbarcai per l'Africa i vigorosi guerrieri tatuati delle montagne di Atlante vessavano ancora le città costiere dell'Africa vissi là per brevissimi giorni l'equivalente numida dei disordini sarmati rividi le tribù soggiocate ad una duna l'altera sottomissione dei capi prosternati nel deserto al centro d'un viluppo di donne di masserizie di bestie inginocchiate e la sabbia rimpiazzava la neve mi sarebbe stato caro una volta tanto trascorrere interamente a Roma la primavera ritrovare la villa incominciata le carezze capricciose di Lucio l'amicizia di Plotina ma questo mio soggiorno in città fu presto interrotto da allarmanti voci di guerra erano appena tre anni da che s'era conclusa la guerra con i parti e già sulle eufrate erano sorti gravi incidenti partii immediatamente per l'oriente ero deciso a reprimere quei torbidi di frontiera con mezzi meno banali che le legioni in marcia fu combinato un incontro di persona con Osroe riconducevo in oriente la figlia dell'imperatore fatta prigioniera quasi in culla quando Traiano aveva occupato Babilonia e poi trattenuta a Roma come ostaggio era una ragazzetta gracile dai grandi occhi la sua presenza e quella delle sue donne mi fu di qualche impaccio durante quel viaggio che si doveva oltretutto compiere senza indugio quel gruppo di creature velate fu sballottato a dorso di cammello attraverso il deserto siriaco sotto un baldacchino dalle cortine severamente abbassate e ogni sera alle tappe mandavo a sentire se la principessa desiderava qualcosa mi fermai un'ora in licia per convincere il mercante Opramoas che aveva già dato prova delle sue eccellenti qualità di negoziatore ad accompagnarmi in territorio partico per mancanza di tempo non poté sfoggiare il suo lusso abituale quell'uomo infiacchito dall'opulenza era tuttavia un ammirevole compagno di viaggio avvezzo a tutti gli imprevisti del deserto il luogo dell'incontro si trovava sulla riva sinistra delle Eufrate poco lungi da Doura traversammo il fiume su una zattera i soldati della guardia imperiale partica con le corazze dorate su cavalli altrettanto splendidi formavano una linea abbagliante lungo le sponde il mio inseparabile e flegone era pallidissimo persino gli ufficiali che mi accompagnavano non celavano la loro apprensione quell'incontro poteva nascondere un tranello O Pramoas avvezzo a fiutare l'aria dell'Asia si trovava a suo agio si fidava di quel pericoloso amalgama di silenzio e di tumulto di immobilità e di galoppate improvvise di quel lusso profuso nel deserto come un tappeto sulla sabbia quanto a me ero straordinariamente calmo come Cesare si fidava della sua barca così io di quelle tavole su cui andava la mia sorte detti una prova di questa fiducia rendendo subito la principessa a suo padre anziché tenerla sotto custodia nelle nostre linee fino al mio ritorno promisi anche che avrei reso il trono d'oro della dinastia Arsacide che Traiano aveva portato via e di cui non sapevamo che farci laddove la superstizione orientale vi annetteva con immenso valore il fasto di questi incontri con Osroe fu soltanto esteriore in sostanza non differivano granché dagli abbocamenti di due vicini che cercano di comporre amichevolmente una questione di muro divisorio ero ero alle prese con un barbaro raffinato che si esprimeva in greco tutt'altro che stupido non necessariamente più perverso di me tuttavia tanto indeciso da sembrare mal sicuro le mie singolari discipline mentali mi aiutavano a captare quel pensiero sfuggente seduto in faccia all'imperatore dei parti imparavo a prevedere e ad orientare le sue risposte entravo nel suo gioco mi figuravo d'essere io Osroe nell'atto di contrattare con Adriano detesto i vaniloqui nei quali ciascuno sa in anticipo cosa cederà o cosa non cederà la franchezza negli affari mi piace soprattutto come mezzo per semplificare le cose e progredire in fretta i parti ci temevano noi paventavamo i parti da questa reciproca paura poteva nascere la guerra i satrapi la estigavano per interesse personale non tardai ad accorgermi che anche Osroe aveva i suoi quieto i suoi palma Farasmane il più turbolento di quei principi semi indipendenti assegnati alle frontiere era ancor più pericoloso per l'impero partico che per noi mi hanno accusato di aver fiaccato con l'elargizione di sussidi quell'ambiente molle e malefico era danaro investito bene ero troppo sicuro della superiorità delle nostre forze per irrigidirmi su un amor proprio idiota ero pronto a tutte le concessioni formali fatte solo di prestigio ma a nessun'altra la cosa più difficile fu persuadere Osroe che se facevo poche promesse era perché intendevo mantenerle tuttavia mi credette o finse di credermi l'accordo concluso tra noi durante quella visita dura ancora da quindici anni a questa parte nessuno di noi ha turbato la pace alle frontiere conto su di te Marco affinché questo stato di cose perduri dopo la mia morte 18 mesi dopo mi feci iniziare a Eleusi in un certo senso questa visita a Osroe aveva segnato una svolta nella mia vita invece di tornare a Roma avevo deciso di dedicare qualche anno alle province greche e orientali dell'impero Atene diventava sempre più la mia patria il mio centro ci tenevo molto a piacere ai greci e anche a ellenizzarmi il più possibile ma quella iniziazione motivata in parte da considerazioni politiche costituì tuttavia un'esperienza religiosa senza pari quei riti solenni non fanno che simboleggiare gli avvenimenti dell'esistenza umana ma il simbolo va oltre l'atto spiega ciascuno dei nostri gesti in termini di meccanica eterna l'insegnamento che si riceve a Eleusi deve restare segreto del resto ha ben poche probabilità di venire divulgato in quanto è per sua natura ineffabile una volta formulato non condurrebbe che alle certezze più banali in questo appunto risiede la sua profondità i gradi più elevati che mi vennero conferiti in seguito nel corso di conversazioni private con lo ierofante nulla o quasi nulla aggiunsero all'emozione iniziale che il più oscuro dei pellegrini partecipando alle abluzioni rituali o dissetandosi a quella sorgente prova in egual misura avevo sentito le dissonanze risolversi in accordo per un istante mi ero posato su una sfera diversa avevo contemplato da lungi ma anche molto da vicino quella teoria umana e divina nella quale occupo il mio posto anch'io quel mondo nel quale esiste ancora il dolore non più l'errore la sorte umana quel vago tracciato al quale un occhio o meno esercitato attribuisce tante imperfezioni scintillava come le scie del cielo a questo punto conviene che io ti accenni un'abitudine che per tutta la vita mi indusse a percorrere sentieri meno segreti di quelli di Eleusi ma che in fin dei conti vi corrono paralleli voglio intendere lo studio degli astri sono stato sempre amico degli astronomi e cliente degli astrologi la scienza di questi ultimi è incerta falsa nelle singole parti forse veritiera nell'insieme dato che l'uomo particella dell'universo è governato dalle leggi medesime che presiedono al cielo non è poi così assurdo cercare lassù i temi delle nostre esistenze le fredde simpatie che partecipano ai nostri successi e ai nostri errori non c'è sera d'autunno in cui io mancai mai di salutare a sud dell'acquario il coppiere celeste il dispensatore in segne sotto il cui segno sono nato non mancavo mai di riconoscere in ciascuna delle loro evoluzioni Giove e Venere i moderatori della mia vita né di misurare l'influenza del funesto Saturno ma se questa strana proiezione dell'uomo sulla volta stellare spesso turbava le mie veglie ancor più fortemente mi interessavo alle matematiche celesti speculazioni astratte alle quali i grandi corpi incandescenti ci inducono uniformandomi ai più temerari tra i nostri sapienti ero incline a ritenere che la terra partecipi anch'essa a quel periplo notturno e diurno del quale le processioni sacre di Eleusi rappresentano tutt'al più il simulacro umano in un mondo dove tutto non è che turbine di forze danza di atomi dove tutto si trova contemporaneamente in alto e in basso al centro e alla periferia non riuscivo a farmi convinto dell'esistenza ad un globo immobile ad un punto fisso che non fosse al tempo stesso in moto altre volte i calcoli sul ricorso degli equinozi già stabilito dai parco di Alessandria assillavano le mie veglie notturne vi ritrovavo sotto forma di dimostrazione e non più favola o simbolo lo stesso mistero eleusino dei corsi e ricorsi la spiga della vergine ai nostri giorni non si trova più in quel punto della carta dove l'ha segnata il parco e questa variazione è il compimento d'un ciclo che conferma le ipotesi dell'astronomo lentamente e ineluttabilmente il firmamento tornerà a essere quello che era ai tempi di Ipparco e sarà nuovamente quello che è oggi ai tempi di Adriano quel disordine si integrava nell'ordine il mutamento faceva parte di un piano che l'astronomo era in grado di prevedere in anticipo lo spirito umano rivelava la sua partecipazione all'universo per il fatto di aver concepito teoremi esatti così come a Eleusi con le grida rituali e le danze l'uomo che contempla gli astri e gli astri contemplati ruotano ineluttabilmente verso la loro fine segnata in qualche punto del cielo ma ogni momento di questa caduta rappresentava un tempo d'arresto un riferimento il segmento di una curva solida quanto una catena d'oro ogni slittamento ci riconduceva a quel punto che oggi dato che per caso ci siamo trovati a viverci ci appare un centro l'estate successiva al mio incontro con Osroe la trascorsi in Asia Minore sostai nella vitinia per sorvegliare di persona il taglio delle foreste di Stato a Nicomedia città luminosa civile raffinata presi alloggio in casa del procuratore della provincia Cneo Pompeo Proculo nell'antica residenza del re Nicomede ancora impregnata dei ricordi voluttuosi di Giulio Cesare giovane la brezza della propontide ventilava quelle sale fresche e buie Proculo un uomo di gusto organizzò qualche riunione letteraria in mio onore sofisti di passaggio gruppi di studenti e di letterati si riunirono nei suoi giardini in riva a una sorgente dedicata al dio Pan di tanto in tanto un servo vi immergeva una grande anfora di argilla porosa e i versi più limpidi sembravano opachi a paragone di quell'acqua pura una sera si dette lettura ad un lavoro piuttosto astruso di licofrone che mi è caro peraltro per le folli combinazioni di armonie di allusioni e di immagini quel suo sistema complesso di riflessi e di echi un giovanetto in disparte ascoltava quelle strofe ardue con un'attenzione pensosa e distratta al tempo stesso e io pensai subito a un pastore nel cuore della foresta vagamente in ascolto del grido misterioso d'un uccello non aveva né tavolette né stilo con sé seduto sui bordi della vasca sfiorava quella bella superficie levigata con le dita seppì che suo padre aveva occupato una modesta carica nell'amministrazione dei vasti domini imperiali affidato giovanissimo alle cure d'un suo avo lo scollaretto era stato inviato presso un ospite dei suoi genitori che era armatore a nicomedia e che a quella povera famiglia appariva ricco quando gli altri si furono allontanati lo trattenni era poco istruito ignaro quasi di tutto ma riflessivo ingenuo conoscevo Claudiopoli la sua città natale riuscì a farlo parlare della sua casa a limitare delle grandi foreste di pini che forniscono l'albero maestro alle nostre navi del tempio di Attis situato sulla collina di quelle musiche stridenti che gli erano care dei bei cavalli del suo paese delle strane sue divinità quella voce lievemente velata si esprimeva in greco con accento asiatico improvvisamente nel sentirsi ascoltato o forse anche osservato il ragazzo si confuse arrossì ricadde in uno di quei silenzi ostinati ai quali mi abituai ben presto si abbozzò comunque un'intimità in seguito mi accompagnò in tutti i miei viaggi e cominciarono per me alcuni anni favolosi Antino era greco sono risalito nelle memorie di quella famiglia antica e oscura sino all'epoca dei primi coloni arcadi sulle sponde della propontide ma l'asia aveva prodotto su quel sangue un po' acre l'effetto della goccia di miele che rende torbido e aromatico un vino puro ritrovavo in lui le superstizioni di un discepolo d'Apollonio il culto monarchico di un suddito orientale del gran re la sua presenza era straordinariamente silenziosa ma seguito come un animale o come un genio familiare aveva le infinite capacità di allegria e di indolenza ad un cucciolo la selvatichezza la fiducia quel bel levriero ansioso di carezze e di ordini si distese sulla mia vita ammiravo quell'indifferenza quasi altera verso tutto ciò che non costituiva il suo piacere o il suo culto essa suppliva in lui al disinteresse allo scrupolo a tutte le virtù volute austere mi stupiva quella sua aspra dolcezza quella devozione torva che impegnava l'essere intero e tuttavia quella sottomissione non era cieca quelle palpebre tante volte abbassate nell'acquiescenza o nel sogno si levavano gli occhi più attenti del mondo mi scrutavano in viso mi sentivo giudicato ma lo ero come lo è un dio da un suo fedele le mie asprezze i miei attacchi di diffidenza ne ebbi più tardi erano pazientemente gravemente accettati sono stato padrone assoluto una volta sola e di un solo essere quando mi volgo indietro a quegli anni mi sembra di ritrovare l'età dell'oro tutto era facile le fatiche d'altri tempi erano compensate da una facilità quasi sovrumana viaggiare era un gioco un piacere controllato noto e abilmente praticato il lavoro incessante non era che un altro modo di godere la mia vita in cui tutto è arrivato tardi il potere la felicità assumeva lo splendore del meriggio la radiosità solare delle ore di siesta quando tutto è soffuso di un'atmosfera dorata gli oggetti della nostra camera e il corpo disteso al nostro fianco la passione appagata alla sua innocenza fragile quasi quanto ogni altra il resto della bellezza umana declinava al rango di spettacolo cessava ad essere quella selvaggina di cui ero stato il cacciatore quell'avventura iniziata in modo banale arricchiva la mia vita ma la rendeva d'altro canto più semplice l'avvenire contava poco cessavo di interrogare gli oracoli le stelle non furono più dall'ora in poi che disegni mirabili sulla volta del cielo non avevo osservato mai con altrettanto rapimento il pallore dell'alba sull'orizzonte delle isole la frescura delle grotte consacrate alle ninfe abitate da uccelli migratori il lento volo delle quaglie al crepuscolo mi diedi a rileggere i poeti alcuni mi sembrarono migliori la maggior parte peggiori di prima scrissi versi che mi parvero meno mediocri del solito condussi Antino nell'arcadia dei suoi avi le foreste vi restavano impenetrabili come ai tempi in cui vi avevano abitato quegli antichi cacciatori di lupi a volte con un colpo di frusta un cavallerizzo fugava una vipera sulle cime sassose il sole era rovente come nel pieno dell'estate il giovinetto addossato alla roccia sonnecchiava la testa reclinata sul petto i capelli sfiorati dalla brezza simile a a un endimione del giorno una lepre che il mio cacciatore giovinetto aveva addomesticata con infinita pazienza fu sbranata dai cani fu l'unico dispiacere di quei giorni senza nubi la barca che il mercante erasto di efeso mi cedeva per navigare nell'arcipelago gettò l'ancora nella baia di falero mi stabilìa ad atene come un uomo che torna a casa sua osai metter mano a quella bellezza tentai di rendere perfetta quella città ammirevole dopo una lunga decadenza atene si ripopolava nuovamente e ricominciava a crescere dopo un lungo periodo di declino ne raddoppiai l'estensione mi prefiguravo un'atene rinnovata la città di adriano al fianco di quella di teseo tutto era da riordinare da ricostruire sei secoli innanzi era stato abbandonato appena iniziato il grande tempio consacrato a giove olimpico i miei operai si misero al lavoro atene conobbe di nuovo l'attività gioiosa che non aveva assaporata più dai tempi di pericle qualche tempo più tardi nella frigia sui confini dove la grecia e l'asia si confondono ho avuto l'immagine più lucida e completa di quella felicità eravamo accampati in una località deserta e selvaggia dove la tomba di alcibiade il quale morì laggiù vittima delle macchinazioni dei satrapi avevo fatto collocare su quel sepolcro abbandonato da secoli una statua di marmo pario l'effigie di quell'uomo che fu tra quelli che la grecia ha amato di più avevo ordinato altresì che ogni anno vi si celebrassero riti commemorativi gli abitanti del villaggio vicino si erano aggregati alle persone del mio seguito per la prima di quelle cerimonie fu sacrificato un torello e una parte della sua carne fu riservata per il festino della sera fu improvvisata una corsa di cavalli nella pianura si ebbero danze alle quali il fanciullo di Bitinia prese parte con grazia impetuosa più tardi quando fu spento l'ultimo fuoco gettò indietro la sua bella gola e cantò mi piace stendermi al fianco dei morti per misurarmi con loro quella sera paragonai la mia vita a quella di quel gaudente già prossimo alla vecchiaia che era caduto in quel luogo trafitto dalle frecce difeso strenuamente da un amico giovinetto e pianto da una cortigiana ateniese la mia giovinezza non aveva preteso il prestigio di quella di Alcibiade ma la mia varietà eguagliava e sorpassava la sua io avevo governato un mondo infinitamente più vasto di quello nel quale l'ateniese era vissuto vi avevo mantenuto la pace l'avevo attrezzato come una bella imbarcazione ben munita per un viaggio che durerà molti secoli avevo lottato in ogni modo per secondare il senso del divino nell'uomo senza tuttavia sacrificare a esso l'umano la mia felicità era il mio compenso c'era Roma ma non ero più costretto a destreggiarmi a lusingare a piacere le opere del mio principato si imponevano le porte del tempio di Giano che si aprono in tempo di guerra restavano chiuse le mie buone intenzioni davano i loro frutti la prosperità delle province rifluiva nella metropoli non rifiutai più il titolo di padre della patria che mi era stato proposto all'epoca del mio avvento Plotina non era più durante un mio precedente soggiorno nell'urbe avevo rivisto per l'ultima volta quella donna dal sorriso un po' stanco che il protocollo ufficiale mi attribuiva per madre e che era per me assai di più la mia unica amica questa volta non ritrovai di lei che una piccola urna deposta sotto la colonna traiana assistei di persona alle cerimonie dell'apoteosi in contrasto con l'uso imperiale presi il lutto per un periodo di nove giorni ma la morte modificava ben poco quella intimità che da anni faceva a meno della presenza l'imperatrice restava quella che era sempre stata per me uno spirito un pensiero al quale il mio si era unito giungevano a termine alcuni grandi lavori di costruzione il colosseo restaurato purificato dei ricordi di Nerone che lo funestavano ancora era adorno invece che dell'immagine di quell'imperatore di un effigie colossale del sole Elio Re per un'allusione al mio nome gentilizio Elio si dava l'ultima mano al tempio di Venere e Roma costruito anch'esso nel luogo della scandalosa Domus Aurea dove Nerone aveva fatto pompa ignobile di un lusso mal conseguito mi si era imposta la costruzione di un tempio a tutti gli dèi di un panteon ne avevo scelto l'area sulle rovine delle antiche terme pubbliche offerte al popolo romano da Agrippa genero di Augusto del vecchio edificio non restava null'altro che un portico e la lastra di marmo d'una dedica al popolo di Roma che fu ricollocata accuratamente così com'era sul frontone del nuovo tempio poco mi importava che figurasse il mio nome su quel monumento che esprimeva il mio pensiero al contrario mi piaceva che un'iscrizione antica ad un secolo e più lo associasse agli inizi dell'impero al regno pacificato di Augusto anche là dove rinnovavo mi piaceva sentirmi anzitutto un continuatore al di là di Traiano e di Nerva divenutimi ufficialmente padre e Avo mi riattaccavo persino a quei dodici cesari tanto denigrati da Svetonio la lucidità di Tiberio ma non la sua durezza l'erudizione di Claudio non la sua debolezza l'amore delle arti di Nerone esente però da ogni sciocca vanità la bontà di Tito ma non così dolciastra la parsimonia di Vespasiano senza la sua lesina ridicola costituivano altrettanti esempi che mi proponevo quei principi avevano rappresentato la loro parte nelle cose umane ormai aspettava a me scegliere tra i loro atti quelli che era bene continuare consolidare i migliori correggere i peggiori sino al giorno in cui altri uomini più o meno qualificati di me ma ma ugualmente responsabili si sarebbero incaricati di fare altrettanto con i miei atti avevo ritoccato di persona i progetti troppo cauti dell'architetto Apollo d'oro delle arti della Grecia vogli servirmi per le decorazioni come per un lusso supplementare ma per la struttura dell'edificio ero risalito ai tempi primitivi e favolosi di Roma ai templi rotondi dell'Etruria antica avevo voluto che quel santuario di tutti gli dèi riproducesse la forma della terra e della sfera stellare della terra dove si racchiudono le sementi del fuoco eterno della sfera cava che tutto contiene era quella inoltre la forma di quelle capanne ancestrali nelle quali il fumo dei più antichi focolari umani usciva da un orifizio aperto alla sommità la cupola costruita ad una lava dura e leggera che pareva participe ancora del movimento ascensionale delle fiamme comunicava col cielo attraverso un largo foro alternativamente nero e azzurro quel tempio aperto e segreto era concepito come un quadrante solare le ore avrebbero percorso in circolo i suoi riquadri accuratamente levigati da artigiani greci il disco del giorno vi sarebbe rimasto sospeso come uno scudo d'oro la pioggia avrebbe formato una pozzanghera pura sul pavimento la preghiera sarebbe volata simile al fumo verso quel vuoto nel quale collochiamo gli dèi a poco a poco la luce cambiò dopo due anni e più si notavano le orme del tempo dei progressi di una giovinezza che si forma si indora sale quasi allo zenith la voce fonda del fanciullo si abituava a dare ordini a nocchieri e capicaccia la falcata più lunga del corridore le gambe del cavaliere che stringono la cavalcatura con maggiore esperienza l'alunno che a claudiopoli aveva imparato a memoria lunghi frammenti di omero e si appassionava di poesia lasciva e raffinata ora si estasiava di alcuni brani di platone il mio pastorello diventava un giovane principe non era più il fanciullo zelante che alle soste si gettava da cavallo per offrirmi l'acqua delle sorgenti attinta nel cavo delle sue palme ora il donatore conosceva il valore immenso dei suoi doni durante le cacce organizzate nelle terre di lucio in etruria mi ero divertito a mescolare quel volto perfetto alle fisionomie grevi e aggrottate dei grandi dignitari ai profili acuti degli orientali alle rozze grinte dei cacciatori barbari a costringere il mio diletto alla parte difficile di amico a Roma se erano orditi intrighi intorno alla sua giovane testa se erano esercitati sforzi e abietti per catturare la sua influenza e sostituirvene qualche altra la capacità di chiudersi in un pensiero unico dotava quel diciottenne di una sorta di indifferenza che manca ai più saggi aveva saputo sdegnare tutte quelle trame o ignorarle ma la sua bella bocca aveva assunto una piega amara che non sfuggì agli scoltori offro qui ai moralisti un'occasione facile per trionfare di me i miei censori si apprestano già a scoprire all'origine della mia sventura le conseguenze d'un traviamento il risultato d'un eccesso mi è difficile contraddirli in quanto non riesco a scorgere in che cosa mi sia traviato in che cosa io abbia ecceduto mi sforzo di ridurre il mio delitto se tale dobbiamo chiamarlo a proporzioni esatte mi dico che il suicidio non è poi così raro che è un fatto abbastanza comune morire a vent'anni la morte di Antinou è un problema oltre che una sciagura per me solo può darsi che questa sciagura sia stata inseparabile da un eccesso di gioia da un sovrappiù d'esperienza di cui non avrei consentito a privarmi né a privare il mio compagno di pericolo i miei rimorsi a poco a poco sono divenuti anch'essi un aspetto amaro di possesso un modo di assicurarmi di essere stato sino alla fine lo sventurato padrone del suo destino ma non ignoro che bisogna fare i conti con le iniziative personali di quelle strane e affascinante che resta malgrado tutto ogni essere amato se m'assumo tutta la colpa riduco quella giovane figura alle proporzioni di una statuetta di cera che io avrei modellato e poi infranta con le mie stesse mani non ho il diritto di avvilire quel raro capolavoro che fu la sua fine devo lasciare a quel fanciullo il merito della propria morte naturalmente non ne faccio una colpa al fattore dei sensi molto ovvio del resto che determinava la mia scelta in amore di passioni consimili ne erano passate spesso nella mia vita ma quegli amori frequenti non erano costati che un minimo di promesse di menzogne di pene la breve esaltazione per Lucio non mi aveva trascinato che a poche follie e rimediabili nulla vietava che sarebbe accaduto lo stesso di questa mia tenerezza suprema nulla salvo precisamente quella qualità unica che la distingueva dalle altre la sua fazione ci avrebbe condotti a quella fine senza gloria ma anche senza disastri che la vita procura a tutti coloro che non le ricusano il logorio del tempo avrei assistito al mutarsi della passione in amicizia come pretendono i moralisti oppure in indifferenza il che è più frequente un essere giovane si sarebbe staccato da me nel momento in cui il nostro legame avrebbe cominciato a pesarmi altre consuetudini sensuali o le stesse sotto forme diverse si sarebbero insediate nella sua vita il suo avvenire avrebbe contenuto un matrimonio né migliore né peggiore di tanti altri una carica nell'amministrazione delle province la gestione di un possedimento rurale in Bitinia o anche l'inerzia la vita di corte è proseguita in qualche posizione subalterna nel peggiore dei casi una di quelle carriere di favorito decaduto che si trasforma in confidente o in lenone la vera saggezza se ci capisco qualcosa consiste nella consapevolezza di tutte queste eventualità che costituiscono la vita stessa salvo a far di tutto per scartare le peggiori ma né quel fanciullo né io eravamo saggi più tardi ad Atene la consacrazione dell'Olimpiaion diede occasione a feste che ricordavano le solennità romane ma quel che a Roma si era svolto sulla terra laggiù avvenne in pieno cielo in un dorato meriggio autunnale presi posto sotto quel portico concepito per la statura sovrumana di Zeus il tempio di marmo pareva perdere peso fluttuare come una densa nube bianca le mie vesti rituali si intonavano con i colori della sera avevo collaborato con i secoli con la stessa vita greca l'autorità che esercitavo più che un potere era una potenza misteriosa che sovrasta l'uomo ma che agisce efficacemente solo attraverso la mediazione dell'uomo le nozze di Atene e Roma erano consumate il passato ritrovava il volto dell'avvenire la Grecia ripartiva come una nave lungamente immobilizzata dalla bonaccia che torna a sentire la spinta del vento nelle vele fu allora che mi strinse il cuore la malinconia ad un istante pensai che le parole ad impimento perfezione contengono in sé la parola fine forse non avevo fatto che offrire una nuova preda al tempo divoratore penetrammo poi all'interno del tempio dove gli scultori erano ancora intenti al lavoro l'immenso abbozzo del Zeus d'avori e d'oro rischiarava vagamente la penombra ai piedi dell'impalcatura il grande serpente che avevo fatto cercare in India per consacrarlo in quel santuario greco riposava già nella sua cesta di filigrana animale divino emblema strisciante dello spirito della terra da sempre associato al giovinetto nudo che simboleggia il genio dell'imperatore Antino compenetrandosi sempre più in questa parte servì lui stesso al serpente e la sua razione di colombe dalle ali tarpate poi levate le braccia al cielo pregò sapevo che questa preghiera fatta per me non si indirizzava che a me solo ma non ero abbastanza Dio per indovinarne il senso né per sapere se un giorno o l'altro sarebbe stata esaudita che sollievo uscire da quel silenzio da quella penombra turchina ritrovare le strade di Atene rischierate dalle lampade la familiarità del popolo le grida nell'aria densa della sera la giovane figura che ben presto avrebbe adornato tante monete del mondo greco diveniva per la folla una presenza amica un prodigio non l'amavo di meno l'amavo anzi di più ma il peso dell'amore come quello di un braccio teneramente posato sul petto a poco a poco si rendeva pesante riapparvero le comparse ricordo quel giovane asciutto e sottile che mi accompagnò durante un soggiorno a Mileto e al quale però rinunciai ricordo una serata a Sardi il poeta Stratone ci condusse da un luogo di perdizione a un altro in compagnia di losche conquiste quello Stratone che aveva preferito la libertà oscura nelle taverne asiatiche alla mia corte era uno squisito motteggiatore avido di provare la vanità di tutto quel che non è il piacere forse per scusarsi di aver sacrificato ad esso tutto il resto poi vi fu quella notte di smirne in cui costrinsi il mio giovane amico a subire la presenza di una cortigiana il fanciullo si era fatto dell'amore un'idea che restava austera perché era esclusiva il suo disgusto giunse fino alla nausea poi ci si abituò quelle vane prove si spiegano con la mia inclinazione alla sergolatezza vi si mescolava la speranza di inventare un'intimità nuova nella quale il compagno di piacere non avrebbe cessato d'essere l'amico il prediletto vi si mescolava la bramosia di istruirlo di far passare la sua giuvinezza attraverso le stesse esperienze che erano state quelle della mia forse anche più inconfessata l'intenzione di degradarlo a poco a poco a livello dei piaceri banali che non impegnano il mio bisogno di ferire quella tenerezza ombrosa che rischiava di costituire un impaccio nella mia vita non era esente da angoscia durante un viaggio nella troade visitammo la pianura dello scamandro sotto un libido cielo da bofera l'inondazione i cui danni ero venuto a ispezionare sul luogo trasformava in isolotti gli antichi sepolcri per alcuni istanti mi raccolsi sulla tomba di Ettore Antino andò a sognare su quella di Patroclo non sepe riconoscere nel cerbiatto che mi accompagnava l'emolo del camerata di Achille schernì le fedeltà appassionate che fioriscono soprattutto nei libri e la bella creatura insultata arrossì a sangue la franchezza era sempre più la sola virtù alla quale mi costringevo mi accorgevo che le discipline eroiche di cui la Grecia ha pervaso l'affetto di un uomo maturo per un compagno più giovane spesso non sono per noi che ipocrite smancerie ero rimasto più sensibile di quel che io credessi ai pregiudizi di Roma ricordavo che essi concedono al piacere la sua parte ma stimano l'amore una mania disdicevole ero ripreso dalla furia di non dipendere da nessun essere in maniera esclusiva mi esasperavano bizzarrie che erano proprie della giovinezza e come tali inseparabili dal mio compagno finivo per ritrovare in questa passione tanto dissimile tutto quel che m'aveva irritato nelle amanti romane i profumi la ricercatezza il lusso freddo delle acconciature ripresero posto nella mia vita in quel cuore malinconico si insinuarono i primi timori quasi ingiustificati lo vidi preoccuparsi d'aver presto diciannove anni qualche capriccio pericoloso collere che squassando su quella fronte caparvi agli anelli di medusa dei capelli si alternavano a una malinconia che somigliava al torpore a una dolcezza sempre più stanca mi accade di percuoterlo ricorderò sempre coi suoi occhi atterriti ma l'idolo offeso era pur sempre l'idolo e cominciavano i sacrifici espiatori pochi giorni prima di partire da Antiochia mi recai come in altri tempi a sacrificare in vita al monte Cassio l'ascensione fu fatta di notte come per l'Etna condussi con me solo una piccola cerchia di amici dai muscoli provati non mi proponevo soltanto di compiere un rito propiziatorio in quel santuario più sacro d'ogni altro volevo rivedere di lassù il fenomeno dell'aurora quel prodigio quotidiano che non ho mai contemplato senza un segreto palpito di gioia sulla vetta il sole fa risplendere gli ornamenti di rame del tempio i volti illuminati sorridono in piena luce mentre le pianure dell'Asia e il mare sono ancora immersi nell'ombra per pochi istanti l'uomo che prega sulla cima è il solo a godere del mattino tutto fu approntato per un sacrificio prendemmo a salire dapprima a cavallo poi a piedi lungo ardui sentieri fiancheggiati da ginestre e lentischi che si riconoscevano di notte dal profumo l'aria era densa quella primavera bruciava come altrove l'estate per la prima volta in un'ascensione in montagna mi mancò il respiro dovette appoggiarmi un istante sulla spalla del mio prediletto un temporale previsto da tempo da ermogene che se ne intende di meteorologia si scatenò a un centinaio di passi dalla cima i sacerdoti uscirono per venirci incontro al bagliore dei lampi l'esigua compagnia fradicia fino alle ossa si affrettò attorno all'altare disposto per il sacrificio questo stava per compiersi allorché un fulmine balenando su di noi uccise d'un colpo solo il vittimario e la vittima passato il primo istante di orrore ermogene si chinò con l'interesse dei medici sul gruppo fulminato cabria e il gran sacerdote prorupero in grida d'ammirazione l'uomo e il cerbiatto sacrificati da quella folgore divina s'univano all'eternità del mio genio quelle vite prolungavano la mia antino aggrappato al mio braccio tremava non già di terrore come credetti allora ma percosso da un'idea che compresi più tardi un essere che aveva orrore della decadenza fisica della vecchiaia da tempo aveva dovuto ripromettersi di suicidarsi al primo indizio di quella decadenza o anche molto prima oggi giungo a credere che questo impegno che molti di noi si giurano senza poi mantenerlo in lui fosse radicato da moltissimo tempo dall'epoca di Nicomedia da quell'incontro in riva alla sorgente questo impegno spiegava la sua indolenza il suo ardore nel piacere la sua malinconia la sua indifferenza totale per il futuro ma bisognava ancora che quella sua fine non avesse l'aria ad una rivolta non contenesse la minima recriminazione la folgre del Monte Cassio gli indicava una soluzione la morte poteva diventare una forma estrema di devozione l'ultimo dono il solo che sarebbe rimasto la luminosità dell'aurora fu una povera cosa accanto al sorriso che si aprì su quel viso turbato qualche giorno dopo rividi lo stesso sorriso ma più schivo velato da ambiguità a cena polemone che si interessava di chi romanzia volle esaminare la mano del giovinetto quel palmo dove spaventava anche me una paurosa caduta di stelle il fanciullo ritirò la sua mano la richiuse con un gesto suave quasi pudico voleva serbare il segreto del suo gioco e quello della sua fine sostammo a Gerusalemme qui studiai sul posto la pianta di una città nuova che mi proposi di costruire sul terreno della città ebraica distrutta da Tito l'eccellente amministrazione della Giudea l'incremento del commercio con l'Oriente rendevano necessario lo sviluppo di una grande metropoli in quell'incrocio di strade mi configurai la solita capitale romana Elia Capitolina avrebbe avuto i suoi templi i mercati le terme pubbliche il santuario della Venere romana la mia simpatia di fresca data per i culti teneri e appassionati mi indusse a stabilire sul monte Morià una grotta dove si sarebbero celebrate le feste a Donie tali progetti indignarono la plebe ebraica quei diseredati preferivano le loro rovine a una grande città nella quale verrebbero offerti tutti i profitti del guadagno del sapere e del piacere gli operai che davano il primo colpo di piccone a quelle mura crollanti furono molestati dalla folla passai oltre fido aquila che più tardi doveva impiegare il suo genio di organizzatore nella costruzione di antinopoli si mise all'opera a Gerusalemme mi rifiutai di vedere il rapido crescere dell'odio su quei cumuli di macerie un mese dopo giungemmo a Pelusa mi affrettai a far restaurare la tomba di Pompeo più mi ingolfavo negli affari d'oriente più ammiravo il genio politico del mortale vinto dal grande Giulio a volte Pompeo che aveva cercato di mettere ordine in quel mondo malsicuro dell'Asia mi sembrava avesse operato più efficacemente per Roma che non lo stesso Cesare quei lavori di restauro furono uno degli ultimi tributi che io resi ai morti della storia presto avrei avuto ben altri sepolcri a cui pensare il mio arrivo ad Alessandria avvenne con grande discrezione l'ingresso trionfale era stato rimandato alla venuta dell'imperatrice avevano persuaso mia moglie che viaggiava poco a trascorrere l'inverno nel mite clima d'Egitto Lucio non ancora guarito da una tosse ostinata doveva tentare lo stesso rimedio si adunava una flottiglia di barca in vista di un viaggio sul Nilo il programma comportava una serie di ispezioni ufficiali di feste di banchetti che minacciavano di essere faticosi quanto quelli di una stagione al palatino avevo organizzato io stesso tutto questo il lusso il prestigio di una corte non erano privi di valore politico in quel paese antico avvezzo ai fasti regali ma a maggior ragione mi stava a cuore dedicare alla caccia i pochi giorni che precedevano l'arrivo dei miei ospiti a Palmira Meleo Agrippa aveva organizzato per noi le battute nel deserto ma non ci eravamo inoltrati abbastanza per incontrare i leoni due anni prima l'Africa mi aveva offerto qualche bella caccia alle fiere a Dantino troppo giovane e troppo inesperto non avevo dato il permesso di prendervi parte in prima linea per lui avevo le viltà alle quali non avrei mai pensato per me stesso cedendo come sempre gli promesi un ruolo di primo piano in quella caccia al leone non era più tempo di trattarlo da bambino ed ero fiero di quella giovane forza ma i primi giorni non ci fruttarono che qualche gazzella quella volta stabilimmo di andare ad appostarci entrambi nei pressi d'uno stagno sabbioso ricoperto di canne dicevano che al crepuscolo il leone vi si dissetasse e improvvisamente tra un fruscio di canne calpestate apparve la belva regale volse verso di noi il suo terribile magnifico muso uno degli aspetti più divini che possa assumere il pericolo trovandomi un po' indietro non ebbe il tempo di trattenere il fanciullo il quale imprudentemente spronò il cavallo lanciò la picca poi i suoi due giavellotti con arte ma troppo da vicino la belva trafitta nel collo crollò battendo il suolo con la coda la sabbia sollevata ci impediva di distinguere altro che una massa ruggente e confusa infine il leone si drizzò raccolse le forze per slanciarsi sul cavallo e sul cavaliere disarmato avevo previsto questo pericolo per fortuna la cavalcatura di antino non ebbe uno scarto i nostri animali erano mirabilmente addestrati a quella sorta di giochi gettai nel mezzo il mio cavallo esponendo il fianco destro avevo l'abitudine a simili esercizi non mi fu difficile finire la belva già colpita a morte rovinò per la seconda volta il muso si voltolò nella melma un rivoletto di sangue nero colò sull'acqua il grosso gatto color del deserto del miele e del sole spirò con una maestà più che umana antino si precipitò giù dal cavallo coperto di schiuma che tremava ancora i compagni ci raggiunsero i negri trainarono al campo l'immensa vittima morta fu improvvisato a una specie di festino il giovanetto disteso sul ventre davanti a un vassoio di rame ci distribuì con le sue stesse mani le porzioni di agnello cotto sotto la cenere in suo onore si libò vino di palma la sua esaltazione cresceva come un canto forse egli esagerava il significato dell'aiuto che gli avevo prestato dimentico che avrei fatto altrettanto per qualsiasi cacciatore in pericolo tuttavia ci sentivamo riportati in quel mondo eroico nel quale gli amanti muoiono l'uno per l'altro la gratitudine e l'orgoglio si alternavano nella sua gioia come le strofe di un'ode i negri fecero miracoli la sera stessa la pelle scorticata oscillava sotto le stelle sospesa a due pali all'entrata della mia tenda malgrado gli aromi di cui l'avevano cosparsa l'odore ferino ci assillò tutta la notte l'indomani dopo una colazione di frutta lasciammo il campo al momento della partenza scorgemmo in un fosso quel che restava della belva regale della vigilia non era più che una carcassa sanguinolenta sormontata da un nugolo di mosche pochi giorni dopo rientrammo ad Alessandria e infine giunse l'imperatrice la lunga traversata l'aveva affaticata diventava fragile senza cessare d'essere dura le sue amicizie politiche non mi procuravano più grattacapi come all'epoca in cui aveva scioccamente incoraggiato Svetonio ormai si circondava soltanto di inoffensive letterate la sua confidente del momento una certa Giulia Balbilla componeva versi greci abbastanza bene l'imperatrice e il suo seguito presero stanza al liceum ed uscirono raramente Lucio al contrario era come sempre avido di tutti i piaceri compresi quelli del pensiero e degli occhi a 26 anni non aveva perduto quasi nulla di quella bellezza prodigiosa che lo faceva acclamare per le strade dalla gioventù romana seguitava essere assurdo ironico e gaio i suoi capricci d'altri tempi erano diventati manie non si spostava senza il capocuoco persino a bordo i giardinieri gli componevano prodigiosi ai uole di fiori rari dappertutto si tirava dietro il suo letto di cui aveva disegnato il modello personalmente composto di quattro materasse zeppe di quattro specie rare di aromi un letto sul quale giaceva circondato dalle sue giovani amanti come da altre tanti guanciali i suoi paggi dipinti incipriati acconciati come gli zefferi e l'amore si conformavano come meglio potevano a manie talvolte crudeli dovette intervenire per impedire che il piccolo borea del quale ammirava la figura sottile si lasciasse morir di fame tutte cose più irritanti che graziose visitammo insieme tutto quel che si visita ad alessandria il faro il mausoleo di alessandro quello di marcantonio dove cleopatra eternamente trionfa su ottavia senza tralasciare i templi gli opifici le fabbriche e neppure il quartiere degli imbalsamatori da uno scultore pregevole comprai un blocco di veneri di diane e di ermes per italica la mia città natale che mi proponevo di rimodernare di abbellire il sacerdote del tempio di serapide mi offrì un servizio di vetri opalini che feci inviare a serviano per riguardo a mia sorella paolina cercavo di mantenere rapporti abbastanza cordiali con lui durante queste ispezioni piuttosto fastidiose studiamo insieme vasti progetti edilizi ad alessandria il solo idolo è l'oro in nessun luogo ho visto postulanti più sfrontati iscrizioni pompose furono sciorinate un po' dappertutto per esaltare i miei benefici ma ben presto il mio rifiuto di esonerare la popolazione da una tassa che era perfettamente in grado di pagare mi alienò quella turba i due giovinetti che mi accompagnavano furono insultati più volte a Lucio si rimproverava il lusso eccessivo del resto ad Antinoo le origini oscure sul conto delle quali correvano dicerie assurde a entrambi l'ascendente su di me che a loro si attribuiva asserzione ridicola questa Lucio che pur giudicava i pubblici affari con perspicacia sorprendente non aveva la minima influenza politica Antinoo non tentava neppure di averne il giovane Patrizio che conosceva il mondo non fece che ridere di quegli insulti ma Antinoo ne soffrì gli ebrei somillati dai correligionari di Giudea facevano del loro meglio per inasprire quella pasta già acida la sinagoga di Gerusalemme delegò il suo membro più venerato Akiba un vegliardo quasi nonagenario il quale non sapeva il greco per convincermi a rinunciare ai progetti già in corso di attuazione a Gerusalemme assistito da interpreti ebbi con lui parecchi colloqui che da parte sua non furono che pretesti per monologhi in meno di un'ora mi sentì in grado di intendere esattamente il suo pensiero se non di sottoscriverlo ma egli non compì lo stesso sforzo per quel che concerneva il mio quel fanatico non sospettava neppure che si potesse ragionare su premesse diverse dalle sue offrivo a quel popolo denigrato un posto tra gli altri nella comunità romana per bocca di Akiba Gerusalemme mi faceva sapere la sua volontà di rimanere fino all'ultimo la fortezza di una razza e di un dio isolato dal genere umano questa risoluzione forse è nata si esprimeva con sottigliezze estenuanti dovetti subire una lunga serie di ragioni sapientemente dedotte le une dalle altre della superiorità di Israele al termine di otto giorni quel negoziatore ostinato si accorse tuttavia d'aver sbagliato strada e manunciò che partiva detesto la sconfitta persino quell'altrui mi commuove soprattutto quando il vinto è un vecchio l'ignoranza di Achiba il suo rifiuto di accettare tutto ciò che non fosse i suoi libri santi e il suo popolo gli conferivano una sorta di candida innocenza ma era ben difficile intenerirsi per quel settario pareva che la longevità lo avesse spogliato di qualsiasi duttilità umana quel corpo scarno quello spirito asciutto erano dotati di un vigore duro da cavalletta pare che in seguito sia morto da eroe per la causa del suo popolo o piuttosto della sua legge ognuno si vota ai propri dei gli svaghi di Alessandria cominciavano a esaurirsi Flegone che in ogni luogo conosceva le curiosità locali il Lenone o l'ermafrodita celebre propose di condurci da una maga codesta mediatrice dell'invisibile abitava a Canopo ci recammo con la nottetempo in barca sul canale dalle acque dense le sue predizioni furono sinistre dopo averci amareggiati il più che poteva l'indovina ci propose i suoi servizi uno di quei sacrifici magici di cui gli stregoni d'Egitto vantano la specialità sarebbe bastato per accomodare tutto amichevolmente col destino le mie incursioni nella magia fenicia già mi avevano fatto comprendere che l'orrore di quelle pratiche proibite risiede non tanto in quel che ci vi è mostrato quanto in quello che ci si nasconde se non fosse stata nota la mia avversione per i sacrifici umani probabilmente mi si sarebbe proposto di molare uno schiavo ci si contentò di chiedermi un animale domestico la vittima sacrificale per quanto era possibile doveva avermi appartenuto non poteva trattarsi di un cane bestia che la superstizione egizia ritiene immonda sarebbe stato opportuno un uccello ma io non viaggio accompagnato da un'uccelliera il mio giovane amico mi propose il suo falcone le condizioni si sarebbero trovate ad impiute quel bell'uccello gliel'avevo regalato io stesso dopo averlo ricevuto dal re d'Osroene il fanciullo lo nutriva con le sue mani era una delle poche sue proprietà alle quali si fosse affezionato sulle prime rifiutai insistette serio compresi che attribuiva un significato straordinario a quell'offerta e accettai per farlo contento il mio corriere menecrate munito delle istruzioni più minuziose partì per andare a prendere quell'uccello nei nostri appartamenti del serapeo anche al galoppo la corsa avrebbe richiesto più di un paio d'ore non era il caso di trascorrerle nella sudicia stamberga della maga e Lucio si lamentava dell'umidità della barca Flegone trovò un espediente ci si installò alla meglio presso un mezzano dopo esserci sbarazzati del personale della casa e Lucio stabilì di dormire io profitai di quell'intervallo per dettare alcuni dispacci Antino si stese ai miei piedi il calamo di Flegone crepitava sotto la lampada toccavamo già l'ultima veglia della notte quando Menecrate riportò l'uccello la manopola il cappuccio e la catena ritornammo dalla maga Antino tolse il cappuccio al suo falcone ne carezzò lungamente la testolina insonnolita e selvatica lo consegnò all'incantatrice la quale diede inizio a una serie di riti magici l'uccello affascinato si riaddormentò bisognava che la vittima non si dibattesse e che la morte sembrasse volontaria l'animale già inerte cosparso di miele e di essenze di rose fu deposto sul fondo d'una bacinella colma d'acqua del nilo la creatura annegata si assimilava a Osiris portata dalla corrente del fiume gli anni terrestri dell'uccello si aggiungevano ai miei la piccola anima solare si univa al genio dell'uomo al cui favore si sacrificava ormai quel genio invisibile avrebbe potuto apparirmi e servirmi sotto quella forma le lunghe manipolazioni che seguirono non furono più interessanti di una preparazione culinaria lucio sbadigliava le cerimonie imitarono fino all'ultimo i funerali umani fumigazioni e salmodie si prolungarono fino all'alba l'uccello fura chiuso in una bara colma di aromi che la maga sotterrò in nostra presenza in riva al canale in un cimitero abbandonato poi si accoccolò sotto un albero per contare a una a una le monete d'oro del suo compenso che Flegone le aveva versato resalimmo in barca soffiava un vento singolarmente gelido lucio seduto accanto a me traeva a sé con la punta delle dita sottili le coltre di cotone ricamato solo per cortesia seguitavamo a scambiarci salto ariamente qualche frase sulle faccende e gli scandali di Roma Antino disteso in fondo alla barca mi aveva posato la testa sulle ginocchia fingeva di dormire per isolarsi da quella conversazione da cui si sentiva escluso la mia mano gli scivolava sulla nuca tra i capelli così sempre nei momenti più vuoti e opachi avevo la sensazione di restare a contatto con i grandi soggetti della natura la densità delle foreste il dorso muscoloso delle pantere la pulsazione regolare delle sorgenti ma non v'è carezza che giunga fino all'anima quando giungemmo al serapeo il sole brillava i mercanti di cocomeri gridavano nelle strade la loro merce dormii fino all'ora della seduta del senato locale alla quale presenziai in seguito seppi che Antino profittò di quell'assenza per persuadere Cabria ad accompagnarlo a Canopo tornò dalla maga il primo giorno del mese di Atir l'anno secondo della 220esima sesta olimpiade è l'anniversario della morte di Osiris il dio delle agonie lungo il fiume e da tre giorni in tutti i villaggi echeggiavano acuti lamenti i miei ospiti romani meno avvezzi di me ai misteri dell'oriente mostravano una certa curiosità per quelle cerimonie di una razza così differente mentre io al contrario ne ero esasperato avevo fatto ormeggiare la mia imbarcazione a qualche distanza dalle altre lontano da qualsiasi luogo abitato ma in prossimità delle rive sorgeva un tempio faraonico semidiroccato che aveva ancora il suo collegio sacerdotale e non mi sottrassi del tutto al frastuono di quelle lamentazioni la sera precedente lucio mi aveva invitato a cena sulla sua barca e vi ero andato al tramontare del sole antino aveva ricusato di seguirmi lo lasciai che giaceva sull'impiantito della mia cabina di poppa disteso sulla sua pelle di leone intento a giocare agli aliossi con cabria una mezz'ora più tardi in piena notte mutò idea e fece chiamare un canotto con l'aiuto di un solo battegliere percorse controcorrente la distanza piuttosto considerevole che ci separava dalle altre imbarcazioni il suo ingresso sotto la tenda dove consumavamo la cena interruppe gli applausi provocati dalle contorsioni di una danzatrice si era vestito di una lunga tunica siriana tenue come la buccia di un frutto tutta cosparsa di fiori e di ricami per remare più liberamente aveva calato la manica destra e il sudore imperlava quel suo petto levigato lucio gli gettò una ghirlanda che egli afferrò al volo neppure un istante venne meno la sua gaiezza quasi stridula sostenuta appena da una coppa di vino greco rientrammo insieme nel mio canotto a sei remi accompagnati dalla buona notte tagliente di lucio l'allegria continuò ma al mattino per caso mi avvenne di toccare un viso gelato di lacrime chiesi a dantino con impazienza la ragione di quel pianto rispose umilmente scusandosi d'essere stanco accettai quella menzogna mi riaddormentai la sua vera agonia si svolse quella notte in quel nostro letto al mio fianco era appena giunto il corriere da Roma la giornata trascorse a leggere e a rispondere ai dispacci come sempre antino andava e veniva silenzioso nella stanza non so in qual momento quel bel levriero è uscito dalla mia vita verso l'ora dodicesima entrò da me cabria agitatissimo contro ogni regola antino aveva lasciato la nostra imbarcazione senza precisare la meta e la durata della sua assenza e dal momento della sua uscita erano trascorse almeno due ore cabria ricordò strane frasi pronunciate la sera innanzi una raccomandazione della stessa mattina che mi riguardava e mi comunicò i suoi timori ci affrettammo a scendere sulla riva il vecchio pedagogo si diresse distinto verso una cappella situata sulla sponda piccolo edificio isolato che faceva parte delle dipendenze del tempio e che Antino e lui avevano visitato insieme su un tavolo da offerte c'erano le ceneri di un sacrificio ancora tiepide cabria vi immerse le dita e ne trasse quasi intatto un ricciolo di capelli recisi non ci restava che esplorare le rive una serie di caverne che in altri tempi avevano dovuto servire a cerimonie sacre comunicavano con un'ansa del fiume sulla sponda dell'ultima di esse nel crepuscolo che scendeva rapido cabria scorse un abito ripiegato e un paio di sandali scesi quei gradini sdrucciolevoli era disteso sul fondo già affondato nella melma del fiume con l'aiuto di cabria riuscì a sollevare quel corpo che improvvisamente era diventato pesante come la pietra cabria lanciò un richiamo ad alcuni battelieri i quali improvvisarono una barella di tela ermogene chiamato d'urgenza non poté far altro che constatarne la morte quel corpo tanto docile si rifiutava di lasciarsi riscaldare di rivivere lo trasportammo a bordo tutto crollò attorno a me tutto sembrò spegnersi Zeus olimpico il padrone di tutte le cose il salvatore del mondo precipitò non vi fu più che un uomo dai capelli grigi che si inghiuzzava sul ponte d'una barca due giorni dopo ermogene riuscì a farmi pensare all'esequio i riti di sacrificio di cui Antino aveva voluto circondare la sua fine ci indicavano una sola via da seguire non era certo un caso se l'ora e il giorno di quella morte coincidevano con quelli in cui Osiris scende nella tomba mi recai a Ermopoli sull'altra riva dagli imbalsamatori ad Alessandria avevo visto all'opera i loro colleghi sapevo quali oltraggi stavo per infliggere a quel corpo ma è orrendo anche il fuoco che brucia e carbonizza quella carne che fu amata e anche la terra dove i morti imputridiscono la traversata fu breve accucciato in un angolo della cabina di poppa Euforione salmodiava con voce sommessa non so quale funebre la mentela africana quel canto rauco e soffocato mi sembrava quasi il mio stesso pianto trasportammo il morto in una sala lavata con acque copiose che mi ricordava la clinica di Satiro aiutai il modellatore a ungere d'olio quel volto caro prima di applicarvi la cera tutte le metafore ritrovavano un senso ho tenuto quel cuore tra le mani quando lo lasciai il corpo vuoto non era più che una preparazione anatomica il primo stadio d'un capolavoro atroce una sostanza preziosa trattata con sale e mirra ben conservata che l'aria e il sole non toccherebbero mai più al mio ritorno visitai il tempio nei pressi del quale il sacrificio sarà consumato parlai con i sacerdoti il loro santuario rinnovato tornerà a essere meta di pellegrinaggi da tutto l'Egitto il loro collegio sarà arricchito incrementato e per l'avvenire si consacrerà al culto del mio Dio neppure nei momenti più opachi avevo dubitato che quella giovinezza fosse divina in Grecia e in Asia sarà venerato secondo le nostre usanze con giochi danze offerte rituali ai piedi di una sua statua bianca e ignuda l'Egitto che aveva assistito alla sua agonia parteciperà anch'esso all'apoteosi la più tenebrosa la più segreta la più dura questo paese dovrà rappresentare per lui in eterno il ruolo dell'imbalsamatore per secoli i sacerdoti dal cranio rasato reciteranno salmodie nelle quali figurerà questo nome per loro senza valore ma che per me significa tutto ogni anno la nave sacra trasporterà quella effigie sul fiume il primo giorno del mese di Atir e le prefiche percorreranno quella sponda che io avevo percorso ogni ora alla sua incombenza immediata la sua ingiunzione che sovrasta ogni altra quella del momento era di difendere contro la morte il poco che mi restava Flegone aveva chiamato a raccolta per me sulla riva del fiume gli architetti e gli ingegneri del mio seguito sostenuto da una specie di ebbrezza lucida me li trascinai su per le colline sassose spiegai loro il mio piano il tracciato dei 45 stadi di muro di cinta segnai sulla sabbia il luogo dell'arco di trionfo e quello della tomba qui sarebbe sorta Antinopoli era già quasi vincere la morte l'imporre a quella terra sinistra una città tutta greca un bastione che avrebbe tenuto in soggezione i nomadi dell'Eritrea un nuovo mercato sulle strade dell'India Alessandro aveva celebrato le esequie di Efestio con devastazioni e decidi mi sembrava più bello offrire al mio prediletto una città dove il suo culto sarebbe stato associato per sempre all'anderiviene di una pubblica piazza dove il suo nome sarebbe tornato nelle conversazioni ogni sera e dove i giovani si sarebbero gettati ghirlande all'ora dei banchetti ma su questo punto il mio pensiero esitava mi sembrava impossibile abbandonare quel corpo in suolo straniero come chi è incerto della prossima tappa e prenota l'alloggio in più d'una locanda così io gli ordinai a Roma un monumento in riva altevere presso la mia tomba e pensai pure alle cappelle egizie che per capriccio avevo fatto costruire nella villa e che tutto a un tratto diventavano tragicamente utili stabilì il giorno delle esequie che avrebbero avuto luogo allo scadere dei due mesi richiesti dagli imbalsamatori affidai a mesomene l'incarico di istruire cori funebri tornai a bordo assai tardi nella notte ermogene mi preparò una pozione per conciliarmi il sonno continuammo a risalire il fiume ma io navigavo sullo stige nei campi dei prigionieri in riva al Danubio avevo visto una volta alcuni sventurati adagiati a un muro colpirsi continuamente la fronte con un moto selvaggio dolce e insensato ripetendo senza posa un nome nei sotterranei del Colosseo mi avevano mostrato leoni che deperivano perché era stato portato via il cane con il quale li avevano abituati a vivere raccolsi le mie idee Antino era morto da bambino avevo urlato sul cadavere di Marullino beccato dalle cornacchie ma così come urla di notte un animale privo della ragione mio padre era morto ma all'orfanello dodicenne che io ero non aveva notato che il disordine della casa e i pianti della madre e il proprio terrore non aveva saputo nulla dei momenti atroci che il morente aveva attraversato mia madre era morta molto più tardi all'epoca della mia missione in Pannonia non ne ricordavo neanche esattamente la data Traiano non era stato che un infermo al quale si trattava di far fare testamento Plutina non l'avevo vista morire anche Atiano era morto era vecchio durante le guerre tracce avevo perduto compagni d'arme che credevo di amare ma eravamo giovani la vita e la morte erano ugualmente inebrianti e dolci Antino era morto mi tornavano alla mente luoghi comuni uditi tante volte si muore a tutte le età muoiono giovani quelli che sono amati dagli dèi anch'io avevo preso parte a questo infame abuso di parole avevo detto morire di sonno morire di noia ma ero espresso con le parole agonia lutto perdita e Antino era morto l'amore il più saggio degli dèi ma l'amore non era responsabile di quella negligenza di quelle asprezze di quella indifferenza mescolate alla passione come la sabbia all'oro trascinato da un fiume di quell'accecamento grossolano d'uomo troppo felice e che invecchia avevo potuto essere così sordidamente soddisfatto Antino era morto lungi dall'amarlo troppo come senza dubbio in quel momento Serviano pretendeva a Roma non avevo amato abbastanza quel fanciullo da obbligarlo a vivere Cabria che nella sua qualità di iniziato orfico considerava il suicidio un delitto insisteva sull'aspetto sacrificale di quella fine provavo io stesso una specie di gioia orrenda a ripetermi che quella morte era un dono ma ero solo a misurare quanto fiele fermenti nel fondo della dolcezza quanta disperazione si cieli nell'abnegazione quanto odio si mescoli all'amore un essere oltraggiato mi gettava in viso quella prova di devozione un fanciullo nell'ansia di perdere tutto aveva trovato quel mezzo per legarmi per sempre a lui se con quel suo sacrificio aveva sperato di proteggermi aveva dovuto credersi amato ben poco per non sentire che perderlo sarebbe stato per me il peggiore dei mali le lacrime le lacrime cessarono i dignitari che mi avvicinavano non dovevano più distogliere lo sguardo dal mio viso come se il pianto fosse una vista oscena ricominciarono le ispezioni a fattorie modello e a canali di irrigazione poco importava come impiegare le ore già mille di cerie infondate che correvano nel mondo a proposito della mia sciagura persino nelle imbarcazioni che accompagnavano la mia circolavano versioni atroci a mio disdoro non me ne curavo la verità non era di quelle che si possono proclamare per le strade le più perfide invenzioni avevano una parvenza di verità a modo loro mi si accusava di averlo sacrificato e in un certo senso lo avevo fatto ermogene che mi riferiva fedelmente quelle di cerie si fece l'attore di qualche messaggio da parte dell'imperatrice si comportò con decoro lo si fa quasi sempre in presenza della morte quella compassione poggiava su un equivoco si accettava di compiangermi purché mi consolassi abbastanza presto e io stesso mi credevo quasi placato ne arrossivo quasi non sapevo che il dolore ripiega in labirinti strani dove non avevo ancora finito di addentrarmi si tentava di tutto per distrarmi pochi giorni dopo l'arrivo a Tebe seppi che l'imperatrice col suo seguito già due volte si era recata ai piedi del colosso di Memnone nella speranza di udire il suono misterioso che quella pietra manda all'aurora un fenomeno celebre al quale tutti i viaggiatori sperano di assistere il prodigio non aveva avuto luogo immaginavano superstiziosamente che si sarebbe operato in mia presenza acconsentì ad accompagnare le donne l'indomani tutti i mezzi erano buoni per abbreviare la durata interminabile di quelle notti d'autunno quel mattino verso l'ora undecima entrò nella mia camera euforione per ravvivare la lampada e aiutarmi a indossare le vesti uscì sul ponte il cielo ancora tutto nero era come il cielo di bronzo dei poemi di Omero indifferente alle gioie e alle sofferenze umane erano più di venti giorni che quella cosa era avvenuta presi posto nel canotto e il breve percorso si svolse tra le grida e la paura delle donne a prodammo poco lungi dal colosso una fiamma ad un rosa scialbo si allungò a oriente cominciava un altro giorno il suono misterioso si produsse tre volte somiglia a quello che si fa spezzando la corda d'un arco l'inesauribile Giulia Valvilla snocciolò immediatamente una serie di poesie le donne iniziarono la visita ai templi le accompagnai per un poco lungo le mure intarsiate di geroglifici monotoni ero tediato a morte da quelle figure colossali di re tutti uguali seduti l'uno accanto all'altro i piedi lunghi e piatti posati come oggetti da quei blocchi inerti nei quali nulla è presente di quel che per noi è la vita né il dolore né la voluttà né il moto che libera le membra né il pensiero che organizza il mondo intorno a una testa reclina i sacerdoti che mi guidavano sembravano male informati come me su quelle esistenze scomparse di tanto in tanto nasceva una discussione a proposito di un nome si sapeva vagamente che ognuno di quei monarchi aveva ereditato un regno governato i suoi popoli e generato il suo successore non restava nient'altro quelle dinastie oscure risalivano a età più antiche di Roma più antiche di Atene più ancora del giorno in cui Achille morì sotto le mura di Troia più del ciclo astronomico di cinquemila anni calcolato da Menone per Giulio Cesare stremato congedai i sacerdoti mi riposai un po' all'ombra del Colosso prima di risalire in barca le gambe del Colosso erano coperte sino al ginocchio di iscrizioni greche tracciate da viaggiatori non umidate una preghiera un certo servio soave un tale eumene avevano sostato in quel punto medesimo sei secoli prima di me un certo panio aveva visitato Tebe sei mesi avanti sei mesi avanti mi prese un capriccio che non avevo avuto più dall'epoca in cui bambino scrivevo il mio nome sulla corteccia dei castagni in Spagna l'imperatore che si rifiutava di far incidere i suoi titoli e i suoi attributi sui monumenti che aveva edificati diedi piglio alla daga e incise su quella pietra dura poche lettere greche una forma abbreviata e familiare del suo nome Adriano era ancora un opporsi al tempo un nome una somma di vita di cui nessuno calcolerà gli elementi innumerevoli un segno lasciato da un uomo smarrito in quella successione di secoli improvvisamente mi tornò alla mente che eravamo al ventisettesimo giorno del mese di Atir il quinto prima delle nostre calende di dicembre era il compleanno di Antino se fosse vissuto quel giorno avrebbe avuto vent'anni risalì a bordo la piaga chiusa troppo presto si era riaperta pianzi il viso affondato in un guanciale che Euforione mi passò sotto il capo quel cadavere e io partivamo alla deriva trascinati in senso contrario da due correnti del tempo ho resistito ho lottato contro il dolore come contro ogni cancrena ho ricordato le sue caparbietà le sue bugie mi son detto che sarebbe mutato ingrassato invecchiato fatica sprecata come un artigiano coscienzioso si logora a copiare un capolavoro così io mi accanivo a pretendere dalla mia memoria una esattezza insensata ricreavo quel petto alto e curvo come una corazza a volte l'immagine scaturiva da sola un'onda di dolcezza mi sommergeva una sera cabria mi chiamò per indicarmi una stella nella costellazione dell'aquila che era stata appena visibile fino allora e che improvvisamente palpitava come una gemma batteva come un cuore ne feci la sua stella il suo segno ogni notte mi esaurivo a seguirne il corso ho scorto strane figure in quella parte del cielo mi ritennero folle ma non mi importava la morte è penosa ma anche la vita può esserlo ogni cosa aveva un volto deforme la fondazione di antinopoli non era che un gioco derisorio una nuova città un asilo offerto alle frodi dei mercanti alle crudeli esazioni dei funzionari alla prostituzione al disordine ai vili che piangono i loro morti prima di dimenticarli l'apoteosi era vana quegli onori pubblici non sarebbero serviti ad altro che a fare del fanciullo un pretesto a viltà o a ironie un oggetto postimo di cupidigia o di scandalo una di quelle leggende un po' marce che ingombrano i recessi della storia il mio lutto non era che una forma di incontinenza una dissolutezza grossolana restavo colui che profitta colui che gode colui che prova tutto il mio prediletto mi consegnava la sua morte un uomo deluso piangeva su se stesso le idee stridevano le parole giravano a vuoto le voci avevano il ronzio delle cavallette o delle mosche su un mucchio di rifiuti le nostre barche dalle vele turgide come petti di colombe trasportavano intrighi e menzogne la stupidità faceva mostra di sé sulle fronti umane dappertutto trapelava la morte sotto il suo aspetto di decrepitezza o di putrefazione il frutto vacato l'orlo della tenda impercettibilmente liso una carogna sulla sponda i foruncoli di un viso il segno delle vergate sulla schiena dei marinai le mie mani mi sembravano sempre un po' sporche all'ora del bagno quando tendevo agli schiavi le gambe da depilare guardavo con disgusto questo corpo solido questa macchina quasi indistruttibile che digeriva camminava riusciva a dormire e un giorno o l'altro sarebbe tornata ai gesti dell'amore non tolleravo più che la presenza dei pochi servi che si ricordavano del morto a modo loro anch'essi lo avevano amato il mio lutto trovava un eco nel dolore un po' vano d'un massaggiatore o del vecchio negro addetto alle lampade ma il dispiacere non gli impediva di ridere sommessamente tra loro mentre prendevano il fresco sulla riva una mattina mentre ero appoggiato al parapetto scorsi nel quadrato delle cucine uno schiavo che ripuliva uno di quei pollastri che l'Egitto fa pullulare a migliaia nei forni poco puliti lo schiavo a un certo punto prese a piene mani il mucchio vischioso dell'interiore e lo gettò in acqua fece appena a tempo a voltare la testa per vomitare allo scalo di file durante una festa offerteci dal governatore un bimbo di tre anni nero come il bronzo figlio di un numida si infilò nelle gallerie del primo piano per guardare le danze cadde di sotto fecero del loro meglio per nascondermi l'incidente il padre tratteneva i singhiozzi per non disturbare gli ospiti del suo padrone lo si fece uscire con il cadavere dalla porta di cucina malgrado tutto intravvidi quelle spalle che si alzavano e si abbassavano convulse come sotto una sferza avevo la sensazione di assumere su di me quel dolore paterno come quello di ercole quello di alessandro quello di platone che piangevano i loro amici scomparsi feci portare qualche moneta d'oro a quel misero che cosa si può fare di più due giorni dopo lo rividi si spidocchiava beatamente sdraiato sulla soglia affluirono i messaggi di cordoglio pancrate mi inviò il suo poema finalmente terminato non era che un mediocre centone di esametri omerici ma per me il nome che vi tornava quasi ad ogni riga me lo rendeva più commovente di mille capolavori no menio mi fece recapitare una consolazione in piena regola trascorsi una notte a leggerla non vi mancava un solo luogo comune quelle esili barriere elevate dall'uomo contro la morte si sviluppavano su due linee la prima consisteva nel presentarcela come un male inevitabile nel ricordarci che né la bellezza né la giovinezza né l'amore sfuggono alla putrefazione nel provarci infine che la vita e la sua infinita teoria di sciagure sono ancor più orrende che la morte e val meglio perire che invecchiare verità propinateci per indurci alla rassegnazione ma esse giustificano soprattutto la disperazione la seconda linea di argomenti è in contraddizione con la prima ma i nostri filosofi non vanno molto per il sottile non si tratta più di rassegnarsi alla morte ma di negarla solo l'anima conta e veniva posta con arroganza come un dato di fatto l'immortalità di questa entità vaga che non abbiamo mai vista operare senza il suo corpo prima ancora di darsi la pena di provarci nell'esistenza non ne ero affatto certo svaniti il sorriso lo sguardo la voce le realtà imponderabili perché non l'anima gli imbalsamatori consegnarono la loro opera la sottile bara di cedro fu deposta dentro un sepolcro di porfido nella sala più segreta del tempio mi avvicinai timidamente al morto sembrava mascherato la rigida acconciatura egizia gli copriva i capelli le gambe fasciate dalle bende non erano più che un lungo involucro bianco ma il suo profilo di falco giovinetto non era mutato le ciglia gettavano sulle gote dipinte un'ombra che riconoscevo prima di portare a termine la fasciatura delle mani tennero a farmi ammirare le unghie d'oro ebbero inizio le litanie per bocca dei sacerdoti il morto dichiarava ad essere stato sempre veritiero sempre casto sempre caritatevole e giusto e vantava virtù che se le avesse praticate davvero lo avrebbero messo per sempre al bando dei vivi l'odore disfatto dell'incenso riempiva la sala al di là di una voluta cercavo di dare a me stesso l'illusione del suo sorriso e il bel viso immobile pareva tremare ho assistito a riti magici mediante i quali i sacerdoti costringono l'anima del defunto a incarnare una particella di sé nelle statue che ne conserveranno la memoria e ad altre ingiunzioni ancor più singolari quando tutto fu finito si applicò la maschera d'oro modellata sulla cera funebre aderiva strettamente alle sue fattezze ben presto quella bella superficie incorruttibile avrebbe riassorbito in sé ogni possibilità di luce e di calore e sarebbe giaciuta per sempre in quella cassa ermeticamente chiusa simbolo inerte di immortalità fu posto un fascio da cace sul petto una dozzina d'uomini sollevarono il pesante coperchio ma esitavo ancora sulla località del sepolcro ricordavo che mentre avevo ordinato dappertutto feste e apoteosi giochi funebri monete di nuovo conio statue sulle pubbliche piazze avevo fatto un'eccezione per Roma avevo temuto di aggravare ulteriormente l'animosità che circonda quasi tutti i favoriti stranieri mi dissi che io non sarei stato sempre a Roma per proteggere quella sepoltura anche il monumento previsto alle porte di antinopoli sembrava troppo esposto e poco sicuro seguì il consiglio dei sacerdoti essi mi indicarono sul fianco di una montagna della catena arabica a tre leghe circa dalla città una di quelle caverne che un tempo i re d'Egitto destinavano a servir loro da sepolcri un carro tirato da buoi trascinò il sarcofago su quella salita con le corde lo si fece scivolare giù per quei cunicoli da miniera lo si addossò a una parete di roccia il fanciullo di Claudiopoli scendeva nella tomba come un faraone come un tolomeo lo lasciamo solo entrava in quella durata senza aria senza luce senza stagioni e senza fine al cui confronto ogni vita appare breve aveva raggiunto quella stabilità quella calma forse i secoli ancora celati nel seno opaco del tempo sarebbero passati a migliaia su quella tomba senza rendergli l'esistenza è vero ma anche senza contribuire a quella morte senza poter impedire che egli sia esistito ermogene mi afferrò per il braccio per aiutarmi a risalire all'aperto fu quasi una gioia ritrovarsi alla superficie rivedere il freddo cielo turchino tra due costoni di roccia fulva il resto del viaggio fu breve ad Alessandria l'imperatrice si imbarcò per Roma tornai in Grecia via terra fu un viaggio lungo avevo ragione di credere che senza alcun dubbio sarebbe stato il mio ultimo viaggio ufficiale in oriente e a maggior ragione ci tenevo a ispezionare tutto di persona Antiochia dove feci una sosta di poche settimane ma parve sotto un aspetto nuovo ero meno sensibile che in altri tempi all'attrazione dei teatri alle feste ai piaceri dei giardini di Daphne alla folla turbinante che mi sfiorava notai di più l'incostanza perenne di quel popolo maldicente e motteggiatore che mi ricordava quello d'Alessandria la vacuità dei pretesi esercizi intellettuali lo sfoggio volgare del lusso da parte dei ricchi quasi nessuno di quei notabili afferrava l'insieme dei miei programmi di opere e di riforme in Asia si contentavano di profittarne a vantaggio della città e soprattutto proprio per un momento ebbi l'idea di incrementare l'importanza di Smirne o di Pergamo a danno dell'arrogante capitale siriaca ma i vizi di Antiochia sono inseparabili da qualsiasi metropoli non v'è grande città che possa andarne esente il disgusto per la vita di città mi indusse a volgermi ancor più se possibile alle riforme agrarie detti l'ultimo tocco alla lunga e complessa riorganizzazione dei possedimenti imperiali in Asia minore i contadini ne furono avvantaggiati e anche lo Stato in Traccia vogli visitare Andrinopoli dove erano affluiti i veterani delle campagne daciche e sarmate attirati da elargizioni di terre e da sgravi d'imposte ad Antinopoli risolsi da adottare lo stesso programma da lunga data avevo accordato in ogni luogo esenzioni analoghe a medici e a insegnanti sperando di secondare la conservazione e lo sviluppo di una classe media seria e dotta ne conosco bene i limiti ma a uno stato dura soltanto per opera sua Atene restava la mia sosta prediletta mi stupiva ogni volta che il suo incanto fosse così poco legato alle memorie mie personali o della storia quella città sembrava nuova ogni mattina durante quel periodo lessi molto avevo spinto Flegone a comporre sotto il titolo di Olimpiadi una serie di cronache destinate a continuare le elleniche di Senofonte e a terminare con il mio regno un piano audace in quanto faceva dell'immensa storia di Roma nient'altro che un seguito di quella greca Flegone scrive in uno stile sgradevole arido ma dar conto degli eventi stabilirli sarebbe stato già qualcosa questo progetto mi ispirò il desiderio di rileggere gli storici antichi la loro opera commentata dalla mia esperienza mi riempì di foschi pensieri l'energia la buona volontà di ogni uomo di governo sembravano poca cosa di fronte agli svolgimenti fortuiti e fatali al tempo stesso a quel torrente di eventi troppo confusi per poterli prevedere dirigere o giudicare mi occupai anche dei poeti amavo evocare le voci piene e pure di un lontano passato mi fu caro Teognide l'aristocratico l'esule l'osservatore scevro di illusioni e di indulgenza per le cose umane sempre pronto a denunciare gli errori e le colpe che chiamiamo i nostri mali quell'uomo tanto lucido aveva assaporato le gioie dolorose dell'amore e adonta di sospetti gelosie e rancori reciproci il suo legame con Cirno era durato fino alla vecchiezza dell'uno e all'età matura dell'altro l'immortalità che aveva promesso al giovinetto di Megara era più che una vana parola dato che il suo ricordo giungeva sino a me dopo più di sei secoli ma tra gli antichi poeti amai soprattutto antimaco ne apprezzavo lo stile denso e involuto le frasi ampie tuttavia concentrate al massimo grandi coppe di bronzo colme di un vino denso preferivo il suo racconto del periplo di Giasone alle argonautiche più movimentate di Apollonio antimaco aveva compreso meglio il mistero degli orizzonti e dei viaggi l'ombra che l'uomo così effimero proietta su paesaggi eterni aveva pianto appassionatamente sua moglie Lidia aveva dato il suo nome a un lungo poema nel quale figuravano tutte le leggende di lutto e di dolore e quella Lidia che forse da viva mi sarebbe passata inosservata diventava un'immagine familiare per me più cara di tante figure femminili della mia stessa esistenza quelle poesie tuttavia quasi obliate a poco a poco mi restituivano fiducia nell'immortalità rilessi le mie opere versi d'amore componimenti di circostanza lode in memoria di Plotina chissà che un giorno non possa venire a qualcuno la fantasia di leggerli esitai dinanzi a un gruppo di versi osceni ma finì per includerveli da noi le persone più serie ne scrivono per diletto avrei preferito che i miei fossero diversi l'immagine esatta d'una verità nuda ma in questo argomento come in tutto il resto siamo avventi nei lacci dei luoghi comuni cominciavo a rendermi conto che non basta l'audace di spirito per infrangerli che il poeta non trionfa della maniera e non impone il proprio pensiero alle parole se non grazie a sforzi intensi e assidui quanto la mia opera d'imperatore da parte mia non potevo pretendere altro che un successo da dilettante sarà già molto se mi sopravviveranno due o tre versi da tutto quel guazzabuglio tuttavia in quell'epoca abbozzai un'opera un po' ambiziosa metà in versi metà in prosa nella quale avrei voluto mettere cose serie e ironiche al tempo stesso i fatti singolari osservati durante la mia vita le meditazioni i sogni il tutto tenuto insieme da un filo conduttore sottilissimo una specie di satiricon ma più aspro vi avrei esposto una filosofia che era ormai divenuta la mia l'idea era clitea del mutamento e del ritorno ma deposi quel progetto troppo impegnativo quell'anno ebbi con la sacerdotessa che un tempo mi aveva iniziato a Eleusi il suo nome deve restare segreto parecchi colloqui nel corso dei quali furono stabilite minutamente le modalità del culto di Antino gli augusti simboli di Eleusi continuavano a distillare una virtù salutare per me può darsi che il mondo non abbia alcun senso ma se ne ha uno a Eleusi esso si esprime in forma più saggia e più nobile che altrove sotto l'influenza di quella donna iniziai le ripartizioni amministrative di Antinopoli i rioni le strade i blocchi urbani un sistema del mondo divino insieme a un'immagine trasfigurata della mia vita tutto vi entrava Estia e Bacco gli dèi del focolare e quelli dell'orgia le divinità celesti e quelle d'oltre tomba vi posi i miei avi imperiali traiano nerva divenuti parte integrante di quel sistema di simboli anche plotina vera compresa la buona matidia mi si vedeva assimilata a Demetra e mia moglie con la quale in quel periodo avevo rapporti abbastanza cordiali figurava anch'essa in quel corteo di persone divine qualche mese più tardi diedi il nome di mia sorella Paolina a uno dei quartieri di Antinopoli con lei moglie di Serviano avevo rotto ogni rapporto ma dopo morta Paolina ritrovava in quella città della memoria il suo posto unico di sorella quel luogo il luogo diventava la sede ideale delle riunioni e dei ricordi i campi elisi d'una vita il luogo dove le nostre contraddizioni si risolvono dove tutto al suo posto è ugualmente sacro rivedevo nel pensiero il palmo di quella mano levigato dalla morte quale l'avevo contemplato l'ultima volta il mattino dell'imbalsamazione le linee che un tempo mi avevano preoccupato non c'erano più era avvenuto di essa come delle piccole tavole di cera da cui si cancella un ordine eseguito ma queste alte affermazioni ci illuminano senza riscaldarci come il chiarore delle stelle e la notte attorno è ancora più buia se in qualche luogo il sacrificio di Antino era stato pesato in mio favore su una bilancia divina i risultati di quell'atroce dono di sé non si manifestavano ancora quei benefici non erano quelli della vita e neppure quelli dell'immortalità osavo appena tentare di darvi un nome a volte in rari intervalli un tenue barlume palpitava gettava una pallida luce sull'orizzonte del mio cielo ma non abbelliva né il mondo né me stesso continuava a sentirmi più deteriorato che salvato in quell'epoca quadrato vescovo dei cristiani mi inviò un'apologia della sua fede mi ero prefisso di seguire per questa setta la stessa linea di condotta rigidamente equa che Traiano sarà imposta nei suoi giorni migliori avevo recentemente rammentato ai governatori delle province che la protezione delle leggi si estende a tutti i cittadini e che i diffamatori di cristiani sarebbero stati puniti qualora li accusassero senza prove ma ogni tolleranza accordata ai fanatici li induce immediatamente a credere a una simpatia per la loro causa stento a credere che quadrato sperasse di convertirmi al cristianesimo comunque volle provarmi l'eccellenza della sua dottrina e soprattutto quanto essa fosse innocua per lo stato lessi la sua opera ed ebbi perfino la curiosità di far raccogliere da Flegone qualche informazione sulla vita del giovane profeta chiamato Gesù il quale fondò quella setta e morì vittima dell'intolleranza ebraica circa cento anni fa pare che quel giovane sapiente abbia lasciato precetti che arieggiano quelli di Orfeo al quale i discepoli talvolta lo paragonano attraverso la prosa singolarmente piatta di quadrato non mancai tuttavia di gustare il fascino commovente di quelle virtù da gente semplice la loro dolcezza la loro ingenuità il loro affetto reciproco sembravano le confraternite di schiavi o di poveri che si fondano qua e là in onore dei nostri dei nei quartieri popolosi delle città in un mondo che malgrado tutti i nostri sforzi seguita essere spietato e indifferente alle pene e alle speranze degli uomini queste piccole società di mutua assistenza offrono un appoggio e un conforto a molti sventurati ma non ero insensibile ad alcuni pericoli quella esaltazione di virtù da fanciulli o da schiavi avveniva a discapito di qualità più virili e più ferme dietro quell'innocenza insipida e ristretta indovinavo l'intransigenza feroce del settario verso forme di vita e di pensiero che non sono le sue l'orgoglio insolente che gli fa preferire se stesso al resto degli uomini la sua visuale deliberatamente limitata da paraocchi mi stancai ben presto degli argomenti capziosi di quadrato di quelle briciole di filosofia scopiazzata dalle opere dei nostri saggi cabria sempre ansioso del giusto culto da offrire agli dèi si preoccupava del progresso delle sette di questo genere tra la plebe delle grandi città si sgomentava per le nostre vecchie religioni che non impongono all'uomo il gioco di alcun dogma si prestano a interpretazioni tanto varie quanto la natura stessa e lasciano che i cuori austeri si foggino se lo vogliono una morale più alta senza costringere le masse a precetti troppo rigidi per evitare che ne scaturiscano subito costrizioni e ipocrisia Ariano condivideva queste opinioni trascorsi una sera intera a discutere con lui l'ingiunzione di amare il prossimo come se stessi essa è troppo contraria alla natura umana per essere sinceramente seguita dalle persone volgari le quali non ameranno mai altri che loro stesse e non si addice al saggio il quale non ama particolarmente neppure se stesso era era pur sempre bella Atene e non mi ramaricavo d'aver imposto discipline greche alla mia esistenza tutto quel che c'è in noi di armonico cristallino e umano ci viene dalla Grecia ma mi veniva fatto a volte di dire a me stesso che era stato necessario il rigore un po' austero di Roma il suo senso della continuità il suo gusto del concreto per trasformare ciò che in Grecia restava solo mirabile intuizione dello spirito nobile slancio dell'anima Platone aveva scritto la repubblica ed esaltato l'idea del giusto ma eravamo noi che ammaestrati dai nostri stessi errori ci adoperavamo faticosamente per far dello stato una macchina atta a servire gli uomini e che rischiasse il meno possibile di opprimerli il termine filantropia è greco ma eravamo noi il legislatore Salvio Giuliano e io a tentare di modificare lo stato miserabile degli schiavi l'assiduità la serietà l'impegno nei particolari che tempera l'audacia dei vasti piani erano virtù che avevo appreso a Roma e nel fondo dell'animo mi accadeva di ritrovare anche i vasti paesaggi malinconici di Virgilio i suoi crepuscoli velati di lacrime inoltrandomi ancora più a fondo trovavo la tristezza ardente della Spagna la sua violenza arida pensavo alle gocce di sangue celta iberico forse anche punico che avevano dovuto infiltrarsi nelle vene dei coloni romani del municipio d'Italica mi tornava alla mente che mio padre era stato soprannominato l'africano la Grecia mi aveva aiutato ad apprezzare tutti questi elementi cheppure non erano greci lo stesso avveniva per Antinou avevo fatto di lui l'immagine stessa di quel paese appassionato del bello forse ne sarebbe stato l'ultimo dio e tuttavia la Persia raffinata e la traccia selvaggia si erano mescolate in bitinia ai pastori dell'Arcadia Antica quel profilo delicatamente arcuato ricordava quello dei paggi di Osroe il suo viso largo dagli zigomi sporgenti era quello dei cavalieri traci che galoppano sulle sponde del bosforo e la sera erompono in canti rauchi e tristi non vera alcuna formula così completa da poter contenere tutto quell'anno portai a termine la revisione della costituzione ateniese iniziata molto tempo prima per quanto possibile mi rifacevo alle antiche leggi democratiche di Clistene la riduzione del numero di funzionari alleviava le spese dello Stato ostacolai l'appalto delle imposte un sistema disastroso disgraziatamente ancora adottato qua e là dalle amministrazioni locali qualche fondazione universitaria stabilita nella stessa epoca aiutò Atene a tornare a essere un importante centro di studi i cultori del bello che erano affluiti in quella città prima di me si erano accontentati di ammirarne i monumenti senza darsi pensiero della penuria in aumento dei suoi abitanti io al contrario avevo fatto di tutto per moltiplicare le risorse di quella terra depressa uno dei progetti più ambiziosi del mio regno giunse a compimento poco tempo prima della mia partenza l'istituzione di ambascerie annuali incaricata di trattare ad Atene gli affari del mondo greco restituì a quella città limitata ma perfetta il suo rango di metropoli quel progetto aveva preso consistenza soltanto dopo negoziati irti di difficoltà con le città gelose della supremazia ateniese o animate da rancori secolari e ormai superati contro di lei a poco a poco la ragione e l'entusiasmo stesso prevalsero la prima di queste assemblee coincise con l'apertura dell'Olympiaion al culto pubblico più che mai quel tempio diveniva il simbolo di una Grecia rinnovata in quell'occasione nel teatro di Dionisio furono dati spettacoli di grande successo io sedetti in un seggio appena sovrastante gli altri accanto a quello dello Ierofante il sacerdote di Antino ormai aveva il suo tra i notabili e il clero avevo fatto ingrandire la scena del teatro bassorilievi nuovi la adornavano uno di essi rappresentava il mio giovane Bitinio nell'atto di ricevere dalle dè e le usine una specie di cittadinanza eterna nello stadio panatenaico trasformato per qualche ora in una selva fiabesca organizzai una caccia dove figurarono migliaia di besti feroci richiamando in vita così per la durata effimera di una festa la città agreste selvaggia di Polito servitore di Diana e di Teseo compagno d'Ercole pochi giorni più tardi partì da Atene da allora non vi ho fatto mai più ritorno l'amministrazione dell'Italia lasciata per secoli alla merce dei pretori non era stata mai definitivamente codificata l'editto perpetuo che la regola una volta per tutte data di quell'epoca della mia vita da molti anni ero in corrispondenza con Salvio Giuliano circa queste riforme il mio ritorno a Roma ne affrettò il compimento non si trattava di privare le città italiane delle loro libertà civili al contrario su questo punto come su tanti altri abbiamo tutto da guadagnare a non imporre con la forza una unità fittizia anzi mi fa persino meraviglia che municipi spesso più antichi di Roma siano così pronti a rinunciare ai loro costumi talvolta pieni di saggezza per assimilarsi in tutto alla capitale il mio fine era semplicemente di diminuire quella massa di contraddizioni e di abusi che finiscono per far della procedura una boscaglia dove gli onesti non osano avventurarsi e dove prosperano i furufanti questi lavori mi costrinsero a spostarmi di frequente entro i confini della penisola soggiornai più di una volta a Baia nell'antica villa di Cicerone che avevo comprata agli inizi del mio principato mi interessavo a quella provincia campana che mi ricordava la Grecia nella piccola città di Adria sulla spiaggia adriatica dove quasi quattro secoli prima i miei avi erano emigrati in Spagna fui insegnito delle più alte cariche municipali in riva a quel mare tempestoso di cui porto il nome ritrovai qualche urna di famiglia in un colombario in rovina ripensavo a quegli uomini di cui non sapevo quasi nulla ma dai quali discendevo e la cui razza si estingueva con me a Roma si adoperavano per ingrandire il mio colossale mausoleo di cui De Criano aveva abilmente rimaneggiato la pianta ci lavorano ancora oggi l'Egitto mi ispirò a quelle gallerie circolari quelle rampe che declinano verso sale sotterranee avevo concepito il piano d'un palazzo della morte che non avrebbe dovuto essere riservato solo a me o ai miei successori immediati ma nel quale sarebbero venuti a riposare gli imperatori futuri separati da noi da prospettive e di secoli principi ancora da venire hanno così già il loro posto segnato nella tomba mi occupai altresì di ornare il sepolcro elevato nel campo di Marte alla memoria di Antinò per il quale una nave piatta giunta da Alessandria aveva scaricato obelischi e sfingi c'era un nuovo progetto che mi tenne occupato a lungo e mi ci tiene tuttora l'Odeon una biblioteca modello munita di sale per lezioni e conferenze destinata a costituire un centro di cultura greca a Roma non vi prodigai tanti tesori quanti ne profusi nella nuova biblioteca di Efeso costruita tre o quattro anni prima né la colmai dell'eleganza accogliente di quella di Atene di questa mia fondazione vorrei fare l'emula se non l'eguale del museo d'Alessandria lo sviluppo di essa in futuro sarà compito tuo Marco nell'occuparmene penso spesso alla bella iscrizione che Plotina aveva fatto apporre sulla soglia della biblioteca restituita a sua cura in pieno foro traiano ospedale dell'anima la villa era ormai abbastanza a buon punto da potervi trasportare le mie collezioni i miei strumenti di musica le poche migliaia di libri acquistati un po' dovunque nel corso dei miei viaggi offri una serie di feste in cui ogni cosa era prevista con cura la lista delle vivande e il numero ristrettissimo dei miei ospiti organizzai qualche caccia in Umbria sulle sponde del Trasimeno o più vicino a Roma nei boschi di Alba il piacere aveva ripreso il suo ruolo nella mia vita il mio segretario Onesimo mi serviva da fornitore sapeva quando bisognava evitare certe affinità quando al contrario ricercarle ma questo amante frettoloso e distratto non era troppo amato a volte mi battevo in un essere più tenero più fine degli altri qualcuno che valeva la pena di ascoltar parlare forse anche di rivedere casi fortunati ma rari per colpa mia senza dubbio di solito mi bastava placare o ingannare la mia fame in altri momenti mi accadeva di provare una indifferenza da vegliardo per quei giochi la mia vita in apparenza era normale mi dedicavo con impegno sempre maggiore al mio mestiere di imperatore infondendo in quel compito forse un discernimento maggiore del fervore d'altri tempi avevo un poco perduto il gusto delle idee degli incontri nuovi e quell'agilità di spirito che un tempo mi consentiva di associarmi al pensiero altrui di profittarne anche giudicandolo la curiosità nella quale una volta ravvisavo la molla intima del mio pensiero uno dei fondamenti del mio metodo non si esercitava più che su particolari molto futili aprì lettere destinate ad amici che se ne offesero ma quell'occhiata ai loro amori e alle loro baruffe di famiglia mi divertì solo per un istante del resto mi si mescolava un'ombra di sospetto per qualche giorno fui in preda alla paura del veleno quel terrore atroce che un tempo avevo scorto nello sguardo di traiano malato e che un principe non osa confessare poiché sembra grottesco sino a che gli eventi non l'hanno giustificato sorprende un'ossessione del genere in un uomo immerso d'altro canto nella meditazione della morte ma in fin dei conti non pretendo di essere più coerente di chiunque altro di fronte a stupide inezie a bassezze banali mi coglievano furori segreti impazienze selvagge un disgusto dal quale non escludevo neppure me stesso in una delle sue satire giovenale osò insultare il mimo paride che mi piaceva ne avevo abbastanza di quel poeta ampolloso e corrucciato non mi piaceva il suo grossolano disprezzo per l'Oriente e la Grecia le sue affettate simpatie per la cosiddetta austerità dei nostri padri e quel miscuglio di descrizioni particolareggiate del vizio e declamazioni inneggianti alla virtù che stuzzica ai sensi del lettore e ne rassicura l'ipocrisia nella sua qualità di letterato aveva diritto però a certi riguardi e lo feci chiamare a Tivoli per comunicargli di persona il decreto d'esilio questo spregiatore del lusso e dei piaceri di Roma ormai potrà studiare sul posto i costumi della provincia i suoi insulti a paride avevano segnato il termine della sua commedia nella stessa epoca Favorino si insediò nel suo comodo esilio di Chio dove abiterei volentieri anch'io ma donde non poteva raggiungermi la sua voce pungente presso poco nello stesso lasso di tempo feci cacciare ignominiosamente da una sala del banchetto un mercante di saggezza un sordido cinico che si lamentava di morire di fame come se quella genia meritasse di meglio mi divertì un mondo quando vidi quel chiacchierone piegato in due dalla paura svignarsela tra l'avvaiare dei cani e gli scherni canzonatori dei paggi la canaglia dei filosofi e dei letterati non mi imponeva più alcuna soggezione ogni minima delusione della vita politica mi esasperava precisamente come alla villa il più leggero dislivello d'un pavimento la più piccola sbavatura di cera sul marmo d'una tavola il minimo difetto d'un oggetto che si vorrebbe immune da imperfezioni esente da impurità avevo un segretario personaggio mediocre in verità che tenevo al mio servizio perché conosceva a fondo il protocollo della cancelleria ma che mi irritava per la sua sufficienza arcigna testarda il suo sdegno per le innovazioni la mania di cavillare senza fine su minuzie superflue un giorno quell'imbecille mi irritò più del solito levai la mano per colpirlo disgraziatamente brandivo uno stilo che gli acce collo occhio destro non dimenticherò mai quel suo urlo di dolore quel braccio goffamente alzato per parare il colpo quel viso stravolto dal quale colava copioso il sangue feci chiamare immediatamente Ermogene che gli prestò le prime cure poi fu consultato l'oculista Capito ma in vano l'occhio era perduto pochi giorni dopo quell'uomo riprese il suo lavoro una benda gli traversava il volto lo invitai alla mia presenza gli chiesi umilmente di fissare lui stesso il compenso che gli era dovuto mi rispose con un sorriso malvagio che mi chiedeva una cosa sola un altro occhio destro finì tuttavia per accettare una pensione lo tengo tuttora in servizio la sua presenza mi serve di ammonimento forse di castigo non avevo desiderato accecare quel disgraziato ma non avevo desiderato neppure che un fanciullo che mamava morisse a vent'anni gli affari ebraici andavano di male in peggio a gerusalemme giungevano a compimento i lavori malgrado violente opposizioni dei gruppi zeloti furono commessi alcuni errori rimediabili in se stessi ma di cui ben presto seppero profittare i mestatori la decima legione di spedizione ha per emblema un cinghiale l'insegna fu affissa alle porte della città come d'uso e la plebaglia poco avvezza ai simulacri dipinti o scolpiti di cui da secoli la tiempriva una superstizione poco propizia ai progressi delle arti prese quell'immagine per quella di un porco e ravvisò in questo fatto insignificante un insulto ai costumi di israele le feste del nuovo anno ebraico celebrate con grande frastuono di trombe e di corna di montone davano luogo ogni anno a risse sanguinose le nostre autorità vietarono la lettura pubblica ad un racconto leggendario consacrato alle gesta ad una eroina ebrea la quale sotto falso nome sarebbe divenuta la concubina ad un re di Persia e avrebbe fatto massacrare ferocemente i nemici del popolo disprezzato e perseguitato d'onde proveniva i rabbini riuscirono a leggere di notte quello che il governatore Tineo Rufo proibiva loro di leggere di giorno quella storia feroce nella quale persiani ed ebrei rivaleggiavano in atrocità e citava sino alla follia il furore nazionale degli zeloti infine sempre Tineo Rufo uomo di grande prudenza del resto e non alieno da interesse per le favole e le tradizioni di Israele decise di combinare anche per la circoncisione pratica ebraica le severe penalità della legge che di recente avevo promulgato contro l'evirazione penalità volte soprattutto a reprimere le sevizie perpetrate contro giovani schiavi per lucro o corruzione sperava di obliterare così uno di quei segni con i quali Israele pretende distinguersi dal resto del genere umano quando fui avvertito di tale misura non mi resi conto del pericolo che essa comportava dato che molti tra gli ebrei ricchi e illuminati che si incontrano ad Alessandria o a Roma hanno cessato di sottomettere i figli a una pratica che li rende ridicoli nei bagni pubblici o nei ginnasi e fanno del loro meglio per dissimulare le tracce su se stessi ignoravo sino a qual punto quei banchieri collezionisti di vasi mirrini differiscano dall'autentica Israele l'ho detto non c'era nulla di irreparabile ma l'odio il disprezzo il rancore reciproco lo erano in teoria quella giudaica ha un posto tra le altre religioni dell'impero ma in realtà da secoli Israele si rifiuta di essere un popolo tra gli altri da avere un dio tra gli dei i daci più selvaggi non ignorano che il loro zalmosis si chiama iupiter a roma il baal punico del monte cassio si è identificato facilmente col padre che tiene la vittoria in mano e da cui è nata la saggezza gli egizi pur tanto vani dei loro dei dieci volte secolari consentono di identificare in osiris un bacco dotato di attributi funerei la sprumitra sa di essere fratello di Apollo non v'è un altro popolo all'infuori di Israele così arrogante da pretendere di contenere la verità intera nei limiti angusti di una sola concezione divina insultando così la molteplicità del dio che tutto contiene non v'è altro dio che abbia ispirato ai suoi fedeli disprezzo e odio per coloro che pregano ad aree diverse tanto più tenevo a far di Gerusalemme una città come le altre dove potessero coesistere in pace più culti e più razzi dimenticavo che in ogni conflitto tra il fanatismo e il buonsenso è raro che quest'ultimo prevalga l'apertura di scuole dove si insegnava il greco scandalizzò il clero della vecchia città il rabbino Giusuè un uomo colto e simpatico con il quale ad Atene avevo avuto parecchie conversazioni ma che faceva di tutto per farsi perdonare dai concittadini la sua cultura straniera e i rapporti con noi ordinò ai discepoli da stenersi da quegli studi profani salvo a trovare per dedicarvela un'ora che non appartenesse né al giorno né alla notte dato che la legge ebraica deve essere studiata giorno e notte Ismaele un membro importante del Sinedrio che si riteneva un convertito alla causa di Roma lasciò morire il nipote Ben Dama piuttosto che accettare i servigi del chirurgo greco che Tine Orufo gli aveva inviato mentre a Tivoli si cercavano ancora i mezzi per conciliare gli animi senza aver l'aria di cedere alle pretese dei fanatici in Oriente gli eventi precipitarono a Gerusalemme riuscì un colpo di mano degli zeloti un avventuriero uscito dalla feccia della plebe chiamato Simone che si faceva chiamare anche Bar Kochba o figlio della stella in quella rivolta ebbe la funzione della fiaccola ricoperta di bitume dello specchio eustorio non posso giudicare quel Simone se non per sentito dire ma alla sua faccia l'ho vista una volta sola il giorno in cui un centurione mi portò la sua testa mozza ma son disposto a riconoscergli quella parte di genio che ci vuol sempre per salire tanto presto in alto nelle cose umane non ci si impone così se non si possiede almeno qualche abilità anche rozza i giudei moderati sono stati i primi ad accusare quel preteso figlio della stella di simonia e di impostura credo piuttosto che quello spirito incolto fosse di quelli che credono alle proprie menzogne e che in lui il fanatismo andasse di pari passo con l'astuzia Simone si fece passare per l'eroe sul quale il popolo ebreo conta da secoli per le sue ambizioni e i suoi odi quel demagogo si proclamò messia e re di israele l'antico akiba al quale girava un po' la testa tenne la briglia al cavallo di quell'avventuriero per le strade di gerusalemme il gran sacerdote eleazar riconsacrò il tempio che dicevano contaminato da quando visitatori non circoncisi ne avevano varcato la soglia depositi d'armi sotterrati da una ventina d'anni furono distribuiti ai ribelli dagli agenti del figlio della stella lo stesso avvenne dei pezzi difettosi intenzionalmente fabbricati da anni nei nostri arsenali da operai ebrei e che la nostra intendenza respingeva gruppi di zeloti attaccarono le guarnigioni romane isolate e massacrarono i nostri soldati con raffinatezze crudeli che richiamavano alla memoria gli episodi peggiori della rivolta ebraica sotto Traiano infine Gerusalemme cadde interamente nelle mani degli insorti e i quartieri nuovi di Elia Capitolina presero fuoco come una torcia i primi distaccamenti della ventiduesima legione deiotariana inviata d'urgenza dall'Egitto agli ordini del legato di Siria Publio Marcello furono messi in rotta da bande dieci volte superiori per numero la rivolta era ormai guerra e guerra implacabile due legioni la dodicesima fulminatrice e la sesta la legione di ferro immediatamente accorsero di rincalzo agli effettivi di stanza in Giudea pochi mesi dopo Giulio Severo che un tempo aveva pacificato le regioni montuose della Britannia del nord assunse il comando delle operazioni militari conduceva con sé alcuni esigui contingenti di ausiliari britannici avvezzi a combattere su terreni difficili le nostre truppe dall'equipaggiamento pesante i nostri ufficiali avvezzi alla formazione quadrata o alla falange delle battaglie predisposte stentarono parecchio ad adattarsi a quella guerriglia fatta di scaramucce e di sorprese e che in aperta campagna serbava una tecnica da sommossa Simone uomo notevole a modo suo aveva suddiviso i suoi partigiani in centinaia di squadre in osservazione sulle creste dei monti o imboscate al fondo delle caverne e delle cave abbandonate o anche nascoste presso gli abitanti dei soborghi formicolanti delle città severo non tardò a comprendere che questo nemico inafferrabile si poteva sterminare ma non vincere si rassegnò a una guerra d'usura i contadini resi fanatici o terrorizzati da Simone fin dagli inizi fecero causa comune con gli zeloti ogni roccia divenne un bastione ogni vigneto una trincea ogni fattoria si dove prendere con la fame o conquistare d'assalto Gerusalemme non fu ripresa che al principio del terzo anno quando si constatò l'inutilità delle estreme negoziazioni quelle zone della città giudaica che l'incendio di Tito aveva risparmiato furono ridotte in cenere severo si era imposto di chiudere un occhio per lungo tempo sulla complicità flagrante delle altre grandi città ma divenute le fortezze estreme del nemico esse furono attaccate più tardi e riconquistate a loro volta strada per strada rovina per rovina in quei tempi di prove il mio posto era al campo in Giudea accordavo la fiducia più completa ai miei due luogotenenti e appunto perciò era opportuno che mi trovassi sul posto anch'io per condividere la responsabilità delle decisioni da prendere che che si facesse si annunciavano atroci allo scadere della seconda estate di guerra feci amaramente i miei preparativi euforione invallò ancora una volta gli oggetti necessari un po' allogorati dall'uso che mi aveva fatto una volta un artigiano di smirne la cassa di libri e di carte la statuetta d'avorio del genio imperiale la sua lampada d'argento si era ai primi giorni dell'autunno quando sbarcai a Sidone la vita militare è la mia vocazione non vi ho mai fatto ritorno senza essere ripagato dei sacrifici da certi compensi interiori non rimpiango ad aver passato i due ultimi anni attivi della mia esistenza a dividere con le legioni la sprezza la desolazione della campagna di Palestina ero ridiventato l'uomo vestito di cuoio e di ferro che trascura tutto ciò che non è l'immediato sorretto dalle consuetudini semplici di una vita dura un po' più lento di prima a montare a cavallo o a scenderne un po' più taciturno forse più cupo circondato come sempre gli dèi soli ne sanno il perché dalla devozione idolatra e fraterna al tempo stesso delle truppe durante quest'ultimo soggiorno alle armi fece un incontro inestimabile assunsi come aiutante di campo un giovane tribuno chiamato Celere al quale mi affezionai molto avevo trovato ancora una volta in circostanze lievemente diverse dalle precedenti uno di quegli esseri il cui destino è la dedizione amare servire da quando lo conosco Celere non ho avuto un solo pensiero che non sia stato per il mio benessere o la mia sicurezza mi appoggio ancora a questa solida spalla al terzo anno di guerra in primavera l'esercito strinse d'assedio la cittadella di Betar nido d'aquile dove Simone e i suoi seguaci resistettero per circa un anno alle lente torture della fame della sete e dello sconforto e dove il figlio della stella vide perire i suoi fedeli uno a uno senza arrendersi il nostro esercito soffriva quasi quanto i ribelli ritirandosi questi avevano bruciato i frutteti devastato i campi sgozzato il bestiame inquinato i pozzi gettandovi i nostri morti quei metodi feroci erano orrendi più ancora perché applicati a una terra naturalmente povera e già logorata sino all'osso da lunghi secoli di follie e di furori l'estate fu calda e malsana la febbre e la dissenteria decimarono le nostre truppe continuava a regnare una disciplina mirabile tra quelle legioni costrette all'innazione e alla vigilanza nello stesso tempo l'esercito sottoposto a molestie e a malattie era sostenuto da una specie di furore silenzioso che mi si comunicava il mio corpo non sopportava più come prima le fatiche di una campagna i giorni torridi le notti gelide o soffocanti il vento aspro la polvere che stride tra i denti mi accadeva di lasciare nella gamella il lardo e le lenticchie bollite del rancio e restare digiuno a estate inoltrata fui tormentato da una tosse maligna e non ero il solo nella mia corrispondenza col senato abolì la formula d'obbligo che figura in cima ai comunicati ufficiali l'imperatore e l'esercito stanno bene al contrario l'imperatore e l'esercito erano pericolosamente stremati d'altro canto non vera di che preoccuparsi e ancor meno disperarsi per noi gli errori le incomprensioni erano solo nei nostri rapporti con Israele altrove raccoglievamo ovunque il frutto di sedici anni di generosità in oriente Simone aveva creduto di poter puntare su di una rivolta del mondo arabo simile a quella che aveva contrassegnato gli ultimi foschi anni del regno di Traiano più ancora aveva osato far assegnamento sull'aiuto dei parti si era ingannato e questo suo errore di calcolo era la causa della sua lenta fine nella cittadella accerchiata di Betar le tribù arabe si distaccavano dalla solidarietà con le comunità ebraiche i parti restavano fedeli ai trattati le sinagoge delle grandi città siriache si mostravano esse pure indecise o tiepide le più ardenti si contentavano di inviare segretamente denaro agli zeloti la popolazione ebraica di Alessandria pur così turbolenta restava calma l'ascesso giudaico rimaneva localizzato in quella regione arida che si estende tra il giordano e il mare quel dito ammalato si poteva cauterizzare o amputare senza pericolo e tuttavia in un certo senso pareva che ricominciassero i cattivi giorni che avevano immediatamente preceduto il mio regno un giorno quieto aveva incendiato Cirene giustiziato i notabili di l'Odicea si era impossessato di edessa in rovina il corriere serale mi informava che eravamo appena tornati a occupare quel cumulo di pietre di lute che io chiamavo Elia Capitolina e che gli ebrei chiamavano ancora Gerusalemme avevamo incendiato Ascalon si era dovuto procedere a esecuzione in massa dei ribelli di Gaza se sedici anni del regno di un principe pacifista fervente davano come risultato la campagna di Palestina erano ben poche le probabilità di pace del mondo per il futuro mi sollevavo sul gomito mi sentivo a disagio nel mio lettuccio da campo certo era qualche ebreo esente dal contagio Zelota persino a Gerusalemme verrano farisei che sputavano il passaggio di Akiba e trattavano da vecchio pazzo quel fanatico che gettava al vento i vantaggi concreti della pace romana e gli gridavano che gli sarebbe cresciuta l'erba nella bocca prima che si potesse vedere sulla terra la vittoria di Israele ma preferiva ancora i falsi profeti a quegli uomini d'ordine che ci disprezzavano pur contando su di noi per proteggere dalle esazioni di Simone l'oro che avevano investito presso banchieri siriaci o le loro tenute in Galilea pensavo ai disertori che poche ore prima si erano seduti sotto la mia tenda umili dimessi servili ma sempre disposti in modo da voltare la schiena alla immagine del mio genio il nostro miglior agente Elia ben Avaiad il quale faceva l'informatore e la spia a favore di Roma era giustamente disprezzato da entrambi i contendenti era tuttavia l'uomo più intelligente del gruppo uno spirito liberale un cuore offeso dilaniato tra l'amore per il suo popolo e la passione per la nostra letteratura e per noi lui pure in fondo non pensava che a Israele Josue ben Chisma che predicava la pacificazione non era che una chiba più pavido o più ipocrita persino presso il rabbino Josue che per tanto tempo era stato mio consigliere nelle faccende ebraiche avevo sentito sotto la versatilità e il desiderio di piacere le differenze insormontabili il punto dove due pensieri di specie diversa non si incontrano se non per combattersi i nostri territori si estendevano su centinaia di leghe migliaia di stadi al di là di quell'orizzonte arido di colline ma la roccia di Betar costituiva la nostra frontiera potevamo ben radere al suolo le mura massicce di quella cittadella dove Simone commetteva con frenesia il suicidio ma non potevamo impedire a quella razza di dirci di no natura deficit fortuna mutatur deus omnia cernit la natura ci tradisce la fortuna muta un dio dall'alto guarda ogni cosa giocherellavo con un anello che avevo al dito sul castone del quale avevo fatto incidere queste poche tristi parole mi spingevo più oltre nella delusione forse nella bestemmia finivo per trovare naturale se non giusto dover perire le nostre lettere si esauriscono le nostre arti cadono in letargo pancrate non è Omero Ariano non è Senofonte quando ho cercato di immortalare nella pietra la forma di Antino non ho trovato Prassitele dopo Aristotile e Archimede le scienze segnano il passo i nostri progressi tecnici non resisterebbero all'usura di una lunga guerra persino i gaudenti da noi si tediano della felicità l'incivilimento dei costumi il progresso delle idee durante l'ultimo secolo è opera ad una minoranza esigua di spiriti illuminati la massa resta ignara feroce quando può sempre egoista e gretta e si può scommettere fondatamente che tale resterà sempre troppi procuratori o pubblicani avidi troppi senatori diffidenti troppi centurioni brutali hanno compromesso in anticipo l'opera nostra e agli imperi non è concesso più tempo che agli uomini per imparare a spese dei propri errori là dove un tessitore rattopperebbe la sua tela dove un calcolatore abile correggerebbe i suoi errori dove l'artista ritoccherebbe il suo capolavoro ancora imperfetto o appena danneggiato la natura preferisce ricominciare dall'argilla dal caos e questo sperpero è ciò che si chiama l'ordine delle cose sollevai il capo mi mossi per togliermi di dosso il torpore ma gli ori indefiniti arrossavano il cielo sopra la cittadella di Simone manifestazioni inesplicate della vita notturna del nemico soffiava il vento dall'Egitto una tromba di polvere passava simile a uno spettro i profili piatti delle colline mi ricordavano la catena arabica sotto la luna rientrai lentamente coprendomi la bocca con un lembo del mantello irritato contro me stesso per aver dedicato a sterili meditazioni sull'avvenire una notte che avrei potuto impiegare a predisporre i piani per l'indomani o a dormire il crollo di Roma se doveva avvenire avrebbe interessato i miei successori in quell'anno 887 dell'era romana il mio compito consisteva nel reprimere la rivolta in Giudea nel far tornare dall'Oriente senza troppe perdite un esercito deluso nel traversare lo spiazzo sdrucciolavo a volte nel sangue di un ribelle giustiziato la sera innanzi mi coricai tutto vestito sul mio letto due ore dopo le trombe dell'alba mi destarono da un pezzo mi ero abituato all'insonnia ma ormai il sonno era peggio che non la sua mancanza appena addormentato avevo tremendi risvegli andavo soggetto a male di testa che ermogene attribuiva al clima torrido e al peso dell'elmo a sera dopo lunghe fatiche crollavo a sedere di peso e alzarmi per ricevere rufo o severo era uno sforzo che mi costava molto i gomiti pesavano sui braccioli della mia poltrona le gambe mi tremavano come quelle di un corridore stremato il minimo gesto mi costava uno sforzo immenso e di questi sforzi si componeva ormai la mia esistenza un incidente quasi banale un'indisposizione pressoché infantile svelò la malattia che si celava sotto quello sfinimento tremendo durante una riunione dello stato maggiore ebbi un'emorragia dal naso sulle prime non detti peso alla cosa durante il pasto della sera persisteva ancora e la notte mi destai tutto intreso di sangue chiamai celere il quale dormiva sotto la tenda vicina ed egli a sua volta dette l'allarme ermogene ma l'orribile colata tiepida continuò le mani premurose del giovane ufficiale asciugavano quel liquido che mi imbrattava il viso all'alba fui colto da sussulti come ne hanno a Roma quei condannati a morte che si aprono le vene nel bagno riscaldarono alla meglio con coperte e impacchi bollenti questo mio corpo che si raggelava per arrestare il flusso del sangue ermogene aveva prescritto la neve ma non ce n'era al campo e celere tra difficoltà innumerevoli ne fece trasportare dalla vetta dell'ermone più tardi seppi che si era disperato di salvarmi e io stesso non mi sentivo più legato alla vita se non da un filo sottilissimo impercettibile come quel mio polso troppo rapido che costernava il medico ebbe termine tuttavia quell'emorragia inesplicabile mi alzai dal letto mi forzai a vivere come al solito ma senza riuscirvi una sera in cui ancora non del tutto ristabilito tentai incautamente una passeggiata a cavallo ebbi un secondo avvertimento più serio del primo sentii per la durata di un secondo affrettarsi il battito del mio cuore poi rallentare interrompersi cessare e mi parve precipitare come un sasso in una voragine buia senza dubbio la morte se lo era ci si inganna ad escriverla silente ero travolto da una cascata assordito come un tuffatore dal rombo delle acque non toccai il fondo riemersi alla superficie ma soffocavo in quell'istante che credetti l'ultimo tutta la mia forza si era concentrata nella mano che s'aggrappava al braccio di Celere ritto al mio fianco più tardi mi mostrò la traccia delle mie dita sulla sua spalla ma quella breve agonia come tutte le esperienze del corpo è inesprimibile e volere o no resta un segreto dell'uomo che l'ha vissuta in seguito ho attraversato crisi analoghe mai identiche e senza dubbio non si riesce ad attraversare due volte quel terrore e quel buio senza morirne ermogene finì per diagnosticare un inizio di idropisia al cuore bisogno accettare le restrizioni che mi imponeva il male improvvisamente diventato il mio padrone consentire a un lungo periodo di inazione limitare per qualche tempo le prospettive della mia vita entro lo spazio di un letto avevo quasi vergogna di quella malattia tutta interiore quasi invisibile senza febbre senza ascessi senza dolori viscerali e che non ha altri sintomi se non il respiro un po' più ansimante e la traccia livida che la stringa del sandalo lascia sul piede gonfiato un silenzio straordinario si stabilì tutto intorno alla mia tenda pareva che il campo di Betar fosse diventato tutto la camera d'un malato l'olio aromatico che ardeva ai piedi del mio genio rendeva ancora più affosa l'atmosfera sotto quella gabbia di tela il pulsare di fucina delle mie arterie mi faceva vagamente pensare all'isola dei titani a limitare della notte in altri momenti quel rombo intollerabile diventava quello di un galoppo che calpesta la terra molle lo spirito tenuto per quasi cinquant'anni accuratamente imbrigliato mi sfuggiva il grande corpo navigava alla deriva consentivo a essere l'uomo stanco che conta distrattamente le stelle e le losanghe della coperta guardavo nell'ombra la macchia bianca d'un busto dal fondo d'un abisso di quasi mezzo secolo risaliva una cantilena in onore di Epona la dea dei cavalli che un tempo canticchiava con voce sommessa la mia notrice spagnola una donna alta e cupa che somigliava a una delle parche le mie giornate e le notti sembravano misurate dalle gocce brune che ermogene contava una a una in una tazza di vetro a sera chiamavo a raccolta le mie forze per ascoltare il rapporto di Rufo la guerra volgeva al termine Akiba che sin dall'inizio delle ostilità in apparenza si era ritirato dagli affari pubblici si dedicava all'insegnamento del diritto rabbinico nella piccola città di Usfa in Galilea quell'aula di lezioni era divenuta il centro della resistenza zelota quelle sue mani di nonagenario cifravano e trasmettevano messaggi segreti ai partigiani di Simone fu necessario usare la forza per rimandare alle loro case gli scolari fanatizzati che circondavano quel vegliardo dopo lunghe esitazioni Rufo si decise a far interdire perché sedizioso lo studio della legge ebraica pochi giorni dopo Akiba che aveva contravenuto a quel decreto fu arrestato e giustiziato altri nove dottori della legge l'anima del partito zelota perirono con lui aveva approvato tutte quelle misure con un cenno del capo Akiba e i suoi fedeli morirono persuasi fino all'ultimo d'essere i soli innocenti i soli giusti non ve ne fu uno che abbia avuto l'idea ad accettare la sua parte di responsabilità nelle sciagure che opprimevano il suo popolo li invidierei se si potessero invidiare i ciechi non nego il titolo di eroe a quei dieci forsennati ma in ogni caso non erano saggi tre mesi dopo un freddo mattino di febbraio mentre ero seduto in cima a una collina appoggiato al tronco di un fico spoglio delle foglie assistetti all'assalto che precedette di poche ore la resa di Betar vidi uscire uno a uno gli ultimi difensori della fortezza smonti laceri orrendi e tuttavia magnifici come tutto ciò che è indomabile alla fine dello stesso mese mi feci trasportare nel luogo detto Pozzo di Abramo dove i ribelli sorpresi con le armi in mano nei loro agglomerati urbani furono radunati e venduti all'incanto fanciulli ghignanti già feroci quasi deformati da convinzioni implacabili si vantavano a voce altissima ad aver provocato la morte di dozzine di legionari un'iscrizione posta sul luogo dove sorgeva Gerusalemme proibì agli ebrei pena la morte di tornare ad abitare in quel cumulo di macerie essa riproduceva parola per parola la frase che un tempo era scritta sulla porta del tempio e che interdiceva l'ingresso ai non circoncisi un giorno all'anno il nove del mese di Ab agli ebrei si accordava il diritto di piangere innanzi a un muro in rovina i più devoti rifiutarono di abbandonare la terra a Natia e si stabilirono alla meglio nelle regioni meno devastate dalla guerra i più fanatici si trasferirono nel territorio dei parti altri emigrarono ad Antiochia ad Alessandria a Pergamo i più scaltri si recarono a Roma dove prosperarono la Giudea fu cancellata dalla carta e per mio ordine assunse il nome di Palestina durante quei quattro anni di guerra erano state saccheggiate distrutte cinquanta fortezze e più di novecento città e villaggi il nemico aveva perduto quasi seicentomila uomini i combattimenti le febbri endemiche le epidemie ce ne avevano rapiti quasi novantamila immediatamente dopo la guerra il paese fu riordinato fu ricostruita Elia Capitolina sebbene su scala ridotta c'è sempre da ricominciare stavo meglio ma per giocare d'astuzia con il mio corpo imporgli i miei voleri e cedere prudentemente ai suoi mi ci voleva tanta abilità quanta ce n'era voluta in altri tempi per ampliare e regolare il mio universo costruire la mia vita abbellirla infine verso la fine della primavera mi imbarcai per l'Italia su una grossa nave della flotta e portai con me Celere divenutomi indispensabile e Diotimo di Gadara giovane greco di nascita servile che avevo incontrato a Sidone e che era bello al crepuscolo disteso a poppa sotto una tenda di porpora lo ascoltavo leggermi qualche poeta del suo paese sino a che la notte non cancellava del pari i versi che descrivono la tragica incertezza della vita umana e quelli che parlano di colombe di certi di rose di bocche baciate un alito umido esalava dal mare le stelle salivano una a una al loro posto assegnato la nave inclinata dal vento filava verso l'occidente dove si sfilacciava ancora un'ultima stria purpurea dietro di noi si allungava un solco fosforescente ben presto ricoperto dalle masse nere delle onde mi dicevo che a Roma mi attendevano due soli affari importanti uno era la scelta del mio successore che interessava tutto l'impero l'altro era la mia morte e concerneva me solo Roma Roma mi aveva preparato un trionfo e questa volta l'accettai non lottavo più contro questi costumi al tempo stesso venerabili e vani mi appariva salutare di fronte a un mondo così pronto all'oblio tutto ciò che mette in rilievo lo sforzo dell'uomo sia pure per la durata ad un giorno non si trattava soltanto della repressione della rivolta giudaica era in un senso assai più profondo noto a me solo che avevo trionfato non si trattava associai a quegli onori il nome di Ariano aveva inflitto alle orde alane una serie di disfatte che le ricacciava per molto tempo in quel centro oscuro dell'Asia dal quale avevano creduto evadere l'Armenia era salva il lettore di Senofonte se ne rivelava l'Emulo non era estinta la razza di quei letterati che in caso di necessità sanno comandare e combattere quella sera rientrando nella mia casa di Tivoli ero stanco nell'animo ma calmo quando presi dalle mani di Dio Timo il vino e l'incenso del sacrificio giornaliero al mio genio da semplice privato avevo cominciato a comprare e mettere insieme pezzo per pezzo i terreni che si estendono ai piedi dei Monti Sabini a limitare delle sorgenti con l'ostinazione paziente ed un contadino che amplia le sue vigne tra un giro di ispezione imperiale e l'altro avevo posto le tende sotto quei boschetti invasi da muratori e architetti dove un giovinetto imbevuto di tutte le superstizioni asiatiche chiedeva piamente che gli alberi fossero risparmiati di ritorno dal mio grande viaggio d'Oriente mi ero messo con una specie di sacra frenesia a completare lo scenario immenso di quell'opera già quasi terminata questa volta vi feci ritorno per terminare i miei giorni il più dignitosamente possibile tutto era predisposto per regolare il lavoro così come il piacere la cancelleria le sale per le udienze il tribunale dove avrei giudicato in ultimo appello le cause difficili ma avrebbero risparmiato faticosi andirivieni tra Tivoli e Roma avevo dotato ciascuno di quegli edifici di nomi evocanti la Grecia il Pecile l'Accademia il Pritaneo sapevo bene che quella valle angusta disseminata d'olivi non era il tempo ma ero giunto in quell'età in cui non v'è una bella località che non ce ne ricordi un'altra più bella e ogni piacere s'arricchisce del ricordo di piaceri trascorsi consentivo ad abbandonarmi a quella nostalgia che è la malinconia del desiderio a un angolo particolarmente ombroso del parco avevo persino dato il nome di Stige a un tratto costellato da nemoni quello di Campi Elisi preparandomi così a quell'altro mondo i cui tormenti somigliano tanto a quelli del nostro ma le cui gioie nebulose non valgono le nostre ma soprattutto nel cuore di quel ritiro mi ero fatto costruire un asilo ancor più celato un isolotto di marmo al centro di un laghetto contornato di colonne una stanza segreta che un ponte girevole così lieve che si può con una mano sola farlo scivolare nella sua corsia unisce alla riva o piuttosto segrega da essa in quel padiglione feci trasportare due o tre statue a me care e quel piccolo busto d'augusto fanciullo che Svetonio mi aveva dato ai tempi della nostra amicizia all'ora della siesta mi recavo là per dormire per pensare per leggere sdraiato sulla soglia il mio cane allungava innanzi a sele zampe rigide un riflesso di luce si riverberava sul marmo di otimo per rinfrescarsi posava la gota al fianco levigato di una vasca io pensavo al mio successore non ho figli e non lo rimpiango certo nelle ore di stanchezza e di debolezza quando ci si rinnega a volte mi sono rimproverato di non essermi dato il fastidio di generare un figlio che mi avrebbe continuato ma questo rimpianto tanto vano poggia su due ipotesi egualmente incerte che un figlio necessariamente ci continui e che questo singolare miscuglio di bene e di male questa somma di particolarità infime e bizzarre che costituiscono un individuo meriti davvero d'essere prolungata le mie virtù le ho utilizzate come ho potuto dei miei vizi ne ho fatto buon uso ma non ci tengo in modo speciale a lasciarmi in retaggio a qualcuno del resto l'autentica continuità umana non si stabilisce attraverso il sangue è Cesare l'erede diretto d'Alessandro e non già quel bimbo gracile nato da una principessa persiana in una cittadella asiatica ed Epaminonda morendo senza prole aveva ben ragione di vantarsi d'avere per figlie le sue vittorie la maggior parte degli uomini che contano nella storia ha avuto una progenie mediocre o ancor peggio si direbbe che essi esauriscano in sé tutte le risorse d'una razza l'affetto paterno poi è quasi sempre in conflitto con gli interessi di un capo di stato e anche se ciò non fosse il figlio dell'imperatore per di più deve sottostare ai pregiudizi di una educazione principesca la peggiore fra tutte per un futuro imperatore fortunatamente quel poco che il nostro stato ha saputo darsi come norma per la successione imperiale è l'adozione e anche in questo io ravviso la saggezza di Roma conosco bene i pericoli di una scelta gli incerti che essa comporta e non ignoro che l'accecamento non è esclusivo dell'affetto paterno ma questa scelta a cui l'intelligenza presiede o quantomeno partecipa mi apparirà sempre infinitamente preferibile agli oscuri incontri del caso o dell'ottusa natura l'impero al più degno è bello che chi ha dato prova delle sue capacità nel maneggio degli affari di stato scelga è il successore e che tale scelta così gravida di conseguenze sia a un tempo il suo estremo privilegio e l'estremo servigio che gli rende allo stato ma proprio questa scelta così importante mi sembrava più ardua che mai avevo biasimato aspramente traiano per aver tergiversato vent'anni prima di prendere la risoluzione da adottarmi e per averlo fatto solo sul letto di morte ma erano già trascorsi quasi diciotta anni dal mio avvento al trono e malgrado i rischi di un'esistenza avventurosa avevo rimandato a mia volta a più tardi la scelta di un successore mille chiacchiere erano corse in proposito false quasi tutte erano state tentate mille ipotesi ma quel che si credeva il mio segreto non era che il mio dubbio la mia esitazione mi guardavo intorno non difettavano i funzionari onesti ma nessuno aveva la statura necessaria quarant'anni intemerati postulavano a favore di Marcio Turbo il mio caro compagno d'altri tempi il mio incomparabile prefetto del pretorio ma aveva la mia stessa età era troppo vecchio Giulio Severo generale eccellente buon amministratore della Britannia si intendeva ben poco dei complessi affari d'oriente Ariano aveva fatto prova di tutte le qualità richieste a uno statista ma era greco e non è ancora il momento di imporre un imperatore greco ai pregiudizi di Roma Serviano viveva ancora quella longevità aveva l'aria ad un lungo calcolo da parte sua d'una forma ostinata d'attesa da sessant'anni attendeva dal tempo di nerva l'adozione di Traiano l'aveva incoraggiato e al tempo stesso deluso sperava di meglio ma all'avvento al potere di quel cugino senza tregua preso dalle armi sembrava assicurargli un posto considerevole nello stato forse il secondo anche in questo si sbagliava non aveva ottenuto che una parte insignificante d'onori attendeva dall'epoca in cui aveva incaricato i suoi schiavi di aggredirmi a una svolta in un bosco di pioppi lungo le rive della mosella il duello mortale iniziato quella mattina tra un giovane e un cinquantenne era continuato per vent'anni era stato lui a seminare il malanimo contro di me nel padrone aveva esagerato le mie sregolatezze aveva approfittato dei miei minimi errori un nemico simile è un maestro in signe di prudenza a conti fatti Serviano mi aveva insegnato molto dopo la mia accessione al trono era stato così scaltro da aver l'aria ad accettare l'inevitabile del complotto dei quattro consolari se ne era lavato le mani e io avevo preferito non accorgermi delle macchie su quelle dita ancora sporche da parte sua si era contentato di protestare solo a bassa voce di scandalizzarsi solo a porte chiuse sostenuto in senato dall'esigua e potente partito di conservatori inamovibili che disturbavano le mie riforme si era comodamente insediato in quel ruolo di critico silenzioso del regno poco a poco mi aveva alienato mia sorella paolina non aveva avuto che una figlia da lei sposata a un certo salinatore un giovane di buona famiglia che elevai alla dignità consolare ma che la tisi rapì presto mia nipote gli sopravvisse per poco e il loro unico figlio fusco mi fu aizzato contro dal lavo perverso ma l'odio che regnava tra noi conservava le forme non gli lesinavo la sua parte di incarichi pubblici pur evitando di apparire al suo fianco in quelle cerimonie nelle quali l'età avanzata gli avrebbe concesso la precedenza sull'imperatore ogni volta che facevo ritorno a Roma consentivo per convenienza ad assistere a uno di quei pranzi di famiglia nei quali si sta in guardia ci scambiavamo lettere anzi le sue non erano prive di un certo spirito tuttavia a lungo andare quell'insulsa epocrisia mi venne annoia uno dei pochi vantaggi che riconosco al fatto di invecchiare consiste nella possibilità di gettare la maschera in ogni cosa rifiutai di assistere alle esequie di Paolina al campo di Betar nei momenti peggiori di spossatezza di sconforto l'amarezza suprema era stata il ripetermi che ormai serviano giungeva alla meta e per colpa mia quello tuagenario così avaro delle sue forze sarebbe riuscito a sopravvivere a un malato di 57 anni se morivo ab intestato avrebbe saputo ottenere i suffragi dei malcontenti nonché l'approvazione di coloro che avrebbero creduto di restarmi fedeli eleggendo mio cognato avrebbe profittato di quella tenue parentela per minare la mia opera per calmarmi mi dicevo che l'impero potrebbe trovare padroni peggiori serviano in fin dei conti non era del tutto privo di virtù e chissà che anche il torpido fusco un giorno non sarebbe stato degno di regnare ma tutto quel che mi restava d'energia rispingeva quella menzogna mi auguravo di vivere per schiacciare quella vipera al mio ritorno a Roma avevo ritrovato Lucio un tempo avevo assunto verso di lui qualche impegno di quelli che generalmente non ci si preoccupa affatto di mantenere ma che io avevo rispettati del resto non è affatto vero che gli avessi promesso la porpora imperiale sono cose che non si promettono ma per una quindicina d'anni avevo pagato i suoi debiti soffocato i suoi scandali risposto senza indugio alle sue lettere che erano deliziose ma che finivano sempre con qualche richiesta di danaro per lui o di avanzamento per i suoi favoriti era legato troppo intimamente alla mia vita per potervelo escludere qualora l'avessi voluto ma non volevo niente di simile aveva una conversazione scintillante quel giovane che ritenevano frivolo aveva fatto letture più scelte più vaste dei letterati di mestiere era ad un gusto squisito in qualsiasi campo si trattasse d'essere umani oggetti usanze o della prosodia esatta ad un verso greco al senato lo giudicavano abile e si era fatto una reputazione di primordine come oratore i suoi discorsi stringati e ricchi a un tempo servivano così come gli li pronunziava di modello ai maestri d'eloquenza l'avevo fatto nominare pretore poi console aveva esercitato queste funzioni con decoro pochi anni prima gli avevo fatto sposare la figlia di Nigrino uno dei consolari giustiziati all'inizio del mio regno quell'unione divenne l'emblema della mia politica di pace la giovane donna non fu troppo felice si lamentava ad essere negletta eppure aveva avuto tre figli da lui di cui uno maschio alle sue lagnanze quasi continue egli rispondeva con cortesia glaciale che ci si sposa per la famiglia e non per sé e che un contratto così grave non contempla i giochi spensierati dell'amore il suo modo di vivere esigeva delle amanti per farne mostra e facili schiave per la volutà si estenuava nel piacere ma così come un artista si sfibra per realizzare un capolavoro non sta a me rimproverarlo lo guardavo vivere la mia opinione su di lui si modificava senza posa il che accade solo per gli esseri che ci toccano da vicino gli altri ci contentiamo di giudicarli alla grossa e una volta per tutte a volte mi turbavano in lui un'insolenza deliberata una durezza una frase scioccamente frivola in genere mi lasciavo trascinare da quello spirito gaio e leggero un'osservazione tagliente pareva far presentire ad un tratto il futuro statista ne parlai a marcio turbo il quale dopo la sua faticosa giornata di prefetto del trattorio veniva ogni sera a conversare con me degli avvenimenti del giorno e a disputare una partita ai dadi prendevamo in esame minuziosamente le probabilità che lucio aveva di adempiere con decoro ai doveri imperiali i miei amici si meravigliavano dei miei scrupoli c'era chi scrollando le spalle mi consigliava di fare a mio modo quei tipi lì si immaginano che si lascia qualcuno la metà del mondo come gli si lascerebbe una casa di campagna la notte ci ripensavo lucio aveva appena trent'anni che cos'era Cesare a trent'anni se non un figlio di famiglia oberato di debiti segnato a dito per gli scandali come durante i tristi giorni di Antiochia prima della mia adozione da parte di Traiano pensavo con una fitta al cuore che non c'è nulla tanto lento quanto la vera nascita di un uomo io stesso avevo passato i trent'anni all'epoca in cui la campagna di Pannonia mi aveva aperto gli occhi sulle responsabilità del potere a volte lucio mi sembrava più maturo di quel che non fossi io a quell'età mi risolsi bruscamente in seguito a una crisi da sfissia più grave delle altre che sopravvenne a rammentarmi che non avevo più tempo da perdere adottai lucio il quale prese il nome di Elio Cesare era ambizioso ma con non curanza era esigente senza essere avido da troppo tempo aveva l'abitudine di ottenere ogni cosa e accettò la mia decisione con disinvoltura commisi l'imprudenza di dire che quel principe biondo sarebbe stato radioso sotto la porpora e i malevoli si affrettarono a dichiarare che compensavo con un impero l'intimità volutuosa d'un tempo significa non comprendere come funziona lo spirito d'un capo per poco che meriti il titolo e il posto se considerazioni del genere avessero avuto il loro peso non sarebbe stato lucio il solo sul quale avrei potuto far cadere la scelta mia moglie era morta in quei giorni nella sua residenza al Palatino che la continuava a preferire a Tivoli dove abitava circondata da un'angusta corte di amici e parenti spagnoli i soli che contavano per lei a poco a poco erano cessati tra noi i riguardi le convenienze le fragili velleità d'intesa lasciando a nudo l'antipatia l'astio il rancore e da parte sua l'odio negli ultimi tempi le feci visita la malattia aveva inasprito ulteriormente il suo carattere acre e tetro quell'incontro le fornì l'occasione per recriminazioni violente che la sollevarono e alle quali ebbe l'indiscrezione di abbandonarsi davanti a testimoni disse che si rallegrava di morire senza figli i miei figli mi avrebbero rassomigliato senza dubbio ed ella avrebbe provato per loro la stessa avversione che provava per me questa frase nella quale fermenta tanto rancore è la sola prova d'amore che la m'abbia dato la mia sabina rievocavo i soli ricordi tollerabili che sempre sussistono ad un essere quando ci si prende la pena di cercarli rammentai una cesta di frutta che mi aveva inviata una volta il giorno del mio anniversario dopo una lite passando in lettiga nelle anguste viuzze del municipio di Tivoli davanti alla modesta casa da villeggiatura che un tempo apparteneva a mia suocera Matidia evocavo con amarezza le notti di un'estate lontana quando avevo in vano cercato di trovare il piacere in quella sposa frigida e dura la morte di mia moglie mi turbò assai meno di quella della buona Arete la direttrice della villa rapita l'inverno medesimo da un attacco di febbre dato che il male che uccise l'imperatrice mal diagnosticato dai medici le procurò verso la fine atroci dolori viscerali mi si accusò di beneficio e questa voce insensata trovò facilmente credito inutile dire che un delitto così superfluo non m'aveva tentato mai forse fu la morte di mia moglie che indusse serviano a tentare il tutto per tutto l'ascendente di cui ella godeva a Roma gli era saldamente favorevole crollava con lei uno dei suoi sostegni più rispettati per di più era entrato allora nel novantesimo anno d'età non aveva tempo da perdere neanche lui si sforzava da qualche mese di attirare presso di sé piccoli gruppi di ufficiali della guardia pretoriana a volte osò sfruttare quel rispetto superstizioso che ispira l'estrema vecchiezza per farsi trattare da imperatore tra quattro mura io di recente avevo rafforzato la polizia segreta militare un'istituzione ripugnante lo ammetto ma che gli eventi dimostrarono utile non ignoravo nulla di quei conciliaboli segreti nei quali il vecchio Ursus insegnava al nipote l'arte dei complotti l'adozione di Lucio non sorprese il vegliardo da tempo riteneva le mie esitazioni in proposito una decisione ben dissimulata ma approfittò per agire del momento in cui l'atto d'adozione a Roma era ancora una materia controversa il suo segretario crescente stanco di quarant'anni di fedeltà mal retribuita palesò il suo progetto la data del colpo il luogo il nome dei complici l'immaginazione dei miei nemici non si era data molta pena si contentavano di copiare semplicemente l'attentato meditato un tempo da quieto e nigrino avrei dovuto essere trucidato durante una cerimonia religiosa in Campidoglio e il mio figlio adottivo sarebbe caduto con me la notte stessa presi le mie precauzioni il nostro nemico aveva vissuto fin troppo avrei lasciato a lucio un'eredità a scevra di pericoli verso la dodicesima ora in un'alba grigia di febbraio si presentò in casa di mio cognato un tribuno che recava una sentenza di morte per Serviano e per suo nipote gli era stato comandato di attendere nel vestibolo che l'ordine che lo conduceva fin lì fosse compiuto Serviano fece chiamare il suo medico tutto si svolse semplicemente prima di morire ma augurò di spirare lentamente fra i tormenti di un male incurabile senza avere come lui il privilegio di una breve agonia il suo voto è già stato esaudito non avevo ordinato alla leggera quella duplice esecuzione in seguito non ne provai alcun rimpianto e ancor meno rimorsi si saldava così un vecchio conto ecco tutto la vecchiaia non mi è mai sembrata una scusante alla perfidia umana anzi sono più disposto a considerarla una circostanza aggravante la sentenza di Akiba e dei suoi accoliti mi aveva fatto esitare più a lungo vegliardo per vegliardo preferivo ancora il fanatico al cospiratore quanto a Fusco benché mediocre e totalmente alienatomi dal suo odioso avo era pur sempre il nipote di Paolina ma i legami del sangue sono molto deboli che che se ne dica quando non c'è un affetto a rinsaldarli lo si può constatare presso i privati durante le più banali questioni ereditarie mi impietosiva un poco di più l'età giovanile di Fusco aveva 18 anni appena ma l'interesse di stato esigeva quella soluzione che il vecchio Ursus si era quasi preso il gusto di rendere inevitabile e ormai ero troppo vicino alla mia morte per aver tempo di meditare su quella duplice fine per qualche giorno Marcio Turbo raddoppiò la vigilanza intorno a me gli amici di Serviano avrebbero potuto vendicarlo ma non avvenne nulla né attentati né sedizioni né mormorii non ero più il nuovo venuto che cercava di attirare dalla sua l'opinione pubblica dopo l'esecuzione di quattro consolari pesavano in mio favore diciotto anni di giustizia i miei nemici erano esecrati in blocco la folla mi approvò per essermi sbarazzato d'un traditore Fusco fu compianto senza del resto essere giudicato innocente il senato lo so bene non mi perdonava ad aver colpito ancora una volta uno dei suoi membri ma tacque e tacerà fino alla mia morte come era avvenuto l'altra volta una buona dose di clemenza mitigò presto quella dose di rigore nessuno dei sostenitori di serviano ebbe la minima molestia la sola eccezione a questa regola fu l'insegna pollo d'oro astioso depositario dei segreti di mio cognato il quale perì con lui quell'uomo di talento era stato l'architetto prediletto del mio predecessore aveva disposto con arte i grandi blocchi della colonna traiana non c'era molta simpatia tra di noi un tempo aveva deriso i miei maldestri tentativi da dilettante le mie coscienziose nature morte di zucche e cetrioli da parte mia avevo criticato le sue opere con la presunzione dei giovani più tardi egli aveva denigrato le mie non conosceva l'arte greca della grande epoca e mi rimproverava ad aver popolato i nostri templi di statue colossali che se si fossero alzate in piedi avrebbero spezzato con la fronte la volta dei santuari critica sciocca che colpisce Fidia ancor più di me ma gli dèi non si alzano in piedi non si alzano né per avvertirci né per proteggerci né per ricompensarci né per punirci non si levarono quella notte per salvare Apollo d'oro in primavera la salute di Lucio cominciò a ispirarmi timori abbastanza seri una mattina a Tivoli dopo il bagno scendemmo nella palestra dove Celere si esercitava in compagnia di altri giovani uno d'essi propose una di quelle gare nelle quali ogni partecipante corre armato d'uno scudo ed un'asta Lucio si schermì come era solito e alla fine cedette ai nostri amichevoli motteggi nell'armarsi si lamentò del peso dello scudo bronzeo a confronto con la schietta bellezza di Celere quel corpo esile sembrava fragile compiuti pochi passi di corsa si fermò trafelato e cadde di schianto in uno sbocco di sangue l'incidente non ebbe seguito Lucio si riprese facilmente ma io m'ero spaventato e avrei dovuto aspettare a rassicurarmi opposi ai primi sintomi della malattia di Lucio la fiducia ottusa ad un uomo che è stato robusto tanto tempo la sua fede implicita nelle riserve inesauribili della giovinezza nel buon funzionamento degli organismi è vero che si ingannava anche lui una fiamma leggera lo sosteneva la sua vivacità illudeva lui stesso quanto noi i miei anni più belli erano trascorsi in viaggio o negli accampamenti o agli avamposti avevo apprezzato le virtù d'una vita rude l'effetto salutare delle regioni secche o ghiacciate stabilì di nominare Lucio governatore di quella stessa pannonia dove avevo fatto le mie prime esperienze di capo su quella frontiera la situazione era meno critica da allora il compito di Lucio si sarebbe limitato ai tranquilli lavori dell'amministratore civile o a ispezioni militari scevere di pericolo quel paese aspro lo avrebbe disabituato dalla mollezza romana avrebbe imparato a conoscere meglio quel mondo immenso che l'urbe governa e dal quale dipende egli temeva quei climi barbari non comprendeva che si potesse godere la vita in altri luoghi che a Roma tuttavia accettò con la compiacenza che aveva quando voleva piacermi lessi attentamente tutta l'estate i suoi rapporti ufficiali e quelli più segreti di domizio rogato un mio uomo di fiducia che gli avevo messo al fianco in qualità di segretario con l'incarico di sorvegliarlo quei rapporti mi soddisfecero in pannonia lucio seppe dare prova di quella serietà che esigevo da lui e della quale forse si sarebbe liberato dopo la mia morte anzi ebbe una serie di scontri di cavalleria agli avamposti e ne uscì con onore in provincia come altrove riusciva a incantare tutti le sue maniere asciutte e un poco perentorie non lo danneggiavano almeno non sarebbe stato uno di quei principi bonari governati da una combriccola ma sin dagli inizi dell'autunno lo colse il freddo lo si credette presto guarito ma si ripresentò la tosse la febbre persistette e non lo lasciò più un miglioramento passeggero fu seguito da una ricaduta grave nella primavera successiva i bollettini dei medici mi costernarono la posta pubblica che avevo istituito di recente e comportava cambio di cavalli e di vetture su territori immensi pareva funzionare soltanto per recarmi ogni mattina più prontamente notizie del malato non mi perdonavo d'essere stato inumano con lui per timore d'essere o di sembrare fiacco non appena si fu ripreso abbastanza da poter affrontare il viaggio lo feci ricondurre in Italia i primi giorni parvero una vittoria sul male quel ritorno in Italia era già di per sé stesso un rimedio in quel tempo quel paese era di porpora e rosa ma cominciarono le piogge dal mare grigio soffiava un vento umido la vecchia casa costruita ai tempi della repubblica mancava delle comodità più moderne della villa di Tivoli guardavo Lucio riscaldarsi malinconicamente davanti al bracere le lunghe dita cariche di anelli Ermogene era appena tornato dall'Oriente dove l'avevo mandato per rinnovare e completare la sua provvista di medicamenti tentò sul Lucio gli effetti di un fango impregnato di sali minerali potenti si credeva che quelle applicazioni potessero guarire ogni male ma non giovarono né ai suoi polmoni né alle mie arterie la malattia metteva a nudo gli aspetti peggiori di quel carattere arido e leggero la moglie gli fece visita e come sempre l'incontro si concluse con parole amare ella non tornò più gli portarono il figlio un bel bambino di sette anni sdentato e ridente lo guardò con indifferenza si informava con avidità delle notizie di Roma vi si interessava da giocatore non da statistica ma la sua frivolezza restava una forma di coraggio si destava dopo lunghi pomeriggi di sofferenze e di torpore per impegnarsi in una di quelle conversazioni scintillanti d'altri tempi quel viso madido di sudore sapeva ancora sorridere quel corpo scarnito si levava con grazia per accogliere il medico sarebbe restato fino all'ultimo istante il principe d'avorio e d'oro la sera incapace di prendere sonno mi recavo nella camera del malato celere che non era tenero con lucio ma troppo fedele per non servire con sollecitudine quelli che mi son cari accettava di vegliarlo al mio fianco dalle coperte salivo un rantolo mi sentivo invadere da un'amarezza profonda come il mare non mi aveva amato mai i nostri rapporti erano diventati ben presto quelli del figlio prodigo e del padre indulgente la sua vita si era svolta scevra di progetti ambiziosi di pensieri gravi di passioni ardenti aveva dilapidato gli anni come un prodigo dispensa monete d'oro mi ero appoggiato a un muro crollante pensavo stizzito alle somme enormi dilapidate per la sua adozione ai 300 milioni di sesterzi distribuiti alle truppe in un certo senso ero perseguitato dalla mala sorte avevo appagato il mio antico desiderio di dare a lucio tutto quel che si può dare ma lo stato non ne avrebbe sofferto non avrei rischiato d'essere disonorato da quella scelta nel fondo dell'animo finivo col temere che migliorasse se per caso si fosse trascinato ancora qualche anno non potevo lasciare l'impero a quella larva senza mai farmi domande pareva che penetrasse il mio pensiero su questo punto i suoi occhi seguivano ansiosi ogni mio gesto anche insignificante l'avevo nominato console per la seconda volta si preoccupava di non poterne adempiere le funzioni l'angoscia di dispiacermi lo fece peggiorare tu Marcellus Eris mi ripetevo i versi di Virgilio consacrati al nipote di Augusto destinato all'impero anche lui e che la morte aveva fermato sul suo cammino Manibus date Lilia plenis Purpureus Spargan flores quell'innamorato dei fiori non avrebbe ricevuto da me che vane corone funebri credete di star meglio volle far ritorno a Roma i medici ormai non discutevano più tra loro se non del tempo che gli restava da vivere mi consigliarono di contentarlo a piccole tappe lo ricondussi alla villa la sua presentazione al senato in qualità di erede dell'impero doveva aver luogo durante la prima seduta dell'anno nuovo l'uso voleva che in quella occasione egli mi rivolgesse un discorso di ringraziamento quel brano d'eloquenza lo preoccupava da mesi ne limavamo insieme i passaggi più ardui vi lavorava una mattina delle calende di gennaio quando fu colto da un'emorragia improvvisa ebbe una vertigine si appoggiò allo schienale della sedia e chiuse gli occhi la morte non fu che uno stordimento per quell'essere leggero era il giorno di capodanno per non interrompere le celebrazioni pubbliche e le festività private proibì che si diffondesse subito la notizia della sua morte fu annunciata ufficialmente solo il giorno dopo fu sotterrato con semplicità nei giardini della sua famiglia alla vigilia di quella cerimonia il senato mi inviò una delegazione incaricata di porgermi le condoglianze e di offrire a Lucio gli onori divini ai quali aveva diritto in quanto figlio adottivo dell'imperatore rifiutai tutta quella faccenda era già costata troppo allo stato mi limitai a fargli costruire qualche cappella funeraria a fargli erigere qua e là qualche statua nei diversi luoghi dove era vissuto quel povero Lucio non era un dio questa volta ogni minuto diventava urgente ma avevo avuto tutto il tempo di riflettere al capezzale del malato avevo fatto i miei piani avevo notato in senato un certo Antonino un uomo sulla cinquantina di famiglia provinciale imparentata alla lontana con quella di Plotina ma aveva colpito per le cure tenere e deferenti di cui circondava il suocero un vegliardo ormai inetto che gli sedeva accanto rilessi il suo stato di servizio in tutti i posti che aveva occupato quell'uomo si era mostrato un funzionario irreprensibile la mia scelta si fissò su di lui più frequento Antonino più la stima che ho per lui tende a mutarsi in rispetto quest'uomo semplice possiede una virtù alla quale avevo pensato ben poco fino a oggi persino quando mi è accaduto di praticarla la bontà non va immune dai modesti difetti del saggio la sua intelligenza applicata all'adempimento meticoloso dei compiti quotidiani mira al presente più che all'avvenire la sua esperienza del mondo è limitata dalle sue stesse virtù i suoi viaggi si limitano a poche missioni ufficiali del resto adempiute molto bene si intende pochissimo d'arte è restio alle innovazioni le province per esempio per lui non rappresenteranno mai quelle possibilità immense di sviluppo che non hanno cessato di essere per me continuerà l'opera mia più che ampliarla ma la continuerà bene lo stato avrà in lui un servitore onesto e un buon padrone ma allo spazio di una generazione mi sembrava poca cosa quando si tratta della sicurezza del mondo tenevo se era possibile a estendere oltre nel tempo la prudente discendenza adottiva a preparare all'impero un ulteriore cambio della guardia lungo la strada del tempo a ogni mio ritorno a Roma non avevo mancato mai di andare a salutare i miei vecchi amici i veri spagnoli come me appartenenti a una delle famiglie più liberali dell'alta magistratura ti ho conosciuto in culla piccolo anno nell'epoca che segna l'erezione del panteon per affetto verso i tuoi t'avevo fatto eleggere membro del santo collegio dei fratelli arvali al quale presiede l'imperatore medesimo e che perpetua piamente i più antichi costumi religiosi di Roma durante il sacrificio che quell'anno ebbe luogo in riva al tevere ti ho tenuto per mano ho guardato con divertita tenerezza il tuo contegno di bimbetto di cinque anni spaventato dall'estrida del porcellino immolato ma pure pronto a far del suo meglio per imitare il contegno grave dei grandi mi interessai dell'educazione di quel fanciullo troppo serio aiutai tuo padre a sceglierti i maestri migliori vero il verissimo scherzavo con il tuo nome tu sei forse il solo essere che non mi abbia mentito mai t'ho visto leggere con passione gli scritti dei filosofi vestirti di lana rubida dormire sulla nuda terra costringere il tuo corpo gracile a tutte le mortificazioni degli stoici atteggiamenti che non mancano di eccesso ma a diciassette anni l'eccesso è una virtù a volte mi chiedo contro quale scoglio farà naufragio tutto ciò poiché si fa sempre naufragio sarà una sposa un figlio troppo amato uno di quei tranelli legittimi nei quali restano impigliati i cuori più timorati e puri o sarà più semplicemente l'età la malattia la stanchezza il disinganno che ci avverte che se tutto è vano lo è anche la virtù immagino al posto del tuo volto candido di adolescente il tuo viso stanco di vecchio sento quanta dolcezza quanta debolezza forse si cieli dietro la fermezza che hai imparato tanto bene indovino in te la presenza d'un genio che non è necessariamente quello dell'uomo di stato il mondo sarà migliorato indubbiamente per sempre per averlo visto associato una volta al potere supremo ho fatto il necessario affinché tu fossi adottato da Antonino con questo nome nuovo che porterai un giorno nella lista degli imperatori ormai tu sei mio nipote credo d'offrire agli uomini l'unica occasione che avranno mai di realizzare il sogno di Platone di veder regnare su di loro un filosofo dal cuore puro hai accettato gli onori con ripugnanza il tuo rango ti costringe a vivere a palazzo tivoli questo luogo dove io raduno sino all'ultimo tutte le dolcezze che la vita offre ti preoccupa per la tua giovane virtù ti vedo a girarti serio in volto sotto queste pergole fiorite di rose ti guardo con un sorriso attratto dalle belle creature di carne poste sul tuo passaggio esitare teneramente tra Veronica e Teodoro e rinunciare subito entrambi in favore dell'austerità mero fantasma non mi hai nascosto il tuo disdegno malinconico per questi effimeri splendori per questa corte che si disperderà alla mia morte tu non mi ami molto il tuo affetto filiale va piuttosto ad Antonino tu fiuti in me una saggezza opposta a quella che ti insegnano i tuoi maestri e nel mio abbandono ai sensi un metodo di vita in antitesi alla severità del tuo e che pur tuttavia gli è parallelo non importa non è necessario che tu mi comprenda vi è più d'una saggezza e sono tutte necessarie al mondo non è male che esse si alternino otto giorni dopo la morte di Lucio mi feci portare in senato in lettiga chiesi il permesso di entrare così nella sala delle deliberazioni e di pronunciare la mia allocuzione stando disteso sostenuto da un mucchio di guanciali parlare mi stanca pregai i senatori di stringersi in cerchio intorno a me per non essere costretto ad alzare la voce feci l'elogio di Lucio le mie poche frasi sostituirono nel programma della seduta il discorso che avrebbe dovuto pronunciare lui quello stesso giorno poi annunciai la mia nuova decisione nominai Antonino pronunciai il tuo nome avevo fatto assegnamento sull'adesione unanime lo tenni espressi un'ultima volontà che fu accettata come le altre chiesi che Antonino adottasse pure il figlio di Lucio che così avrà marca Aurelio per fratello governerete insieme conto su di te affinché tu abbia premure da fratello maggiore per lui ci tengo che lo Stato conservi qualche cosa di Lucio tornando a casa per la prima volta dopo lunghi giorni ebbi la tentazione di sorridere avevo giocato con abilità i seguaci di Serviano i conservatori ostili all'opera mia non avevano capitolato tutte le cortesie da me usate a quell'augusto e antico corpo senatoriale ormai sorpassato non compensavano per loro i due o tre colpi che gli avevo inferto senza dubbio essi profitteranno della mia morte per tentare da annullare i miei atti ma i miei nemici più feroci non oseranno respingere il più integro tra i loro rappresentanti e il figlio ed uno dei loro membri più rispettati la mia opera pubblica era compiuta ormai potevo far ritorno a Tivoli rientrare in quel ritiro che la malattia rappresenta compiere esperimenti con le mie sofferenze abbandonarmi ai piaceri che mi restavano riprendere in pace il mio dialogo interrotto con un fantasma il mio retaggio imperiale è al sicuro tra le mani del Pio Antonino e dell'austero Marco Aurelio e Lucio sopravviverà anche egli in suo figlio non avevo disposto male le cose la mia camera segreta al centro di uno stagno della villa non è un rifugio abbastanza segreto vi trascino questo corpo invecchiato vi soffro il mio passato certo mi propone qua e là qualche rifugio dove poter sfuggire almeno a una parte delle miserie presenti la pianura coperta di neve lungo le sponde del Danubio i giardini di Nicomedia Claudiopoli gialla durante il raccolto dello zafferano in fiore una qualsiasi strada di Atene un'osi ove le ninfee fluttuano sul limo il deserto siriaco alla luce delle stelle al ritorno dal campo di Osroe ma questi luoghi di letti troppo spesso sono associati alle premesse d'un errore d'un disinganno d'uno scacco noto a me solo nei miei momenti peggiori mi sembra che tutte le mie strade d'uomo felice conducano in Egitto in una camera di Baia o in Palestina c'è di più la stanchezza del mio corpo si comunica alla memoria l'immagine delle gradinate dell'acropoli è quasi insostenibile per un uomo che ansima se ascende gli scalini del giardino Ariano maffre di meglio a Tivoli mentre si accende un maggio ardente odo sulle spiagge dell'isola d'Achille il lungo lamento delle onde respiro quell'aria fredda e pura erro senza fatica nell'atrio del tempio intriso di Salsedine Marina vi scorgo Patroclo quel luogo che non vedrò mai diventa la mia residenza segreta il mio supremo asilo i vi sarò al momento della mia morte un giorno ho accordato al filosofo Eufrate il permesso di suicidarsi nulla mi sembrava più semplice un uomo ha il diritto di stabilire in quale momento la sua vita cessa ad essere utile non sapevo allora che la morte può divenire oggetto di un ardore cieco di una fame come quella dell'amore non avevo previsto le notti in cui avrei arrotolato il balteo intorno alla mia daga per costringermi a riflettere due volte prima di servirmene Ariano solo ha intuito il segreto di questo duello senza gloria contro il vuoto l'aridità la stanchezza e il disgusto d'esistere che sbocca nel desiderio di morire non si guarisce mai a più riprese l'antica febbre ma schiantato ne tremavo in anticipo come un malato che presente l'imminenza di un attacco tutto mi valeva ritardare l'ora della lotta notturna il lavoro le conversazioni dissennatamente protratte fino all'alba i baci i libri è convenuto che un imperatore si suicidi solo se è messo con le spalle al muro da ragioni di stato lo stesso Marcantonio aveva la scusa di una battaglia perduta il mio codice vietava ai soldati la dipartita volontaria che accordavo ai saggi e io non mi sentivo libero di disertare più di un legionario qualsiasi ma so bene cosa significhi sfiorare voluttuosamente con la mano la canapa di una corda o la lama di un coltello avevo finito col farmi del mio desiderio un baluardo contro esso stesso la possibilità inalienabile del suicidio mi aiutava a sopportare l'esistenza con minore fastidio così come la presenza a portata di mano di una pozione sedativa fa star calmo un uomo che soffre di insonnia per una contraddizione intima quest'ossessione della morte ha cessato di dominare il mio spirito soltanto quando sono sopraggiunti a distrarmene i primi sintomi del mio male ho ricominciato a interessarmi a quella vita che mi abbandonava nei giardini di Sidone ho desiderato appassionatamente di godere del mio corpo qualche anno ancora volevo morire non volevo soffocare la malattia disgusta della morte si vuol guarire che è una maniera di voler vivere ma la debolezza la sofferenza mille miserie corporali dissuadono ben presto il malato dal provarsi a risalire la china non si vuol saperne di tregue che sono tranelli di forze vacillanti di ardori incompleti di questa perpetua attesa della prossima crisi mi spiavo quel male sordo al mio petto era solo un malessere passeggero la conseguenza ad un pasto consumato troppo in fretta o bisognava aspettarsi dal nemico un attacco che questa volta non sarà respinto non entravo in senato senza dirmi che forse quella porta si chiudeva alle mie spalle per sempre come se novello cesare fosse stato atteso da cinquanta congiurati armati di pugnale durante le cene di tivoli esitavo a usare la scortesia ad un subitaneo congedo dai miei convitati avevo paura di morire nel bagno o tra giovani braccia funzioni che un giorno mi erano facili e persino gradevoli mi diventavano umilianti da quando saranno fatte malagevoli ci si stanca ad offrire ogni mattina il vaso d'argento all'esame del medico il male principale s'accompagna a una lunga serie di mali secondari il mio udito ha perduto la cotezza ad un tempo ancora ieri sono stato costretto a pregare Flegone di ripetere una frase intera ne ho provato vergogna più che per un delitto i mesi che seguirono l'adozione di Antonino furono orrendi il soggiorno a Baia il ritorno a Roma e le trattative avevano logorato le poche forze che mi restavano mi riprese l'ossessione della morte ma questa volta a provocarla erano cause visibili confessabili non avrebbe potuto sorriderne neppure il mio peggiore nemico nulla mi tratteneva più si sarebbe ben compreso che l'imperatore ritiratosi nella sua casa di campagna dopo aver sistemato gli affari del mondo prendesse le misure necessarie per facilitare la propria fine ma la sollecitudine dei miei amici equivale a una sorveglianza assidua ogni malato è un prigioniero non mi sento più la forza che mi ci vorrebbe per immergere la daga nel punto esatto segnato un giorno con inchiostro rosso all'altezza del cuore non farei che aggiungere al male presente un intrico ripugnante di bende di spugne sanguinolente di chirurghi che discutono ai piedi del letto per preparare il suicidio avrei dovuto adottare le precauzioni di un assassino che predispone il colpo sulle prime pensai al mio capocaccia mastore il magnifico brutto sarmata che da anni mi segue con una devozione da cane lupo e che a volte ha l'incarico di vegliare alla mia porta di notte profittai d'un momento di solitudine per chiamarlo e spiegargli quel che volevo da lui sulle prime non comprese poi pian piano capì e il terrore contrasse il suo ceffo mi crede immortale vede i medici entrare mattina e sera nella mia camera mi ode gemere per le punture senza che la sua fede ne sia scossa è stato per lui come se il padrone degli dèi per tentarlo scendesse dall'Olimpo per pretendere da lui il colpo di grazia mi strappò dalle mani la spada della quale m'ero impadronito e fuggì via urlando lo ritrovarono in fondo al parco a smaniare sotto le stelle nel suo dialetto barbaro calmarono come poterono quella belva atterrita nessuno mi disse di quell'incidente ma all'indomani mi accorsi che Celere aveva sostituito sul tavolo da lavoro accanto al mio letto un calamo di metallo con uno di vimini cercai un alleato migliore avevo la fiducia più completa in Giolla il giovane medico d'Alessandria che Ermogene si era scelto come sostituto durante la sua assenza l'estate scorsa conversavamo insieme mi piaceva abbozzare con lui qualche ipotesi sulla natura e l'origine delle cose amavo quello spirito ardito e sognante la fiamma cupa di quegli occhi cerchiati sapevo che nel palazzo d'Alessandria aveva ritrovato la formula dei veleni straordinariamente sottili scoperti un giorno dal chimico di Cleopatra l'esame dei candidati alla cattedra di medicina che ho istituita all'Odeon mi servì di scusa per allontanare Ermogene per poche ore offrendomi così l'occasione di un colloquio segreto con Giolla gli bastò un cenno per comprendermi mi compiangeva non poteva che darmi ragione ma il suo giuramento ipocratico gli interdiceva di somministrare a un malato una droga nociva sotto qualsiasi pretesto rifiutò irrigidendosi nel suo onore di medico insestetti divenni perentorio impiegai tutti i mezzi per tentare di impietosirlo o corromperlo sarà lui l'ultimo uomo che ho supplicato vinto mi promise infine di andare a prendere la dose del veleno l'attesi in vano fino a sera sul tardi nella notte seppi con orrore che l'avevano trovato morto nel laboratorio una fiala di vetro tra le mani quel cuore schivo da compromessi aveva trovato questo mezzo per restare fedele al suo giuramento senza rifiutarmi nulla l'indomani Antonino mi si fece annunciare quell'amico sincero tratteneva a stento le lacrime l'idea che un uomo che egli si era abituato ad amare e venerare come un padre soffrisse tanto da cercare la morte gli era insopportabile gli pareva ad aver mancato ai suoi obblighi di figlio mi prometteva di unire i suoi sforzi a quelli delle persone che mi stavano intorno per curarmi per portare sollievo ai miei mali rendermi la vita amabile e dolce sino all'ultimo forse anche guarirmi contava su di me perché continuassi a guidarlo e istruirlo il più a lungo possibile si sentiva responsabile verso tutto l'impero del resto dei miei giorni so quel che valgono queste povere dichiarazioni queste ingenue promesse vi trovo tuttavia un sollievo un conforto le semplici parole di Antonino mi hanno convinto prima di morire riprendo possesso di me stesso la morte di Giolla fedele al suo dovere di medico mi esorta a conformarmi sino all'ultimo alle convenienze del mio mestiere di imperatore pazienza ieri ho visto Domizio Rogato divenuto procuratore delle monete incaricato di presiedere a un nuovo conio gli ho dato questo motto la mia ultima parola d'ordine la morte mi sembrava la più personale delle mie decisioni il mio supremo rifugio d'uomo libero mi ingannavo la fede di milioni di mastori non deve essere scossa altri Giolla non saranno messi alla prova ho compreso che il suicidio apparirebbe una prova di indifferenza forse anche di ingratitudine alla piccola cerchia d'amici devoti che mi circondano non voglio lasciare al loro affetto questa immagine del suppliziato che digrigna i denti e non sa sopportare ancora una tortura altre considerazioni mi si sono presentate lentamente la notte che seguì la morte di Giolla l'esistenza mi ha dato molto o perlomeno io ho saputo ottenere molto da lei in questo momento come ai tempi in cui ero felice e per ragioni completamente opposte mi sembra che non abbia più niente da offrirmi ma non sono certo di non aver più nulla da imparare da lei ascolterò sino all'ultimo le sue istruzioni segrete per tutta la vita mi sono fidato della saggezza del mio corpo ho cercato di assaporare con criterio le sensazioni che questo amico mi procurava devo a me stesso d'apprezzarne anche le ultime non respingo più quest'agonia fatta per me questa fine lentamente elaborata dal fondo delle mie arterie forse ereditata da un antenato preparata poco a poco da ciascuno dei miei atti nel corso della mia vita l'ora dell'impazienza è passata al punto in cui sono la disperazione sarebbe di cattivo gusto tanto quanto la speranza ho rinunciato a precipitare la mia morte resta ancora tutto da fare voglio che i possedimenti africani ereditati da mia suocera Matidia diventino un modello d'agricoltura intensiva i contadini del villaggio di Boristene fondato in traccia alla memoria di un buon cavallo hanno diritto a soccorsi dopo un inverno assai duro bisogna invece rifiutare sussidi ai ricchi coltivatori della vallata del Nilo sempre pronti a profittare della sollecitudine dell'imperatore Giulio Vestino prefetto agli studi mi invia il suo rapporto sull'apertura di scuole pubbliche di grammatica ho appena compiuto il rifacimento del codice commerciale di Palmira dove tutto è previsto dalla tariffa delle prostitute al pedaggio delle carovane in questo momento si riunisce un congresso di medici e di magistrati incaricati di stabilire i limiti estremi di una gravidanza ponendo termine così a logomachie giudiziarie interminabili i casi di bigamia si moltiplicano nelle colonie militari faccio del mio meglio per persuadere i veterani a non fare cattivo uso delle nuove leggi che consentono loro il matrimonio e a non sposare che una donna per volta ad Atene si erige un pantheon a imitazione di quello di Roma compongo io stesso l'iscrizione che verrà collocata sulle sue mura perché servano da esempio e da impegni per l'avvenire vi enumero i servigi resi da me alle città greche e ai popoli barbari i servigi resi a Roma si intuiscono da sé continua la lotta contro la brutalità giudiziaria ho dovuto muovere aspre rampogne al governatore di Cilicia che aveva l'ardire di far perire tra i supplizi i ladri di bestiame della sua provincia come se la morte non bastasse da sola a punire un uomo e a sbarazzarsene lo Stato e i municipi abusavano delle condanne ai lavori forzati per procacciarsi mano d'opera a buon mercato ho vietato questa pratica per gli schiavi come per gli uomini liberi ma bisogna vigilare perché questo sistema esecrabile non riviva sotto altri nomi i sacrifici di bambini si compiono ancora in alcune zone del territorio dell'antica Cartagine bisogna saper vietare ai sacerdoti di Baal la gioia di attizzare i loro roghi in Asia Minore i diritti ereditari dei seleucidi sono stati ignobilmente lesi dai nostri tribunali civili sempre mal disposti verso le antiche dinastie ho sanato questa lunga ingiustizia in Grecia il processo di Erode Attico dura ancora la scatola dei dispacci di Flegone i suoi raschini di pietra pomice i suoi bastoni di cera rossa mi saranno accanto fino all'ultimo come ai miei tempi migliori mi credono Dio continuano a darmi questo attributo nello stesso momento in cui offrono al cielo i sacrifici affinché l'augusta salute si ristabilisca t'ho già detto per quali motivi questa credenza così benefica non mi appare insensata una vecchia cieca è arrivata qui a piedi dalla pannonia aveva intrapreso questo viaggio immenso per chiedermi di toccare con le dita le sue pupille spente ha recuperato la vista sotto le mie mani come il suo fervore si aspettava in anticipo la sua fede nell'imperatore Dio spiega questo miracolo altri prodigi si sono verificati ci sono malati che affermano di avermi visto nei loro sogni come i pellegrini di Epidauro vedono in sogno Esculapio pretendono ad essersi destati guariti o quantomeno sollevati non sorrido del contrasto tra i miei poteri taumaturgici e il mio male accetto con gravità questi nuovi privilegi quella vecchia cieca che dal fondo d'una provincia Barbara si incammina alla volta dell'imperatore è divenuta per me quel che era stato in altri tempi lo schiavo di Tarragona il simbolo delle popolazioni dell'impero che ho governate e servite la loro immensa fiducia mi compensa di vent'anni di fatiche che in fondo non mi sono dispiaciuti mi è toccata una sorte analoga a quella di certi giardinieri tutto quel che ho cercato di piantare nella immaginazione umana vi ha preso radice il culto di Antino sembrava la più folle delle mie iniziative lo straripare d'un dolore che non riguardava che me ma la nostra epoca è avida di dei preferisce i più ardenti i più terribili quelli che mescolano al vino della vita un miele amaro d'oltretomba a Delphi il giovanetto è divenuto l'Ermes guardiano della soglia padrone dei passaggi oscuri che conducono alle ombre Eleusi il luogo dove l'età e la sua qualità di straniero gli avevano impedito un giorno d'essere iniziato al mio fianco ne fa il bacco giovinetto dei misteri principe delle regioni confinanti tra i sensi e l'anima l'arcadia ancestrale lo associa a Pan e a Diana divinità dei boschi i contadini di Tivoli l'assimilano al dolce Aristeo re delle api un tempo quando pensavo alla mia fine come un pilota non curante di sé trema però per i passeggeri e il carico della nave mi dicevo amaramente che quel ricordo sarebbe affondato con me mi sembrava così che quel giovane essere imbalsamato con tanta cura nel fondo della mia memoria dovesse perire una seconda volta questo timore pur tanto giusto sei in parte placato ho compensato come ho potuto quella morte precoce per qualche secolo almeno sussisterà un'immagine un riflesso un eco fievole di lui non si può far molto di più in materia di mortalità la mia anima seppure ne posseggo una è fatta della stessa sostanza degli spettri questo corpo dalle mani gonfie dalle unghie livide questa triste carne già per metà in dissoluzione quest'otre di mali di ambizioni e di sogni non è molto più solido né più consistente d'un'ombra non mi distingo dai morti se non per la facoltà di soffocare qualche momento ancora in un certo senso la loro esistenza mi sembra più certa della mia Antino e Plotina sono reali almeno quanto me la meditazione sulla morte non insegna a morire non rende l'esodo più facile ma non è questo quel che io cerco piccola figura imbronciata e volontaria il tuo sacrificio non ha arricchito la mia vita ma la mia morte il suo approssimarsi ristabilisce tra noi due una sorta d'intima complicità i vivi che mi circondano i servi devoti importuni a volte non sapranno mai sino a qual punto il mondo non ci interessa più penso con disgusto ai tetri simboli delle tombe egizie l'arido scarabeo la rigida mummia la rana dei parti eterni a dar retta ai sacerdoti t'ho lasciato in quel luogo dove gli elementi di un essere si lacerano come un abito logoro che si strappa in quel sinistro crocevia tra ciò che esiste eternamente ciò che fu e ciò che sarà può darsi che in fin dei conti essi abbiano ragione che la morte sia fatta della stessa materia fluttuante in forme della vita ma tutte le teorie sull'immortalità mi ispirano diffidenza il sistema delle retribuzioni delle pene lascia freddo un giudice consapevole della difficoltà di un giudizio d'altra parte mi accade altresì di trovare troppo banale la soluzione opposta il puro nulla il vuoto ove risuona la risata di picuro osservo la mia fine questa serie di esperimenti compiuti su me stesso prosegue il lungo studio iniziato nella clinica di satiro fino a ora sono mutamenti esteriori quanto quelli che il tempo e le intemperie fanno subire a un monumento di cui non alterano né la materia né la plastica a volte attraverso le crepe mi sembra di scorgere e toccare le fondamenta indistruttibili il tufo eterno sono quel che ero muoio senza sa mutarmi a prima vista la dusto fanciullo dei giardini di spagna l'ufficiale ambizioso che rientra nella tenda scrollandosi dalle spalle i fiocchi di neve sembrano tanto cancellati quanto lo sarò io dopo che sarò passato attraverso il rovo ma essi sono qui io ne sono inseparabile l'uomo che ha urlato sul petto d'un morto continua a gemere in un angolo di me stesso a onta della calma più o meno che umana alla quale partecipo già il viaggiatore racchiuso nel corpo del malato ormai sedentario per sempre si interessa alla morte perché essa rappresenta una partenza quella forza che io fui sembra capace ancora di animare parecchie altre vite di sollevare dei mondi se per miracolo qualche secolo venisse aggiunto ai pochi giorni che mi restano rifarei le stesse cose persino gli stessi errori frequenterei gli stessi olimpi e i medesimi inferi una constatazione simile è un argomento eccellente in favore dell'utilità della morte ma nello stesso tempo mi ispira dubbi sulla totale efficacia di essa in certi periodi della mia vita ho preso nota dei sogni ne discutevo il significato con i sacerdoti i filosofi gli astrologhi la facoltà di sognare attenuata da anni ormai mi è stata ridata in questi mesi d'agonia gli incidenti dello stato di veglia ci appaiono meno reali a volte meno importanti dei sogni se questo mondo larvale e spettrale dove si miete l'informe e l'assurdo ancor più largamente che sulla terra ci offre un'idea delle condizioni dell'anima separata dal corpo senza dubbio trascorrerò l'eternità a rimpiangere il controllo squisito dei sensi e l'adattamento prospettico della ragione umana e tuttavia non è privo di dolcezza questo immergersi nelle regioni vaghe dei sogni ivi possiedo per un istante segreti che subito mi sfuggono mi disseto a sorgenti l'altro giorno mi trovavo nell'oasi di Ammone la sera della caccia alle belve ero felice tutto si è svolto come ai bei tempi della mia forza il leone ferito è caduto poi si è rialzato mi sono avventato per finirlo ma questa volta il mio cavallo impennatosi mi ha gettato a terra l'orribile massa sanguinante mi è precipitata addosso le sue zanne mi hanno lacerato il petto sono tornato in me nella mia camera di tivoli invocando aiuto ancor più di recente ho rivisto mio padre eppure ci penso ben poco giaceva nel suo letto di malato in una stanza della nostra casa di italica che ho lasciata subito dopo la sua morte aveva sul tavolo una fiala piena di una pozione sedativa e l'ho supplicato di darmela mi sono destato senza che avesse avuto il tempo di rispondermi mi fa meraviglia che la maggior parte degli uomini abbia tanta paura degli spettri mentre si acconsente così facilmente a parlare con i morti in sogno anche i presagi si moltiplicano ormai tutto sembra un'intimazione un segno ho lasciato cadere e infrangersi una preziosa pietra incastonata in un anello sulla quale un artigiano greco aveva inciso il mio profilo gli auguri scrollano gravemente il capo io rimpiango semplicemente quel capolavoro mi capita di parlare di me stesso al passato in senato discutendo avvenimenti posteriori alla morte di Lucio mi si è inceppata la lingua e varie volte mi sono trovato a parlare di quelle circostanze come se avessero avuto luogo dopo la mia morte pochi mesi fa il giorno del mio anniversario mentre mi portavano in lettiga su per le scale del Campidoglio mi sono trovato faccia a faccia con un uomo in gramaglie che piangeva ho visto il mio vecchio cabria cambiare colore in quell'epoca uscivo ancora continuavo a esercitare le mie funzioni di pontefice massimo di fratello arvale a celebrare io stesso quei riti antichi della religione romana che finisco per preferire alla maggior parte dei culti stranieri in piedi davanti all'altare ma prestavo ad accendere la fiamma offrivo agli dèi un sacrificio per Antonino improvvisamente il lembo della toga che mi copriva la fronte scivolò e mi ricadde sulla spalla lasciandomi a testa scoperta passavo così dal rango di sacrificatore a quello di vittima e a dirgli vero è proprio la mia volta la vita è atroce lo sappiamo ma proprio perché aspetto tanto poco dalla condizione umana i periodi di felicità i progressi parziali gli sforzi di ripresa e di continuità mi sembrano altrettanti prodigi che compensano quasi la massa immensa dei mali degli insuccessi dell'incuria e dell'errore sopraverranno le catastrofi e le rovine ma di tanto in tanto verrà anche l'ordine la pace si instaurerà di nuovo tra le guerre le parole umanità libertà giustizia ritroveranno qua e là il senso che noi abbiamo tentato di infondervi non tutti i nostri libri periranno si restaureranno le nostre stato infrante altre cupole altri frontoni sorgeranno dai nostri frontoni dalle nostre cupole vi saranno uomini che penseranno lavoreranno e sentiranno come noi oso contare su questi continuatori che seguiranno a intervalli irregolari lungo i secoli su questa immortalità intermittente se i barbari si impadroniranno mai dell'impero del mondo saranno costretti ad adottare molti dei nostri metodi e finiranno per rassomigliarci cabria si preoccupa di vedere un giorno il pastoforo di mitra o il vescovo di cristo prendere dimora a roma e rimpiazzarvi il pontefice massimo se per disgrazia questo giorno venisse il mio successore lungo i crinali vaticani avrà cessato d'essere il capo di una cerchia da affiliati o ad una banda di settari per divenire a sua volta una delle espressioni universali dell'autorità erediterà i nostri palazzi i nostri archivi differirà da noi meno di quel che si potrebbe credere accetto con calma le vicissitudini di roma eterna le medicine non mi soccorrono più aumenta l'infiagione delle mie gambe e sonnecchio seduto più che disteso uno dei vantaggi della morte sarà d'essere disteso ancora in un letto ormai tocca a me consolare Antonino gli ricordo che da tempo ormai la morte mi appare la soluzione più elegante dei miei problemi come sempre i miei voti finiscono per realizzarsi ma in modo più lento più indiretto di quel che potessi mai credere mi rallegro che il male mi abbia lasciato la lucidità sino all'ultimo di non aver dovuto subire la prova dell'estrema vecchiezza di non essere destinato a conoscere quell'indurimento quella rigidità quell'inerzia quell'atroce assenza di desideri se i miei calcoli sono giusti mia madre è morta pressa poco all'età alla quale io sono giunto la mia vita è già stata ad una metà più lunga di quella di mio padre morto a quarant'anni tutto è pronto l'aquila incaricata di recare agli dèi l'anima dell'imperatore è tenuta in riserva per la cerimonia funebre il mio mausoleo sulla sommità del quale vengono piantati in questo momento i cipressi destinati a formare contro il cielo una piramide nera sarà terminato pressa poco in tempo per deporvi le mie ceneri ancor tiepide ho pregato Antonino che in seguito vi faccia trasportare Sabina ho trascurato di farle decretare onori divini alla sua morte e in fin dei conti le son dovuti non è male riparare a questa negligenza e vorrei che i resti di Elio Cesare fossero collocati al mio fianco m'hanno portato a Baia con questo caldo di luglio il tragitto è stato penoso ma in riva al mare respiro meglio l'onda manda sulla riva il suo mormorio fruscio di seta e carezza godo ancora le lunghe sere rosate ma ormai non reggo più queste tavolette che per occupare le mie mani che si muovono mio malgrado ho mandato a chiamare Antonino un corriere lanciato a tutta corsa è partito per Roma rimbombano gli zoccoli di Boristene galoppa il cavaliere trace il piccolo gruppo degli intimi si stringe al mio capezzale cabria mi fa pena le lacrime mal si addicono alle rughe dei vecchi il bel volto di Celere è come sempre singolarmente calmo e intento a curarmi senza lasciar trapelare nulla che potrebbe contribuire all'ansia o alla stanchezza di un malato ma Diotimo si inghiozza la testa affondata nei guanciali ho assicurato il suo avvenire non ama l'Italia potrà realizzare il suo sogno di far ritorno a Gadara e aprirvi con un amico una scuola d'eloquenza con la mia morte non ha nulla da perdere e tuttavia l'esile spalla si agita convulsamente sotto le pieghe della tunica sento sotto le dita queste lacrime deliziose fino all'ultimo istante Adriano sarà stato amato d'amore umano piccola anima smarrita e suave compagna e ospite del corpo ora t'appresti a scendere in luoghi incolori ardui e spogli dove non avrai più gli svaghi consueti un istante ancora guardiamo insieme le rive familiari le cose che certamente non vedremo mai più cerchiamo d'entrare nella morte a occhi aperti buongiorno sono Giorgio Ficara parliamo e anzi concludiamo con alcune brevissime osservazioni sulle memorie di Adriano di Margherita Giursenar introducendo questo strano oggetto questa cosa diciamo tra virgolette questo non romanzo questo romanzo saggio che è Le Memorie di Adriano avevamo detto appunto che contiene una prescrizione conoscitiva che si scrive questa narrazione per in effetti con un'idea e con un'idea oristica insomma che lo accompagna fin dalle sue fondazioni questa questo oggetto che si chiama Memorie di Adriano della Giursenar è un gesto eminentemente riflessivo a mio parere proprio nell'accezione che diceva Adorno in quel saggio degli anni 30 più o meno che era sull'ingenuità epica cioè è innanzitutto qui nella Giursenar nel senso di una interrogazione sulla consistenza sulla possibilità di consistenza del personaggio nella narrazione novecentesca quindi queste Memorie di Adriano che sono un grande come dire crojuolo di osservazioni filosofiche storiche avventurose narrative fisiologiche eccetera eccetera e anche e innanzitutto forse una domanda sulla idea di personaggio chi sia il personaggio e cosa possa essere rappresentare il personaggio nella narrazione novecentesca Adriano chi è questo curioso personaggio di cui avete sentito parlare appunto che avete sentito nelle letture è questo molle ellenistico che si costruisce questa immensa e deliziosa villa di Tivoli è un personaggio invece crudele che a un certo punto doma quella rivolta a Gerusalemme e uccide cinquecentomila uomini è un personaggio sicuro di se stesso ma prudente che costruisce vicino a New Castle in Inghilterra il Vallo Adriano ecco è un personaggio che è tutte queste cose insieme e moltissime altre ancora che non posso dire adesso in questi pochissimi minuti ma è innanzitutto un personaggio informe come dice proprio la Jursenar cioè è un personaggio che non va diritto al suo scopo come una freccia cito non va diritto al suo scopo come una freccia come fanno tutti i personaggi della narrazione rappresentativa semplice come fa Oliver Twist come fa che so io Lorenzo Tramaglino ecco questi sono personaggi che vanno diritti al loro scopo come una freccia questo imperatore Adriano è un personaggio contraddittorio problematico di cui non sappiamo tutto di cui non sappiamo né sapremo tutto quella quell'idea del personaggio che diceva Benjamin nel in quel bellissimo saggio sulla narratività in Angelus Novus che è diciamo è colui al quale noi scaldiamo la nostra vita in fredolita perché noi sappiamo tutto di un personaggio che ci viene raccontato da un autore ecco in questo caso questo è un personaggio che nonostante lo stoicismo nonostante lo stoicismo dichiarato nonostante la sua filosofia non ha destino non è questa freccia che va da un punto all'altro ma è un personaggio che invece si scioglie direi nell'universo in modo non esemplare è un personaggio che non ha fine nel senso che non ha un fine e le ultime due righe del romanzo bellissime in effetti ce lo dimostrano piccola anima smarrita e soave compagno e ospite del corpo ora ti appresti a scendere in luoghi incolori ardu e spogli dove non avrai più gli svaghi consueti un istante ancora guardiamo insieme le rive familiari le cose che certamente non vedremo più cerchiamo di entrare nella morte occhi aperti ecco se pensiamo ai romanzi ai romanzi romanzi come dire stabiliti dalle regole della consecutività che quindi finiscono sappiamo di trovarci qui in una specie di diciamo così infinito incominciamento non romanzesco al divino Adriano Augusto figlio di Traiano vincitore dei parti nipote di Nerva pontefice massimo rivestito per la ventiduesima volta della potestà tribunicia tre volte console due volte trionfatore padre della patria e alla sua divina consorte Sabina Antonino loro figlio a Lucio Elio Cesare figlio del divino Adriano due volte console Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Margheriti Ursenar posfazione di Giorgio Ficara edizioni e in Audi traduzione di Lidia Storoni Mazzolani riduzione e regia di Adelchi Battista coordinamento di Fabiana Carobolante il terzo anello chiocciolarai.it